Ora si registrerà la conferenza. Quindi io passo la parola a Edoardo e prego tutti i prossimi legatori di stare nei tempi perché già siamo andati a scivolare l'anno. Buoni voti. Salve a tutti, sì, anch'io mi raccomando, cerchiamo di stare nei tempi perché ogni sera ho promesso a mia moglie che sarei stato bravo nel cercare di mantenermi tutti nei tempi canonici. No, le battute per me e come sindaco di Carmignano per tutta la nostra comunità è veramente un orgoglio avere questo incontro qui oggi con Rossano Ercolini, tutta la rete Zero Waste, tanti sindaci e amministratori che vedo che sono qui, che hanno una storia alle spalle e tante azioni che stanno intraprendendo per il futuro nella gestione dei rifiuti, nella gestione dell'economia circolare. Ma sono qui con noi presenti anche comitati, associazioni, cittadini. La nostra idea è quella dei comuni e della comunità, quindi l'idea per gestire cambiamenti, gestire politiche importanti. è fondamentale tenere assieme questo binomio delle istituzioni, dei rappresentanti istituzionali, ma anche avere assieme, non alle spalle, assieme tutte quelle realtà cittadine necessarie per implementare un cambiamento concreto. Come dico sempre io, l'idea di Zero Waste non si limita, mi avviso, soltanto alla gestione dei rifiuti. Indubbiamente questo è un tema cruciale e fondamentale, ma nell'idea dello Zero Waste c'è un'idea secondo me politico-culturale di transizione ecologica che è fondamentale per il futuro. C'è un dato che secondo me è essenziale, importante. Noi ogni anno abbreviamo sempre di più quello che è il debito ambientale, ogni anno arriviamo a distruggere, a consumare quelle risorse che il pianese in modo naturale non riesce a riprodurle. Questo ci dice una cosa che è essenziale, che è basale, che è fondamentale, cioè noi non possiamo incentrare una politica della gestione dei rifiuti, delle risorse, perché poi noi chiamiamo rifiuti, ma sono risorse incentrate a come, come ci viene detto, come chiusura del cerchio, quello dell'incenerimento, perché significa distruggere ancora più risorse in un contesto in cui la sfida non è quella di distruggere le risorse, ma è quella di ridare loro nuova vita e quella di cercare di risparmiare, di ridurre il consumo delle materie prime. E quindi in questo l'idea di ridurre il consumo, di centrare su delle politiche del riuso e poi ovviamente quella del riciclo delle materie consumate e laddove non è possibile, come dice Rossano, di cerire da parte del sistema quel rifiuto, quel prodotto, cercare di riprogettare. Quindi questo è un altro degli aspetti che è cruciale, che è essenziale nella politica zero waste, che è quella dell'innovazione, della ricerca, avere quindi centri di ricerca come esiste a Capannori, centri di ricerca, osservatori più di zero che lavorano costantemente anche in rapporto con il mondo della produzione, con il mondo dell'imprenditoria per trovare laddove possibile delle soluzioni alternative. Quindi l'idea zero waste, come dico sempre io, è un'idea che è alternativa alla linearità dell'economia, ma è complementare con la ciclicità della natura, con i cicli della natura. Concludo dicendo che tutto questo diventa essenziale e cercare di calarlo nelle realtà comunali. Comuni nel nostro contesto moderno sono dei piccoli laboratori nei quali istituzioni, cittadini e quelli che non sono i stakeholder, non portatori interessi, possiamo collaborare, lavorare assieme per trovare soluzioni innovative. Il tema dei rifiuti è un tema essenziale, che a mio avviso non può essere trattato sull'onda dell'emergenza, qualche anno fa si diceva che se non ci muoviamo a fare certi tipi di impianti rischiamo di trovarci rifiuti in strada. Oggi, almeno per noi, per l'alto Toscana Centro, il tema non è forse quello dei rifiuti in strada, ma è quello di una tari che sta aumentando in modo esponenziale. Credo che la responsabilità di tutta la comunità politica, in senso lato, sia quella non di agire sull'onda dell'emergenza, perché sappiamo che in Italia quando si agisce l'emergenza, tutto questo poi diventa una costante. In secondo luogo, sono pochi a trarne benefici e a discapito di molti, ma è necessario lavorare ad una soluzione di lungo periodo, che è quella che ci hanno anche indicato a livello europeo, quella del Green New Deal e quella dell'economia circolare. Questa è la sfida e l'approccio giusto è quello dei comuni e delle comunità che assieme lavorano mediante un sistema di buone pratiche per cercare di dare delle risposte a quella che è una delle domande essenziali e cruciali per il futuro amministrativo di tutti i nostri territori. Quindi io sono rimasto nei cinque minuti, mi ero prefisso e vi ringrazio tutti di nuovo e credo che nessuno meglio di Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, di Zero Waste Europe e diciamo una delle persone più titolate, più preparate su questa tematica, possa, come dire, aprire questo convegno e fare il punto della situazione e soprattutto aprire il dibattito su quelli che sono gli aspetti su cui dobbiamo e possiamo lavorare per il futuro, fermo restando che c'è comunque un punto di partenza che è il piano presentato da Zero Waste, il piano regionale per la gestione dei risposti. Quindi grazie a tutti, buon lavoro e passo la parola a Rossano Ercolini. Grazie. 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 Grazie a Doardo, grazie al comune, alla comunità di Carmignano che ci ospitano, che tra l'altro sappiamo essere molto impegnata non solo sul versante della gestione dei rifiuti, ma anche se tanti altri versanti. Abbiamo visto tantissimi papaveri, vuol dire che la piaga dei pesticidi, almeno in quest'area, in questa zona, magari non è completamente assente, ma insomma i papaveri ben in vista di questi tempi sono un indicatore biologico e l'attenzione a te. Io entro subito nel merito perché i tempi sono tirannici, quindi voglio andare all'osso del messaggio. Nel contesto i punti di riferimento sono la democrazia diretta, la democrazia delle comunità, alleata e alleate con i comuni. Quando le comunità si alleano e viceversa con i comuni, secondo me la nostra società moderna fa bingo. Quando invece vigono i conflitti, vigono gli scontri, vigono le reciproche delegittimazioni, è la democrazia che perde, sono le comunità e il valore simbolico dei comuni. E ovviamente il riferimento è l'economia circolare, soprattutto intesa come la intende l'Europa per quanto riguarda la sua applicazione economica, non è una nostra versione, è la versione normativa dell'Unione Europea. E ovviamente noi la estendiamo perché il modello lineare tipico dell'economia vigente è estrazione, distribuzione, consumo e smaltimento, per poi ripartire estrazione, manifattura, distribuzione, consumo e smaltimento, quando invece la natura funziona in circolo. Quindi economia circolare è intesa anche come invito a tutti noi a copiare i cicli naturali che hanno bisogno di tempi di rigenerazione. Il pianeta non è un supermercato, noi non siamo i padroni del pianeta, i numeri ormai ce lo dicono al di là del bene e del male, non c'è moralismo in quello che affermiamo, lo affermano i numeri, è come dire l'acqua va in salita, non è né bene né male dire che va verso il mare, è un dato di fatto. Fatto questo riferimento diciamo di contesto, noi vogliamo entrare nei numeri e non concediamo niente agli insulti. Io non sarò polemico, sarebbe troppo facile nasconderci dietro gli insulti che ci sono stati rivolti. Andiamo, lanciamo una sfida democratica fondata sulla fattibilità. Noi non veniamo da Marte e però pretendiamo che a dare le lezioni non ci siano coloro che sono i somari. Perché io sono un maestrino alimentare, è chiaro che bisogna che parta dagli esempi che possono essere edificanti per tutti, imitabili per migliorare tutti gli alunni, ma se a dare lezioni sono coloro che non raggiungono nemmeno il minimo di legge di raccolta differenziata c'è qualcosa che non funziona, cioè è il famoso mondo alla rovescia del grande Gianni Rodari. Qui bisogna partire da chi ha raggiunto gli obiettivi. Parliamo della provincia di Lucca, 382 mila abitanti, 77% di raccolta differenziata. Non parliamo del sud della Toscana o parliamo nel modo critico, che ha raggiunto a malapena, anzimando, il 50%. Guarda un po' ci sono mega discari che guarda un po' ci sono i due inceneritori. Prima ce ne erano tre, quindi guardiamo un pochino che succede in area fiorentina. 20 comuni superano l'80%, 29 superano il 75%, solo 4 sono inadempienti, il comune, il tapoluogo, è inadempiente. Come fa a dare lezioni agli altri? Sul lato, centro, dove ci troviamo, i comuni che superano l'80% sono 29, i comuni che superano il 75% sono 33 su 61. La metà ha già superato gli obiettivi minimi previsti dal vigente piano regionale toscano, che prevedeva il 70%. Adesso la regione toscana, nella proposta di Delivera 301, ha cominciato la discussione per l'approvazione del nuovo piano regionale, ha spinto la sticella al 75%. Ma non è che noi vogliamo giocare sulla sticella più alta, ma il 75% ci ha superato da circa il 35% dei comuni toscani, o tra il 30 e il 30%, del 35%. Quindi, un piano regionale che ha durata fino a 10 anni, non può avere obiettivi così poco ambiziosi. Ecco che allora io vi presento i numeri. Laura, se è possibile? L'accordo perché accorgo l'inviso del sindaco Eroardo. Noi prevediamo nel nostro schema di piano una riduzione dei rifiuti del 10%, la Toscana produce 2 milioni e 200 mila tonnellate. Ci togliamo 220 mila tonnellate. Come? Perché sulla riduzione, utopia, dal 2013 i rifiuti in Toscana sono diminuiti dell'11%. E sapete perché? La crisi da un lato, ma soprattutto alcune zone interamente sono passate ai porta a porta. Quando dallo stradale, raccolta stradale, si passa al porta a porta, statisticamente si va dal 10 al 25% di riduzione. Noi ci teniamo passi e soprattutto quando si applica la tariffazione puntuale insieme ai porta a porta. A Prato ci hanno detto che ci vuole l'inceneritore. Ma amico Biffoni, è chiaro che tu sei partito virtuosamente con i porta a porta e sei arrivato di slancio al 74%, ma dopo due o tre anni si ottiene il plateau e poi la discesa se non innesti la nuova marcia della tariffazione puntuale. anziché innestare la termovalorizzazione, vai a fare quello che i comuni in giro per l'Italia, piccoli, grandi e medi, hanno attuato. Quando c'è una sinergia tra porta a porta e tariffazione puntuale, si schizza ulteriormente sopra il 75%. Allora, importante è il secondo numero al netto della riduzione, è quello dell'obiettivo 80%. Guardate, la Sardegna ha adottato già da anni un piano regionale che prevede l'80%. Tre province sarde battono la Lucchesia. Io ero orgoglioso perché in tutta, volevo dire, in tutta la penisola, centro meridionale, incluse le isole, la Lucchesia ha in testa. Io ovviamente vengo da Capanno, provincia di Lucca, un po' di orgoglio. No, no, per fortuna ci battono tre province sarde e la Sardegna ha un milione e 600 mila abitanti, che fosse la Val d'Aosta, il solito solone di Tulli, ma la Val d'Aosta è piccolina, un milione e 600 mila abitanti, 75% attuale di raccolta differenziata, obiettivo minimo 80%. La regione Lombardia, che non è un nostro modello, prevede l'obiettivo minimo di 83% di raccolta differenziata, che la Toscana si fermi al 75% quando una provincia l'ha già superato, deve tornare indietro, la provincia di Lucca. I comuni che sono all'80% devono tornare indietro? Si preveda, semmai da un minimo del 75%, tendenzialmente all'85%. Moltiplichiamo l'80% per quello che è rimasto, vedremo che rimangono 194.000 tonnellate di così... 380.000, scusate, 388-390.000 tonnellate a trattamento, trattino, smaltimento. Allora, allora, ci facciamo con quello che rimane, tanto quello che c'è, che rimane il 20%, il 20%. L'80% lo risolviamo noi. Se mischiamo ci sono i rifiuti, ma se le nostre mani, ben formate ed informate, dove mettere la carta unta della pizza, dove mettere il guscio delle cozze, dove mettere il blister, dove mettere il tetrafat, le nostre mani fanno la differenza e fanno una buona differenziata. Altro che cassonetti deficienti, costosissimi, e che ci propongono materiali sporti. Statisticamente, dal 20% al 40%, presentano impurità e non vengono nemmeno remunerati dai consorsi di filiera. Altro che eliminare il porta a porta, che statisticamente è quello più incisivo per arrivare ad alti livelli, sia di resa percentuale, ma anche di riciclo effettivo, perché la purezza merceologica è marcatamente significativa e porta i materiali ad essere ben remunerati. Tra l'altro, non solo aumenta il prezzo dell'energia, ma sta aumentando anche il prezzo delle materie prime, e non solo dei metalli. Una tonnellata di perdo la remunerano a 400 euro tonnellate. Guardate, sono segnali importantissimi nell'epoca di cosiddetta raw material scarcity, di scarsità delle materie prime. Quindi noi dobbiamo individuare nel cassonetto una miniera urbana, piena di pacchi, da 200 euro di banconote. Quindi ragioniamo in termini ecologici, ma anche con spirito economico. Quello che rimane, abbiamo detto, queste 387.000, 390.000 tonnellate, perché dovrebbero sottoporre al trattamento a caldo? E chi ce l'ordina? Il medico? O ce l'ordina l'ansaldo? Allora ditelo, eh. Si può fare, ragioniamo a 360 gradi. A noi non è mai piaciuto ragionare a 90 gradi. A 360 gradi bisogna ragionare. Allora, allora, si può trattare a freddo? Ve l'ha mai detto nessuno che esistono i trattamenti a freddo? Ok, se può andare... Ok, dai. Allora, qui è molto importante identificare la percentuale dei flussi merceologici che rimangono, diciamo, sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti. E quindi ci sono studi internazionali, uno dei quali è stato proprio recentemente promosso da Zero West Europe, da Dominic Occhio, che è un valente tecnico che spesso insieme a Enzo Favoino collaborano con la Commissione Europea. Enzo Favoino sarà in linea oggi pomeriggio. È chiaro, io qui non mi diffondo perché è materia eccessivamente tecnica. ma per arrivare a dire che la metà di quello che rimane da gestire e che quindi potenzialmente va a smaltimento la realizziamo, la otteniamo prevedendo un recupero del 30% dei pannoloni-pannolini. Qui c'è il Comune di Capannoli che col PNRR ha vinto uno dei progetti di riciclo dei pannolini. Quindi questo 30%, addirittura si parla del 40%, io mi tengo prudenziale. 30% viene sottratto alla discarica finale. 1,5% metalli, elettrocalamite oppure sistemi ad aria compressa che recuperano e funzionano su scala industriale ormai da decenni. Poi c'è la possibilità di recuperare le plastiche di pregio. Le plastiche di pregio sono il cosiddetto PET, il politilene HDPE High Density, LDPE Low Density e il politropilene, remunerazioni estremamente elevate, oscillanti ma tendenti verso l'alto. E qui siamo già al 33,7%. Poi ci sono le perdite di peso perché nei rifiuti ci sono l'organico, anche i raccolte differenziate elevate, ma nella frazione organica si può includere anche la frazione cellulosica sporca, i tovagliolini con cui abbiamo festeggiato il compleanno che sono sporchi di cioccolata, di marmellata che vanno a finire nell'organico. Quindi siamo già sul 40%, le plastiche di minor pregio, il plasmix, il polistireno. Oggi già si sono strappate le vesti alcuni industriali perché l'Europa cattivona vuole eliminare il monouso, le vaschette dove si mettono le arance sbucciate e fatte a specchio da cretini. Da cretini. Dove è la responsabilità? Né del consumatore né del produttore. In Francia, dal 2023, i fast food, McDonald's, devono utilizzare il lavabile. Il lavabile. Le vaschette monouso devono contenere almeno un peso, si parla di un chilogrammo e mezzo. Trattiamo, discutiamo, ma siccome il regolamento in questione è arrivato in commissione, nella prossima settimana saremo consultati anche noi dalla commissione parlamentare apposita, il trend europeo è che si sta combattendo il monouso, soprattutto in plastica. Allora, il polistireno non solo deve essere, diciamo, in qualche modo riciclato, si può farlo in impianti come quelli che io sto descrivendo, ma soprattutto in prospettiva va ridotto. La normativa francese prevede una riduzione annua di almeno il 23% di polistireno, che sarebbero le vaschette e il polisterolo che si usano a go-go nei supermercati, per la carne, per il pesce, soprattutto. il recupero del tessuto di materassi. Noi abbiamo contatto con almeno 25 aziende che lavorano con rifiuti zero. Noi non prendiamo niente, ma lavorano. Ci sono anche imprenditori, imprenditori valenti e virtuosi, va bene? Ecco, tra questi c'è un chimico che ricicla i materassi, che dice, lo sai che il petto è schizzato, stanno recuperandolo dal fondo del mare per usarlo nel riciclo, additivando una quota di riciclo e una quota di verti. Si può fare il recupero di legno, il recupero dei tessuti. Oggi sentiremo, stamattina sentiremo l'amico Fabrizio Tesi che affronta il tema dal punto di vista industriale, quindi è una persona squisitissima, però lo affronta giustamente dalla sua angolatura economica. Vedremo che ci sono 90, forse anche di più, punti di convergenza, anche considerando questo punto di vista. Il recupero di cartone contaminato e il recupero di inerti, 50%, rimarrebbero 194 mila connellate da mettere in discarca. Sono 2 milioni e 200 mila considerate 194 mila, 9,8% del totale iniziale dei rifiuti. Noi non vogliamo le discariche e queste discariche sarebbero detossificate. Se ci va un vetranneo, passa da questo collo di bottiglia, viene tolto e si impedisce che vada in discarica perché è un richiuto pericoloso. Se c'è il barattolo di vernice è un richiuto pericoloso, viene tolto anche manualmente dai lavoratori in cabine ben protette dalle polveri. Quindi, noi le discariche sappiamo che in transizione ci vogliono perché anche gli inceneritori hanno bisogno di due discariche e ancora più impegnative per i rifiuti tossici, pericolosi, quelli del camino e quelli delle sceneri di fondo che cadono sotto il forno. Quindi, non è vero che ci libereremo brevissimo dalla necessità di discarica ma possiamo rendere discariche sempre più somiglianti a depositi transitori di materiale. Pensate le mascherine in TNT polipropilene si possono riciclare pensate ai mozziconi di sigaretta che si possono già riciclare. Quindi, quello che mettiamo in discarica magari un domani man mano che la tecnologia proverisce può essere addirittura recuperato. Ecco perché le discariche devono somigliare sempre più a depositi anziché a punti puzzolenti che attirano animali e allontanano gli esseri umani. Un recupero di inerti. Ecco, io credo che questo scenario debba essere valutato e concludo con una sorta di appello politico. Cioè, se davvero siamo d'accordo con l'assessore Monni che noi abbiamo invitato e non so se è presente se fosse presente io sarei subito per interrompere l'intervento e darle la parola ma comunque ci incontreremo il 26 perché ci sarà una seconda puntata in regione toscana è già previsto un secondo approfondimento da parte di un tavolo tecnico in quel caso proposto dal Movimento Cinque Stelle che firmò il protocollo di più di zero la candidata l'unica eletta che l'aveva firmato firmarono i nove l'unica candidata i candidati eletti sono stati solo con il Movimento Cinque Stelle ha promosso un tavolo tecnico che il 26 organizza nel palazzo del Consiglio regionale un secondo round dove ci sarà il Presidente del Consiglio e dove ci sarà l'assessore Monni quindi avremo modo di confrontarci allora se davvero crediamo nel 75 80% io sono disposto anche a non sottilizzare su queste differenze numeriche che sono comunque importanti ma non ci devono dividere se ci unisce questo lavoriamo su quello che concordiamo se su quel 20% ragioniamo a 360 gradi diamoci due tre anni di moratoria nei confronti di impianti di trattamento a caldo alla fine di questi tre anni per evitare di menare camperlaia come a volte ci hanno attribuito vediamo un pochino quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni singola proposta la regione se vorrà proporrà ci farà capire i vantaggi e gli svantaggi dell'impiantistica a caldo magari anche aprendo un po' di credito all'impiantistica a caldo ok alla fine vedremo che cosa fare è il 20% e per favore non si confondano le pere con le mele sappiamo benissimo che sullo sfondo c'è anche il problema dei rifiuti speciali che sono il triplo si dice sempre però normativamente quando una regione approva il piano regionale lo approva per i rifiuti solidi urbani quindi non approviamo una pianificazione che normativamente è cogente per la solo frazione urbana dicendo ma tanto poi c'è anche quello no non confondiamo le acco parliamone nel convegno del 26 ci sono fiori di esperti anche industriali di nuovo a parlare dei rifiuti speciali oltre di quelli urbani quindi noi siamo consapevoli che dal punto di vista ecologico i due problemi diciamo così sono complementari ma dal punto di vista normativo vogliamo parlare dei numeri che riguardano i rifiuti solidi urbani poi vedremo che fare caso per caso siamo disponibilissimi ad essere costruttivi io mi fermo qui credo che se c'è bisogno di entrare nel merito delle cifre dei dettagli e anche di altri aspetti il sottoscritto ma soprattutto la schiera di esperti di sindaci di attivisti che mi seguiranno e seguiranno questo incontro attribuisce credibilità io so bene che se Zero Est è cresciuto lo deve alla credibilità e ci sono dei sindaci che sono stati irrisi quando partirono con i rifiuti Zero ma ora si gongolano come si gongola il sottoscritto quando c'è stata la giornata la giornata c'è stata la giornata mondiale di rifiuti Zero non avete sentito il 30 marzo nei palazzi eravate rinchiusi c'è stata la giornata lo sapete la delegazione italiana ha citato il caso Capanno e all'ONU ha citato il caso e non siamo stati noi a fare l'obbligo noi non siamo così forti ma siamo credibili i numeri stanno dimostrando i numeri anche del lato centro e anche di Capiglia stanno dimostrando che si può fare con la miglior parte delle istituzioni con la miglior con il miglior civismo dei cittadini grazie per essere qui grazie per il lavoro e i contributi per poter grazie grazie Rossano per la passione e la precisione questo dovrebbe essere un po' la dote anche di noi sintaci quello di avere una visione che ci appassiona del mondo della nostra comunità però poi di riuscire a declinare quella visione quella passione anche sulla precisione sui numeri e insomma Rossano è stato molto bravo nel riuscire a coniugare questi due aspetti e col suo intervento passiamo appunto alla comunità dei sindaci e il primo intervento non a caso è quello di un sindaco che è stato pioniere nella strategia di più di zero in Italia e a Capandoli tra l'altro abbiamo due sindaci passati e presenti di Capandoli che sono qui con noi oggi e voglio ringraziarvi sia Giorgio Del Vingaro che Luca Menezini un applauso senza niente soldi da tutti gli altri sindaci a tutte le altre comunità però ecco veramente l'esempio di Capandoli è un qualcosa che rafforza anche gli altri comuni perché in tanti casi noi ci dovremmo dire ma a Capandoli lo hanno fatto a Capandoli lo stanno facendo e questo ci dà forza ecco quindi il primo intervento al sindaco pioniere di Zero Waste Giorgio Del Vingaro ragazzi buongiorno a tutti buongiorno a tutti per l'inquadratura buongiorno a tutti grazie dell'invito grazie sindaco grazie all'intervento di Rossano che ha recuperato un po' di tecnica in questa discussione che vorrei che tornasse anche in ambito politico io sto parlando di politica naturalmente alta dove si possa parlare del nostro futuro dove non ci sia il timore delle contrapposizioni degli schieramenti e io come dire ho molto apprezzato il fatto che tra poco ci sarà un incontro tecnico tavolo tecnico mi sembra di aver capito in regione perché lo dico perché il 21 giugno del 2001 2 era 21 se non vale il dato non vorrei sbagliare di data ma quasi due anni fa un paio d'anni fa ci siamo incontrati a Torre del Lago se vi ricordate in quell'occasione c'è stato un ampio dibattito devo dire veramente con grande profondità abbiamo sviscerato e con grande partecipazione sviscerammo diciamo le questioni di più di zero nella nostra regione se vi ricordate si parlava già della discussione sul piano regionale sul nuovo piano regionale del in quell'occasione ebbe un mandato dai sindaci presenti dagli amministratori presenti di chiedere un incontro con l'assessore regionale per poter sviluppare un ragionamento come avrei voluto come avremmo voluto cioè politico su come impostare questo piano e ottenere sempre se graditi i suggerimenti del del mondo di più di zero all'epoca eravamo 41 comuni in Toscana oggi siamo 44 sono in una realtà bene io in due anni non ho ricevuto alcuna risposta alla lettera che alcuni giorni dopo feci all'assessore e chiesi nella quale chiedevo appunto un incontro per come dire un cortesissimo scambio di idee sulle questioni che erano scaturite da quell'incontro quindi mi fa doppiamente piacere che ci sia un tavolo tecnico sarebbe stato bello se in questi due anni ci fosse stato anche un tavolo politico col mondo zero es e lo dico senza ombra di polemica perché non c'è polemica ripeto noi lavoriamo nell'interesse dei cittadini della comunità e credo che un punto di vista che è il punto di vista di più di zero forse poteva essere utile a sviluppare un percorso sul piano regionale che tenesse conto anche di altre indicazioni oltre a quelle che arrivano dal mondo dello schieramento diciamo dei partiti e quant'altro ecco qui è credo un punto fondamentale un punto focale Rossano dice è cambiato rispetto a vent'anni fa quindici anni fa e in effetti si è cambiato però attenzione perché io noto in questi ultimi tre quattro anni che è passato dalla fase diciamo iniziale appunto di 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 legge di presa in giro dei sindaci delle comunità che si spensavano di fare il porta a porta la tariffa puntuale di sviluppare un sistema di raccolta particolare di fare le isole ecologiche beh il di legge sì vabbè poi c'è stato diciamo in qualche modo no un confronto un confronto devo dire anche molto positivo che ha portato come giustamente risultati in Toscana estremamente positivi estremamente capandoli è diventato minore rispetto ad altri comuni che hanno fatto veramente tante tante belle cose sulla raccolta differenziata sulla gestione per il più beh da due o tre anni io noto che come dire c'è stata una suefazione a questo fatto e quindi vabbè sì ci sono quelli rifiuti zero però ora parliamo di cose serie no quindi facciamo gli impianti facciamo perché qui non ci si fa eccetera 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 le cose che ha detto Rossano le condivido totalmente quindi ecco io starei attento a questo perché mi sembra che sia nata una specie di restaurazione che probabilmente non giova alla Toscana non giova come dire alle comunità e ci sia bisogno in qualche modo di uno scatto del polio scatto del polio che deve essere sottolineo non polemico assolutamente tecnico ma anche mi permetto di dire che trasmetta la buona politica la buona politica ovviamente sto parlando sull'ambiente sull'ambiente il che non vuol dire partire dal concetto che noi siamo quelli bravi buoni e belli ci mancherebbe abbiamo milioni di difetti soprattutto io ma almeno ascoltarci sì beh questo fatto devo dire la verità a me ha dato molto fastidio ora io capisco dice vabbè non si vuole parlare con la narcoide del gingaro perché lui fa i cavoli suoi è uno che non ascolta nessuno ascoltate con la narco cioè voglio dire non è che c'è solo del gingaro di giù di zero c'è una marea di sindaci peraltro 43 no che sono sicuramente più disponibili hanno un bel carattere rispetto al mio e quant'altro però ascoltate porco cane perché se no funziona quindi scusate se sono partito da qui ma ci tenevo io l'ho considerato mi permetto un'offesa istituzionale non ricevere ma addirittura non risponde a un sindaco che si fa portavoce di 40 40 all'epoca più uno sindaci che ti dicono ascoltaci ecco questo è un fatto che mi ha dato veramente marea ora io faccio il sindaco di un altro comune faccio il sindaco di un comune di mare e e noto le grandi differenze che ci sono rispetto a a un altro comune che mi sono onorato mi onoro ancora di ricordare con grandissimo affetto e cioè di capare perché dico questo perché attenzione è sì importante tutto il livello tecnico che è stato ribadito da Rossano ma è fondamentale indispensabile la preparazione culturale di una comunità a capandoli si veniva da anni durissimi di lotta contro la costruzione di un inceneritore si era formata una come dire una platea culturale di un certo tipo e quindi è stato non voglio dire più semplice ma è stato più agevole in qualche modo sviluppare tutte le tematiche che poi sono state sviluppate e non solo sono state sviluppate ma ora portate avanti ancora con più raffinatezza a capandoli ma Luca Luca sarà più preciso di me nell'adventrarci ecco i comuni diversi e quindi come Viareggio come tanti altri comuni hanno bisogno di questo e quindi c'è bisogno di tempo per sviluppare una cultura questo tempo va guadagnato facendo io dico sempre non solo le cose grandi ma anche quelle piccole perché accanto a un porta a porta accanto alle isole economiche accanto se è possibile agli sgravi accanto a tutte queste cose c'è bisogno di una costellazione di micro cose che sostengono l'azione più generale e queste micro cose si fanno con un sacrificio enorme cioè parlando con le persone con un livello di partecipazione alta informazione educazione le scuole e quant'altro c'è bisogno di questo per sviluppare una tematica vera sui rifiuti perché se non si fa questo si fa soltanto una parte del lavoro che è importante che è fondamentale ma non si fa l'altra parte cioè di rendere una comunità consapevole e una comunità che dall'abbrivio dalla spinta addirittura noi amministratori affari sempre di più e sempre di più accapando di questa cosa si era formato c'era l'orgoglio ci sarà ovviamente anche io era l'orgoglio ma lo ricordo con grande come dire partecipazione e affetto cioè l'orgoglio di fare questa roba ci si sentiva importante bene ecco le comunità vanno fatte sentire importante e il cittadino si deve sentire partecipe e come dire protagonista di questa rivoluzione culturale che credo sia come dire l'elemento centrale di tutta la nostra discussione bene termino credo di averla fatta troppo lunga sì mi dicono di sì siamo nei tempi sono ancora nei tempi meno male 30 secondi no allora finisco no no finisco finisco io allora lo dico per allora per motivi diciamo di lavoro ho modo di come dire di approfondire un po' di tematiche relative all'economia allora tenete conto che sui testi di economia ambientale i testi universitari dove studiano i nostri figli i 10 si parla di rifiuti di gioco ci sono dei testi dove ci sono interi capitoli non ci sono più testi interi capitoli dove si parla di rifiuti di gioco come una cosa normale e si cita Capalloli e si cita Ercolini diventato un santone santone Ercolini per chi lo conosce sa che no ma si cita veramente io mi sento orgoglioso mi sento come dire un piccolo pezzettino porco cazzo ho fatto anche noi perché se sui libri universitari dove si studia le ragazze i nostri studi dell'economia ambientale è citato il rifiuti di zero e come si fa il rifiuti di zero e dove è stata iniziata l'esperienza di rifiuti di zero credo che sia come dire una grande gratificazione ecco allora che questi testi rilegano tutti gli studenti e non li legga poi chi amministra e che quindi ci si faccia ancora scrupoli dal 75 all'80 e bisogna costruire i ceneritori e attenzione perché dove si porta quel 20-30% che rimane e come si fa a abbassare le tariffe a me sembra fuori dal mondo a me sembra di esistere cioè gli stanno da un'altra parte cioè noi stanno da un'altra parte cioè allora le nostre università si studia questo e si dice è fattibile è possibile viene fatto e i nostri amministratori i miei amministratori peraltro come dire amici compagni di viaggio cioè non solo non li leggono ma li negano a me sembra una roba fuori dal mondo al di là mi permetto di dire di riempirsi la bocca di questa parola ormai usurata che è economia circolare quindi io termino augurandomi diciamo a cominciare naturalmente dal sottoscritto di continuare ad avere quell'ambizione da una parte quel coraggio dall'altra parte nello sviluppare un ragionamento che è un ragionamento serio non è un ragionamento come dire marginale rispetto a una discussione ambientale cioè quello su rifiuti zero guardate che se ne parli a livello mondiale credo che sia un elemento importante che se ne parli a livello italiano altrettanto che se ne parli a livello toscano dovrebbe essere come dire un fiore all'occhiello della regione toscana perché qua è nata rifiuti zero qua si sta sviluppando e che si faccia un piano di rifiuti senza tener conto di questa esperienza credo che sia assolutamente indignitoso per chi lo fa per cui io mi auguro che soprattutto agli amministratori a chi come me amministra e fa della comunità il primo punto all'ordine del giorno credo che e auguro naturalmente che ci sia questa ambizione e questo coraggio anche in futuro grazie 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 veramente di cuore a Giorgio Del Ghingaro sindaco di di via Reggio no perché nella sua narrazione hai parlato di capannori ma l'esperienza importante che sta portando avanti a tutto oggi anche quella di via Reggio comune di mare ma anche un comune turistico tutto ciò che che ne deriva anche dal punto di vista di produzione di rifiuti però ecco dall'intervento di Giorgio mi viene da dire che veramente un grande lavoro è stato fatto questo lavoro ha lasciato tracce importanti e uso questo termine anche una certificazione cioè parlare di rifiuti in zero non è più una visione come ci veniva detto un tempo ideologica è una visione sì ideologica ma perché le ideologie a mio modo hanno un senso sono quelle che danno un indirizzo e guidano l'umanità ma che hanno messo le radici nel pragmatismo e affondano come dire le loro strategie nei numeri io credo che la visione forse più ideologica o più anzi più ideologica più economicistica è quella dell'incinerimento perché noi veniamo accusati di avere una visione troppo ideologica ma chi veramente ha una visione ideologica delle cose è chi teorizza un certo tipo di gestione dei rifiuti ecco fermo restando questa mia piccola polemica perché l'idea del villeggio da sindaco la sento sulle spalle con tanti colleghi quindi è un qualcosa che pesa però la missione è più alta del peso del villeggio quindi andiamo avanti però ogni tanto bisogna cercare di mettere un punto proseguiamo con gli interventi dei sindaci e proprio in un'ottica di vista affetta temporale da Giorgio Del Vingaro a Luca Menesini attuale sindaco di Capallori e responsabile in Anci per la questione dei rifiuti giusto? no ecco allora questo è il sogno diciamo ma la prospettiva però già il fatto da avere il nostro sindaco del Zero Waste all'interno di un'istituzione come Anci che rappresenta e diciamo rappresenta tutti i sindaci è sicuramente un motivo per corso passo la parola a te per che tipo di responsabilità Anci grazie Luca grazie Edoardo grazie Rossano Laura a tutti e mi fa piacere essere qua fare una chiacchierata ma soprattutto ecco anche scambiarci e darci degli obiettivi insieme perché io credo che quello che dobbiamo fare è riuscire a fare rete e darsi degli obiettivi e anche dimostrare che le cose funzionano perché questo non si può dimostrare singolarmente sì si può fare anche singolarmente ma cominciamo ad essere anche una massa critica che sicuramente ha un'azione ancora più significativa da questo punto di vista la prima riflessione che faccio e mi guardo l'orologio è sulla democrazia è stata toccata negli interventi di prima noi viviamo una fase che è molto delicata per mille ragioni non voglio qui da questo punto di vista divongarmi però viviamo una fase che è di crisi della democrazia e abbiamo il dovere di rivitalizzare la democrazia e la rivitalizziamo dando il senso di stare di appartenere a comunità locali e in queste comunità locali portare avanti un cambiamento un miglioramento a partire da quello che è la qualità della vita il tema dei rifiuti secondo la declinazione rifiuti zero va molto in questo senso veniva detto prima no? da chi mi ha preceduto veniva detto l'importanza del coinvolgimento della comunità l'orgoglio delle comunità in raggiungere certi obiettivi e su questo vuol dire un ruolo estremamente forte che i cittadini sentono e si sentono partecipi ad una strategia di cambiamento ad una strategia di lotta al cambiamento climatico e tante altre questioni che potremmo dire questo è estremamente importante questa è una questione che noi dobbiamo fare e fare sempre di più per la democrazia poi un sindaco come appunto qua il ministro sa bene che le questioni che riguardano le comunità locali sono la vita cioè quello che è il bello del sindaco le dico nel giorno in cui si vota oggi è un giorno di votazione per i sindaci anche qui vicino appoggio a Cagliano e faccio un grande bocca al lupo a Francesco a un amico e appunto è il rapporto diretto con i cittadini e l'influenzare quella che è la vita della comunità locali allora lì si dà senso alla politica e si riporta anche una politica ad essere protagonista e a dare senso anche ai cittadini della partecipazione perché quando è che ci va il 30 al 40% quando sente che non incide che non si cambia niente e rifiuti sta molto in questa in questa in quest'ottica il secondo aspetto è quello europeo lo diceva prima Rossano ma è una cosa io sono più che non ci sono il comitato delle regioni a Bruxelles tra l'altro l'evento che citava prima Rossano è stato fatto in comitato delle regioni appunto quello sul rifiuto e il trattamento a freddo e quindi il comitato delle regioni è il luogo dove le autonomie locali a livello di Bruxelles a livello europeo si incontrano discutono e poi vanno a discutere anche delle tante direttive e a proporre emendamenti eccetera sulle tante direttive del dell'Europa nei giorni scorsi abbiamo trattato quella sulle acque ref abbiamo trattato quella sulla qualità dell'area sono tutti temi estremamente importanti e centrali ed io sono stato relatore sulla direttiva sul sul tessile circolare e sostenibile e qua appunto ringrazio anche tesi con il quale abbiamo portato avanti un lavoro diciamo di approfondimento da questo da questo punto di vista mi ha colpito che l'agenzia scozzese dei rifiuti l'agenzia governativa scozzese dei rifiuti si chiama Zero Waste e cioè qui io mi sono trovato un po' disorientato vi dico la verità perché ero abituato che in Italia Zero Waste è sempre un po' come si diceva prima qualcosa di contrapposizione noi non lo so se Rossano dovesse l'agenzia italiana chiamarsi Zero Waste non lo so se Rossano è d'accordo ci avrei qualche dubbio da questo punto di vista però vuol dire cioè questo per dire quell'approccio che diceva prima Edoardo molto pragmatico cioè in Europa si parla di Zero Waste tranquillamente perché questo è l'obiettivo di non avere rifiuti nel senso di non avere scarti di essere tutto recuperabile di essere tutto riciclabile di essere tutto cioè di dare di ridare vita e rigenerare tutto appunto materie prime e seconde e fare un lavoro anche sul tema del design dove ciò che non è recuperabile si elimina si toglie allora da un certo punto di vista in questi dieci anni passano avanti sono enormi e tuttora li stiamo facendo quindi prima questione non dobbiamo bloccare il sistema perché poi alla fine se nel momento in cui si fa un'impiantistica di un certo tipo che ha bisogno di x tonnellate di questa roba poi hai bloccato il sistema perché per 20 anni per quello che è il ciclo di vita di quell'impianto hai bloccato è il tema nei giorni scorsi ero in Corsica stanno facendo l'idea di fare un impianto di TMB e se mi fanno un impianto di TMB se è stata la fabbrica dei materiali me l'hai bloccato su quelle tipologie invece oggi l'evoluzione è già la fabbrica dei materiali cioè perché l'Italia che è alla fine la fortuna dell'Italia è non aver adottato il paradigma degli anni 90 l'inceneritore e perché devi adottare oggi un paradigma che era del passato che sia il TMB che sia l'inceneritore cioè portiamo facciamo di questo elemento facciamone un punto di forza e in parte i dati i comuni i cittadini lo stanno dimostrando però questa contrapposizione eteologico pragmatica c'è e almeno noi sindaci dobbiamo togliere dal campo perché appunto poi il movimento fa bene a spingere su certe cose anche più ideologicamente ma il concetto di rifiuti zero deve essere un concetto di quotidianità di normalità e soprattutto di pragmaticità cosa mi preoccupa perché la strategia europea sul Green Deal il lavoro che fa Timmermans quindi l'alleanza socialisti popolare è un'alleanza forte dove i socialisti in questo caso spingono molto su questi aspetti a livello europeo mi preoccupa perché l'anno prossimo ci sono le elezioni europee e sapete che potrebbe cambiare anche l'alleanza da questo punto di vista vediamo diciamo nuvoloni un po' un po' grigi un po' scuri avvicinarsi e temo che il partito popolare non abbia problemi ad allearsi con la parte opposta da dove è stato fino ad oggi la butto su questo piano perché perché quello che è il lavoro che sta che in questi cinque anni è fatto su questi aspetti rischia di avere una frenata enorme l'altro aspetto di pericolo è quello che tutta la questione della transizione ecologica diventi una questione dove la gente comune la sente come una minaccia anche per la strumentalizzazione che questa viene portata avanti su soprattutto da certi partiti da certi contesti da certi contesti politici che sia un qualcosa a favore di un ceto medio alto ma che vada a impoverire e il ceto medio basso questo è un pericolo che dobbiamo fare in modo che invece la transizione sia prima di tutto a favore delle fasce delle fasce più debole quindi sia sia anche diciamo di giustizia sociale da un certo punto di vista vengo su due aspetti legati a Capannori e su questo tocco anche il tema della credibilità noi abbiamo una grande responsabilità di credibilità una grande responsabilità perché tutti ci guardano da questo punto di vista e aspettano che si falliscano qualcosa per dire hai visto quei simpaticoni che ci hanno fatto la ralla per tot tempo poi alla fine come è andata a finire e e e su questo ecco noi stiamo lavorando abbiamo un'alta percentuale di raccolta differenziata oggi siamo all'88% abbiamo i pannolini che sono già raccolti separatamente e quindi con l'impiantistica dei pannolini quando sarà a regime abbiamo ottenuto finanziamenti PNRR superiamo tranquillamente il 90% circa il 50% oggi dell'indifferenziato nostro sono pannolini e abbiamo iniziato anche la raccolta degli assorbenti da questo punto di vista e quindi arriviamo al 94 95% questo è l'obiettivo che noi abbiamo di qui al 2026 accanto a questo finanziamento PNRR sul l'impianto di pannolini abbiamo un finanziamento anche PNRR per quanto riguarda una piattaforma sul tessile di separazione di prima separazione del tessile e questa secondo me è una sfida che noi comuni rifiuti zero dobbiamo prima di tutto adottare c'è un obbligo di raccolta separata del tessile dal 1 gennaio 2025 dobbiamo anticipare è il bidone è il porta a porta noi stiamo sperimentando il porta a porta da qualche mese abbiamo dei correttivi da fare perché poi insieme al mondo del riciclo del tessile del ricupero dobbiamo garantire quantità e qualità ovviamente da questo punto di vista però c'è un lavoro anche qui che possiamo e dobbiamo ma abbiamo il dovere di fare l'altro aspetto è quello della tariffa puntuale è fondamentale avere la tariffa puntuale per arrivare ad altri livelli di raccolta differenziata e allo stesso tempo anche per tutto quello che è il tema che diceva prima anche Edoardo rispetto alla tariffa rispetto a quello che sta avvenendo con l'aumento delle tariffe allora a maggior ragione verremmo avvitati o criticati da un certo punto di vista allora su questo e mi avvia la conclusione io credo che appunto l'obiettivo che in Toscana dobbiamo avere è quello di darsi degli obiettivi comuni quindi un porto a porta spinto ben organizzato la questione della tariffa puntuale la questione delle impiantistiche sul riciclo recupero riuso la questione ovviamente del tessile iniziare anche su questo a lavorarci e quindi far massa critica quindi a fronte di quelli che sono i dati del lato 100 del lato costa del lato sud avere dati del concloverato del più di zero cioè in maniera trasversale ma noi si fa questo e noi dimostriamo che è possibile io credo che questa diventi una forza di rinvento e l'ultimo elemento è questo noi siamo nel lato costa siamo in rete ambiente come sapete rete ambiente doveva nascere come società pubblico privato gara doppio oggetto eccetera eccetera ce l'abbiamo fatta a fare in modo che rete ambiente sia una società in house è interamente pubblica è una società che anche qui doveva essere fusa e farne una grande come aria anche qui ce l'abbiamo fatta ad evitare questo e quindi è una holding col sotto delle società operative locali perché alla fine il sindaco deve sapere prima chi chiamare e deve incidere sulla società che gestisce i rifiuti sul proprio territorio io credo che questi siano aspetti importanti aspetti che ovviamente qualcuno vorrebbe smontare il prima possibile perché diventano se ciò funziona anche una buona prassi che poi dopo mette in crisi gli altri sistemi ma anche su questo abbiamo un grande dovere una grande responsabilità ad oggi rete ambiente vi dico che dal mio punto di vista sta andando bene in livello diciamo anche sui diversi territori poi è diverso perché ognuno ha anche una società operativa locale però in generale diciamo è positivo l'approccio e soprattutto rete ambiente in quanto holding lavora su quelle che sono le uniche artistiche e quindi è importante che la raccolta lo spazzamento resta vicino alla comunità locale con una società anche dove il sindaco è più ovviamente incide molto di più e la questione poi invece dello smaltimento del recupero del riuso sta ad un livello superiore che poi deve ovviamente costruire una strategia a livello regionale quindi questo per dire cosa che presupposti ci sono che però appunto c'è un grande lavoro che dobbiamo fare insieme che è il momento un momento anche rischioso perché nel momento in cui vanno in crisi i sistemi la prima cosa che si fa si apre si accende il ventilatore e si butta fango su quegli altri perché la miglior difesa è l'attacco e quindi riparte tutto un meccanismo e anche un contesto di demigrazione di quello che è il lavoro che è stato fatto in questi anni da zero waste e dai singoli dai singoli territori che allo stesso tempo però mi sembra che ormai la questione zero waste come dicevo a livello europeo che lo stanno citati a livello di Nazioni Unite eccetera cioè è un obiettivo è un obiettivo ormai direi mondiale condiviso perché intorno a questo poi ci sta un interesse economico recupero materie prime e seconde a me personalmente non scandalizza ma mi conferma che sia la strada giusta e quindi c'è un lavoro da fare che è un lavoro di rete un lavoro di obiettivi un lavoro dove poi al di là dei discorsi noi dimostriamo che fatti che funziona grazie grazie mille a Luca Melesini che ha messo altri elementi in più l'idea di cercare di fare massa critica tra i sindaci e cercare di mettere a sistema quelle che sono forse anche in modo riduttivo dette buone pratiche invece sono strategie fondamentali e quello sia una delle strade giuste alla fine la Toscana ha questa caratteristica un po' il luogo dei campanili un po' il luogo delle frazioni dei particolari ma tante volte in quei campanili in quella piccola Toscana ci sono anche elementi di grossa innovazione che dobbiamo mettere a sistema ha sempre colpito l'esempio di Rossano quando diceva che nella Lucchesi è stata la provincia con Capalmori è stata da innovazione verso il capoluogo Lucca quindi delle volte sono le piccole frazioni le piccole città che sono da innovazione e in questo senso io guardo con grande curiosità anche un piccolo pizzico di invidia al lato Toscana Costa per il lavoro che state facendo che avete fatto soprattutto rispetto alla situazione che c'è qui nel lato Toscana Centro però ecco anche nel lato Toscana Centro ci sono realtà non piccole penso a Sesto Fiorentino medie di dimensioni medie che invece stanno lavorando oggi non è presente il sindaco ma c'è l'assessore Beatrice Corsi che chiedo di ringraziare un applauso che è rogici da poco da uno dei passaggi più belli che è una persona che è parte di due gemelli però è qui con noi oggi un applauso ecco ci parli un po' dell'esperienza di Sesto Fiorentino che è un'esperienza di battaglia di lotta ma è anche un'esperienza di innovazione di un lavoro che tende verso la strategia Zero Waste in un contesto particolare cioè Sesto è una realtà in cui è presente anche un distretto manifatturiero un distretto produttivo importante sensibile quindi tutti noi sappiamo quanto sia più complesso più difficile il lavoro nella gestione dei rifiuti in un contesto in realtà come quello di Sesto Fiorentino ma come in parte anche quella dell'Epratese in cui vi è la presenza di comparti manufatturieri comparti produttivi e artigianali sindicativi ecco in questo senso passo la parola all'assessore e a Tici Forse grazie 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 mille Edoardo sì oggi è la festa della mamma quindi mi sembra il modo migliore di festeggiarla perché parlare Zero Waste significa parlare di futuro per le nuove generazioni sicuramente era il 2014 io ero una calmanata consigliera comunale e non c'era giorno in cui a Sesto Fiorentino in consiglio comunale non si parlasse del tema dei rifiuti e mi ricordo bene le risatine il modo in cui diciamo ci ci bollavano ci bollavano sognatori o comunque patti quando andava anche peggio perché Zero Waste rifiuti zero era sì una bella novella che si raccontava tra i banchi di scuola di papandoli ma assolutamente in attuato ebbene ci guardavano come alieni come provenienti da un altro mondo invece questo altro mondo ora c'è e si concretizza nella rete dei comuni rifiuti zero e questo chiaramente non può che rendersi orgogliosi al stesso fiorentino lo diceva prima Edoardo c'è stato c'è una storia di grandi battaglie nella fama fiorentina sono contenta che ci siano associazioni comitati in sala perché credo che questa rivoluzione culturale che c'è stata anche a livello istituzionale sia potuta avvenire grazie al grande lavoro quotidiano dei comitati associazioni ricordo anche le mamme non inceneritori che hanno dato una spostata e hanno colpato tante persone in piatta ricordo una manifestazione enorme festosa coloratissima nella piana che cercava di difendere il nostro territorio da opere dannose non solo di inceneritori penso anche alla alla nuova affenza aeroportuale di Peretola e ricordo appunto che questa manifestazione era una festa non era mai stato porto il tema come qualcosa di terrorismo ma sempre come un futuro appunto migliore per i nostri figli sicuramente il fatto che si stia creando questa rete di comuni di più di zero è un elemento di grande maturazione del dibattito sui frutti il fatto che Rossano abbia questo incontro il 26 ci fa un po' tirare il fiato perché in qualche modo c'è una legittimazione finalmente di questo pensiero ma la contaminazione di idee la legittimazione di queste posizioni chiaramente deve andare di pari passo a un salto anche normativo perché siamo in riscardo modernare abbiamo fatto scelte sbagliate sono state fatte narrazioni sbagliate per cui negli anni appunto si è dovuto lottare per avere credibilità il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini delle cittadine dei comuni nella redazione del piano regionale dei rifiuti è un elemento fondamentale da cui non si può prescindere noi lo dobbiamo pretendere assolutamente mi piace molto il titolo di questo incontro di stamane comuni e comunità alleanza per un nuovo piano regionale bisogna tenersi per mano bisogna distruggere i falsi niente perché effettivamente nella prima sono stati fatti anche dei nomi ci sono tanti fan ancora di questi di questi sistemi totalmente obsoleti ormai diciamocelo il Sesto Fiorentino nel 2019 ha iniziato con grande fatica il passaggio al Porta a Porta si partiva da un 66% di raccolta differenziata siamo arrivati ad oggi e siamo quasi all'85% non voglio bearmi però i dati effettivamente ci mi condiscono siamo passati abbiamo avuto una riduzione del lui da 13.606 connellate a 6.129 connellate quindi abbiamo più che dimezzato i rifiuti indifferenziali questi sono dati chiaramente non ci investiamo come comune come istituzione questa vittoria ma sicuramente tornando al concetto di alleanza questo è stato possibile solo e soltanto grazie a una cultura diffusa diceva bene prima il sindaco del Vigoro una cultura civica ambientalista di poputa nel nostro territorio che è staturita anche a sesto ecco sì sul discorso della sì mi faceva vedere Edoardo a sesto tazza dei rifiuti dal record dei rifiuti differenziati allo 35% se è buon impianto altrimenti la tazza aumenterà sempre di 1% ecco questo è un manifesto di Italia Viva in cui appunto si dice ragazzi posso fare un generitore o le tariffe dicano le tariffe zan zan ci hanno già condito con questo no effettivamente tuttora gli attacchi sono vanno in questa direzione e chiaramente a livello di Ato noi e c'è qui anche Sì Capprettini che spesso nelle assemblee di Ato fa presenti con noi queste storpide i comuni più virtuosi dovrebbero avere delle genialità e non inserisco questo elemento di polemica perché chiaramente i cittadini di Sesto Fiorentino ormai sono entrati diciamo in questo modello e la differenziata forza a forza funziona ci sono giorni dei ritiri ormai calendarizzati e le persone si sono abituate però chiaramente fanno un gran lavoro un grande lavoro con noi per avere questi numeri e sarebbe bello sarebbe auspicabile che venissero in qualche modo premiate anche a livello di norme questo sì noi ci troviamo spesso in difficoltà a rispondere anche alle opposizioni che ci dicono sì ma le tariffe schizzano sempre qui in alto anche perché i comuni vittuosi in qualche modo devono sofferire ai comuni un po' meno vittuosi che invece non raggiungono neanche il minimo sindacale ecco e questo sicuramente è un elemento di polemica che non che noi non ci tiriamo indietro a tirare fuori l'inastrobleato anzi dicevo appunto i cittadini e le cittadine di senso hanno una grande cultura ambientale e civica non dobbiamo mollare le istituzioni hanno questo ruolo noi stiamo cercando di promuovere iniziative ambientali nelle scuole intervenendo anche per esempio in contesti condominiali particolarmente ampi dove magari ci sono delle difficoltà facendo iniziative adotte in quel condominio rispiegando e rispiegando come si fa la differenziata perché un rapporto diretto con i cittadini e con le cittadine che in qualche modo hanno magari difficoltà a comprendere bene come si differenzia è importantissimo e non dobbiamo abbassare la guardia in questo mantenere alta l'assunzione sui rifiuti perché sì a stesso si è scongiurato la costruzione appunto dell'ennesima opera assolutamente inutile e potenzialmente pericolosa dannosa obsoleta anacronistica però poi il problema ci rimane e quindi su questo noi dobbiamo lavorare in positivo proponendo quindi io ringrazio Edoardo per l'iniziativa di oggi speriamo ecco di magari realizzarne anche una noi al Sarticcio Lentino personalmente ci piacerebbe molto avere Rostano e i sindaci appunto più presenti gli amministratori più presenti se parlare 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 ancora del problema perché occorrono soluzioni e occorre stappare le orecchie a chi di Zero Waste ancora non ne voglio parlare grazie 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 a Beatrice per insomma innanzitutto per essere per essere qui e per aver portato l'esempio dell'amministrazione di Sesto Fiorentino io dico sempre che i numeri parlano i numeri sono figli anche di scelte lato Toscana Costa ha fatto determinate scelte come di Campanno che abbiamo qui il sindaco Mlesini ma il comune di Biareggio con Del Vingaro e c'è da voi il problema dell'aumento delle tariffe in modo così esponenziale come invece si sta verificando nella nostra attra Toscana Centro non si verificava l'altro giorno mi è capitato io sono mi capita di leggere frequentemente i posti del sindaco Mlesini e con grande invidia in questo caso ho detto che l'Atari è ferma da quanti anni? almeno 10-12 anni invece noi siamo in aumento purtroppo anche sensibile negli ultimi 2-3 anni e tutto fa pensare con i numeri che abbiamo e aumenteremo anche nei prossimi anni però i numeri oltre che metterli sui manifesti nelle piazze bisogna saperli leggere nella nostra attra Toscana Centro abbiamo due grossi problemi siamo dei comuni di grandi dimensioni che hanno una bassissima raccolta differenziata e come diceva prima Rossano a caso dei cassonetti poco intelligenti quella raccolta differenziata ha un recupero che è molto più basso e molto meno remunerativo in termini di consorsi rispetto a quello di un porta a porta spinto e i costi sono aumentati non solo nella frazione della RUI che citava prima Beatrice ma anche nell'incapacità di poter mettere a recupero di materia non di energia anche delle frazioni differenziate quindi i numeri bisogna saperli leggere per capire poi le strategie costruire sopra siamo pochi nell'altro Toscana Centro di comuni che stiamo lavorando in questa direzione però con la forza delle idee e con il peso dei numeri vogliamo andare avanti e proprio in questa direzione un altro sindaco un altro comune che può darci una mano importante sempre in quella piana che viene a doferire un po' la piana ribelle ma anche una piana innovativa fortemente innovativa abbiamo qui Riccardo Crestini sindaco del comune di Calenzano al quale passo la parola a tutti grazie Edoardo grazie per questo convegno per questa giornata di intenzione per Calenzano che è uno degli ultimi comuni che ha venito alla a rifiuti zero ovviamente anche un'occasione per imparare tante cose da chi prima di noi ha fatto questa esperienza e sta portando avanti questa esperienza ma io vorrei parte dare alcune breve informazioni su Calenzano poi cercare di dare un taglio cioè introdurre una riflessione su un aspetto che è stato toccato in maniera diciamo così di riflesso ma che secondo me è molto importante Calenzano appunto è un comune della Piana di poco più di 18.000 abitanti è un forte inserimento industriale quindi ha una forte produzione di più di procapite siamo un comune che proprio per la presenza di attività quindi il concetto di assimilazione anche se ora non c'è più ha portato storicamente avere appunto grosse quantità di rifiuti da trattare e poi smaltire siamo oltre 900 kg a di tante quindi più doppie quasi di quella che è la media anche all'interno nazionale noi abbiamo appunto aderito l'anno scorso a più di zero stiamo vorremmo entrare a tariffa puntuale l'anno prossimo non so se ce la faremo perché poi l'ingresso ha come presupposto tutta una serie di passaggi sia da parte dell'autorità di ambito sia dal gestore che come abbiamo già visto nella prima fase di ingresso a tariffa puntuale circa 13 comuni non è banale non è facile per il motivo che il gestore sostanzialmente vado su dall'aspetto che a me preoccupa in tutta questa tutta questa non solo discussione ma azione che credo sia giusta da rafforzare da portare avanti il gestore non è un gestore che sostanzialmente ha una visione una impostazione una conformazione verso il gestore questo lo dobbiamo dire la stessa operazione che è stata fatta recentemente di andare verso la multitudine a noi preoccupa proprio per come è stata impostata e proprio per come si prospetta in futuro proprio perché si intravede diciamo un tipo di approccio che non è coerente con il concetto di economia circolare quindi la preoccupazione è che il lavoro dei sindaci non più pochi ma ancora pochi sindaci che stanno cercando di lavorare per portare avanti una impostazione un modello di sviluppo un modello di vita sia dei cittadini ma anche di sviluppo produttivo quindi anche un modello appunto di civiltà che tenda a non produrre rifiuti o a produrre sempre meno richiede secondo me richiede appunto una visione sistemica dove tutti gli attori devono avere un approccio orientato a quello che ovviamente dal punto di vista della declamazione della dei documenti che produciamo sono tutti abbastanza condivisi e si pronuncia appunto il concetto dell'economia circolare ma poi nei fatti nelle politiche nelle azioni di tutti i giorni vediamo che questo purtroppo non è fare e andare verso un concetto di economia circolare di più di zero richiede richiede appunto un forte coinvolgimento della cittadini della popolazione degli stessi produttori almeno nella nostra realtà tuttora appunto la produzione di rifiuti che viene dall'attività produttiva e comunque al di nuovo stiamo cercando anche di fare delle azioni in quella direzione che qualcuno di voi ha detto di design del prodotto o design dell'ambiente da questo punto di vista un aiuto ci viene perché sul nostro territorio c'è il campus design dell'università di Firenze e stiamo lavorando per cercare di metterli insieme gruppi di imprese con l'università proprio per sostanzialmente andare verso produzioni di realizzazione di prodotti appunto che siano tutti recuperabili che siano tutti riciclabili per far sì che appunto che lo scarto non esista ovviamente è un processo lento e faticoso ma ci stiamo impegnando e crediamo che sia importante così come siccome Calenzano ha una forte presenza di attività produttive ma ha anche un territorio molto vasto dedicato al rurale attraverso il biondistretto che come Carminiano abbiamo istituito proprio negli scorsi mesi stiamo facendo anche qui un discorso sempre con l'università per andare a recuperare quelli che sono gli scarti delle agricolture per esempio le posature sono quantità importanti che oggi come sapete poi vengono bruciati e quindi producendo anche non solo perdendo materiale può essere recuperato ma poi provocando emissioni che sono anche da luce quindi dicevo che a mio parere un aspetto importante come amministrazione come anche movimento che dovremmo mettere sotto attenzione è il ruolo di quelli che sono poi soggetti che al di là di tutto determinano le scelte delle politiche anche in materia di organizzazione di smaltimento dei rifiuti o comunque di trattamento dei rifiuti fanno particolare oltre che la regione che decifra che appunto ho sentito un po' a quelli che sono gli aspetti di criticità che condivido perché noi dobbiamo ovviamente forci degli obiettivi che si sono di rispettanti performanti sostanzialmente adeguarsi a quello che già abbiamo perché se no ovviamente rischiamo appunto di fare passi invece però ci sono tutta una serie di soggetti a partire appunto dalle autorità di ambito e ripreso secondo me i gestori le aziende che gestiscono di fatto l'organizzazione della raccolta del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti su cui dobbiamo fare un grosso lavoro perché ripreso almeno questa è la mia visione nella nostra realtà sia l'autorità di ambito sia il gestore non hanno diciamo una visione impostata attraverso l'obiettivo dei rifiuti zero questo secondo me è incontrovertibile e quindi dobbiamo necessariamente riuscire a portare queste politiche fare uno sforzo per far sì che la contaminazione e soprattutto l'impegno sia quello di impostare i piani d'ambito e diciamo industriali delle società che poi gestiscono i servizi in modo tale che rispondano a quella visione e a quel concetto di rifiuti zero oggi non è così qualcuno prima di me già oggi la raccolta differenziata pur essendo a un livello non ottimale ma comunque elevato da parte di questa raccolta poi sostanzialmente c'è un ulteriore scarto si parla di circa un 30% l'ambito Toscana Centro mi pare come raccolta differenziata sono circa 580 mila connellate quindi un 30% vuol dire che una buona parte ancora sostanzialmente di questa raccolta differenziata che è costato impegno che è costato soldi che è costato risorse e organizzazione poi alla fine proprio per la cattiva qualità di questa raccolta differenziata sostanzialmente può essere trattata e smaltita in questo quindi dobbiamo fare un lavoro importante quello che però oggi vediamo che io noto è una difficoltà rispetto al ruolo dei sindaci di incidere su quelle che sono poi le scelte le scelte che vengono fatte a livello di ambito e a livello di gestione cioè i sindaci oggi molto spesso si riducano almeno i sindaci dei comuni un po' più piccoli poi ovviamente c'è chi ha maggiore ruolo ma il grosso dei comuni sostanzialmente si risolve avere un ruolo nella gestione dei rifiuti e quello dell'approvazione delle tariffe che qualcun altro peraltro ha già determinato e quindi sostanzialmente a andare in consiglio comunale a pagare il conto di quello che altri hanno deciso e hanno diciamo prodotto quindi su questo credo ci sia un lavoro importante da fare la rete che piano piano stiamo costruendo credo sia importante però dobbiamo trovare il modo questo appunto chi di noi ha portato avanti questa battaglia dobbiamo trovare il modo di incidere maggiormente all'interno dell'autorità di ambito e dei gestori perché attualmente quelle che sono poi la detenzione delle informazioni e l'impostazione di un management che non è indirizzato verso una politica di difisi zero ma tende sostanzialmente a condurre i gestori le società che gestiscono i rifiuti in un'ottica di business sostanzialmente che a vedere solo i numeri che poi vengono sintetizzati nei bilanci finali in questi giorni a breve Alia presenterà il suo bilancio con un utile di oltre 22 milioni quindi questo già fa capire che molto probabilmente l'obiettivo diciamo la missione all'interno della gestione non è stata sicuramente quella di ottimizzare i servizi in termini di riduzione appunto dei rifiuti ma poi è stata l'attenzione è stata più quella di avere un risultato che deve rispondere a quelle che sono gli indirizzi dei finanziatori cioè delle banche che sostanzialmente danno i finanziamenti e chiedono risultati a doppia cifra quindi è importante credo appunto oltre il ruolo che ciascuno di noi ha per lo sforzo di ampliamento e di coinvolgimento della comunità della democrazia e diciamo di ampliare la democrazia della condivisione per i cittadini dobbiamo però fare uno sforzo anche verso queste istituzioni esterne che altrimenti rischiano di vanificare anche il lavoro che con impegno non con impegno importante i sindaci e i comuni stanno facendo nel loro territorio quindi grazie per questa occasione e spero che appunto il lavoro di tutti noi possa condurre a un cambiamento di impostazione che è necessario è indispensabile ma ancora non è diffuso all'interno di tutta la comunità grazie grazie davvero a Riccardo che mi viene a dire un nuovo compagno di viaggio ma insomma sia con te ma anche con il tuo predecessore già su con Diagioli su tante partite su tante tematiche che abbiamo collaborato assieme è importante quello che hai detto la capacità per noi sindaci di fare squadra di fare sistema anche all'interno dell'ambito dell'atto Toscana Centro su cui a mio avviso c'è stata negli anni una suddizianza eccessiva nei confronti del management di AIA questo secondo me credo sia un punto essenziale da portare avanti prima c'era un dato che è importante che a noi sindaci tante volte c'è stato rinfacciato sì non guardate solo la raccolta differenziata ma guardate quanto andiamo a recuperare da quella raccolta differenziata però i nostri dati a disposizione ci dimostrano e nel piano che è stato presentato a livello regionale che una raccolta differenziata che ha il binomio porta a porta e la rifazione puntuale la quantità di scarto si riduce al 3-5% sulla parte organica che è la fetta più grossa di raccolta sale fino a un 10-18% in alcuni casi sul multimaterale leggero che però in termini di pesatura è una fascia estremamente piccola che si può cercare di recuperare in delle fasi di trattamento a freddo successivo però ecco questo va spiegato bene perché in buona parte dei comuni dei territori della nostra attrazione questo non non avviene ecco passando sempre a quell'ottica che ha che sta contraddistinguendo questo nostro incontro quello dei comuni e della comunità e quindi tutti quei soggetti che hanno responsabilità nella gestione del ciclo dei rifiuti oltre ai comuni e ai sindaci un ruolo importante direi fondamentale è quello dei gestori d'ambito e se prima abbiamo parlato delle buone pratiche del lato toscana costa ci spostiamo un po' più a nord mi viene da dire verso quella provincia di Treviso estremamente virtuosa e passiamo la parola anzi ringraziamo per essere più presente noi Paolo Contò che è direttore dell'ente d'ambito di governo di Bacino dell'Apricola cioè la famosa esperienza di Contarina che tanti di noi abbiamo evocato tanti di noi abbiamo citato come uno dei gestori più virtuosi a livello italiano quindi ieri abbiamo fatto la prova con Paolo Contò e tutto andava bene speriamo non ci siano problematiche anche oggi incrociamo le dita e passiamo la parola a Paolo grazie sindaco valutano tutti ecco forse bisogna spegnere l'audio del computer per evitare che mi ritorni perfetto saluto tutti i sindaci presenti intanto mi sento in casa perché anche io ne ho 49 e quindi la discussione mi piace saluto anche Rosano Ercolini che sono degli amici fa parte degli amici che ho conosciuto una decina di anni fa quando mi hanno informato che in fin di conti noi avevamo assunto la strategia a rifiuti zero senza saperlo e quindi nel 2013 adesso ricorre proprio dieci anni abbiamo fatto la famosa deliviera di impegni ma in realtà ci eravamo mossi inconsapevolmente verso quella direzione quindi saluto Rossano di cuore ecco mi farò aiutare anche da una presentazione quindi vediamo se va bene anche per il momento non la vedo ma riproverò vediamo ecco sì la vedo e spero la vediate anche voi magari con pollice ecco vediamo il presente vado in presentazione ecco qua la vedete tutti sindaco si vede bene? sì sembra di sì benissimo ora mi sporto un attimo questo va bene perfetto ecco questa prima diapositiva precisa ai soggetti io sono il direttore del consiglio di Bacino Priula che raggruppa 555.000 abitanti quindi abbiamo 49 sindaci che hanno adottato la medesima politica di cui oggi avete parlato auspicato anche da un certo punto di vista no? una rete di sindaci se vogliamo del nostro territorio che ha i valori di cui ho sentito parlare e gli obiettivi tanto è vero che quella delibera non è stata solo una delibera dei comuni ma è stata prima di tutto una delibera di assemblea immaginate che i sindaci che ho sentito parlare e tutti gli altri gli altri 40 facessero parte di un'unica aggregazione legata fra di loro che avesse assunto questi obiettivi che ci avete un po' parlato o descritto che Rossano evoca continuamente ecco messi insieme da una forma associativa ecco voi capite subito che le iniziative le scelte sarebbero tutte molto più facili perché partite dal medesimo i valori di riferimento e obiettivi ecco questo è il consiglio di Bacino Priula le scelte sono fatte insieme in un'unica sede ma è semplice perché tutti hanno il medesimo riferimento abbiamo anche una società in house che vedete un po' semplicemente rappresentata qui sotto e perché ritengo che lo strumento dell'in house come è stato anche così segnalato voluto dal territorio di cui Luca Menesini ne ha parlato è uno strumento per me indispensabile perché colui che è strettamente legato ai comuni e che proprio per questo riesce nel tempo a modificarsi e ad adattarsi meglio di un contratto di gara ecco a quelli che sono gli obiettivi e le cose che cambiano al miglioramento continuo che sottende anche l'obiettivo dell'azzeramento di questo indesiderato fattore che si chiama rifiuti che potrebbe essere indesiderato in altri settori per esempio malattie o incidenti stradali ecco è qualcosa che cambia nel tempo perciò ha bisogno di una società in house è una società che non deve eseguire puramente ma deve avere gli stessi valori non va bene io faccio quello che mi dice il padrone è una società che ha la medesima vision avrà una mission differenziata perché si occupa della raccolta della gestione eccetera rispetto a quello delle politiche che per esempio il nostro bacino e i comuni normalmente si occupano le tariffe eccetera ma deve condividere ed avere lo stesso obiettivo dei propri soci ecco perché una società di questo tipo il mio territorio è fatto di varie zone lo vedete anticipato qui sotto abbiamo anche noi le nostre zone collinare e montane abbiamo le zone dense i centri storici la città di Treviso molto particolare per la sua gestione ecco queste sono le funzioni quindi che sono delle distinguono i ruoli dell'ente di bacino del priula se volete sono quelle degli enti d'ambito forse un po' più forte perché anche la regolamentazione la determinazione delle tariffe non sempre che si riscontra negli enti d'ambito molto spesso sono un po' più deboli e per questo frammentati ecco questo bacino crede molto in questa assemblea di 49 comuni e che da anni con alternate maggioranze continua a votare correntemente perché ormai i valori sono tutti condividi sostanzialmente ed è per questo che le decisioni vengono prese solo a livello di bacino ed esplicano i loro effetti nei territori quindi abbiamo una gestione omogenea questo vuol dire trattare tutti i cittadini in maniera uguale indipendentemente dal territorio che si trova perché una suddivisione creerebbe regole diverse creerebbe tariffe diverse e come tali tratterebbe un cittadino di un comune rispetto a un altro a parità di servizi a parità di condizioni le tariffe sono uguali perché così a quel servizio corrisponde una controprestazione del cittadino quindi c'è un principio di uguaglianza che ha guidato per noi la scelta di avere tariffe di base uguali per tutti per un servizio di base uguale per tutti tariffe di bacino di differenziate solo nei casi in cui i comuni scegliono degli standard diversi normalmente legati alla pulizia del territorio ai servizi al territorio però a parità di servizi extra hanno la tariffa uguale tra comuni diversi che hanno diversità rispetto alla tariffa base scusate il giochino di parole ma serve per dire come si sta insieme anche tra differenze trattando i cittadini uguali a parità di condizioni che riusciamo a fare a fare squadra organizzare il servizio su area vasta puntare tutti insieme all'innovazione questo è uno strumento per ridurre i rifiuti per arrivare agli obiettivi anche quello della governance anche quello della società di un certo tipo non solo quello che servirà per il servizio ecco la società è così si occupa con questo spirito però su tutti i servizi previsti deliberati dall'assemblea quindi la raccolta porta a porta quindi anticipo poi il modello come forse si saprà raccolte aggiuntive dedicate per le aziende che sono particolari lo spazzamento il piano foglie e via dicendo i servizi al territorio persino la raccolta con le canoe sui corsi d'acqua per i rifiuti galleggianti è veramente inteso ho compreso le bonifiche delle vecchie discariche degli anni 70-80 che sono il peso di quello che allora non era stato scelto e che oggi invece è realtà e poi l'applicazione e la discussione delle tariffe non siamo in tazza siamo in tariffa corrispettivo credo che così lo siano per esempio gli amici di hashit che prendono ciò che è stato deliberato dal comune o dall'ente e li applicano ai cittadini dicendo questo è il prezzo che direttamente chiedo a te del servizio pubblico senza passare attraverso la tassa del comune anche questo è compreso nei costi compreso la parte di chi purtroppo alla fine non paga ecco quindi è una realtà molto grande e quando racconto questo modello per molto tempo era un po' seccato ora sono anche un pochettino incazzato cioè ci siamo considerati che questi 550.000 abitanti siano come un'isola in un qualche oceano pacifico che fa una raccolta molto elevata e per tale motivo isolati perché non rappresentiamo la realtà dell'Italia dell'Europa eccetera siamo sempre stati considerati una cosa ma sì non è da considerare è un'eccezione cioè 555.000 abitanti e se aggiungiamo anche tutti gli altri amici lì presenti e che sono raggruppati dell'esperienza che Rossano porta avanti siamo una realtà forte e nonostante questo non considerate primo aspetto che per me è un po' comincia a pesare dopo 22 anni di questo modello dire che questo sì non si può fare di qua non si può fare di là ci viene detto al profondo nord e al profondo sud quando poi scopriamo in realtà il profondo sud molto efficienti e in realtà il profondo nord anche inefficienti quindi questa cosa è un po' un qualcosa che ci fa sentire continuamente come ci sentiva Giorgio del Vingoro quando ne parlava un po' guardate un po' così strano ecco continua purtroppo a esserlo uno un altro aspetto è del modello che qui è rappresentato da un aspetto sistemico come lo è la gestione dei rifiuti come lo accennava anche il sindaco di Calenzano è un modello sistemico è fatto da azioni conseguenze conoscenza che ha il principio di responsabilità in mezzo le azioni sono le raccolte responsabili cioè individui responsabili di chi di chi li ha in mano quella responsabilità è di chi la ha in mano quindi se c'è una parte che è in mano dell'utente il modello deve essere qualcosa che responsabilizza l'utente quando il rifiuto ci sarà in mano di Ascite di Contarina del gestore e via dicendo quella sarà una responsabilità collettiva nel nome di tutti ma prima di tutto deve essere una responsabilità del cittadino quindi questa seconda cosa che un po' io vorrei venisse meno perché è questa che ci sta spostacolando un po' in Italia e anche oltre che non dobbiamo aver paura di disturbare i cittadini disturbare cosa vuol dire? dare la responsabilità a un soggetto significa disturbarlo cioè dare il sistema che coinvolga e faccia fare i conti con il proprio rifiuto con la propria tariffa per il rifiuto prodotto al cittadino non è forse dare la propria responsabilità o è disturbato cioè molto spesso vengono inseriti dei modelli che non disturbano non voglio portare sul porta a porta perché per carità se no uno ha il bidoncino a casa il sacchettino che deve mettere c'è l'orario da mettere il giorno non voglio disturbare ecco questa cosa se per noi politicamente responsabilità vuol dire disturbare c'è qualcosa di sbagliato nella Costituzione ecco questo primo principio quindi purtroppo si vedono si vedono qui in Veneto si vedono in Toscana e neanche molto lontano da voi ecco situazioni dove non si vuole disturbare ecco il servizio se disturbare vuol dire responsabilità vuol dire deve disturbare il cittadino cioè deve fargli fare la sua parte quindi avere il proprio servizio che normalmente lo gestisce in casa quando è ora lo porta o a un punto mobile o a un punto fisso comunque presidiati per essere raccolto e risponderne per la qualità la quantità avere la conseguenza sulla tariffa essere informato per farlo bene ecco questo è il modello di gestione quindi non è possibile che ancora adesso in Italia si pianificano questi modelli di gestione alcuni devranno essere tolti dal tangolo delle opzioni possibili perché altrimenti cade un po' anche poi i nostri principi idrocratici vado avanti ecco questo è il modello principale non l'unico di quello responsabilizzante che abbiamo quindi porta porta e tariffa puntuale che non può mancare non può mancare una conseguenza di propri comportamenti su un sistema responsabile lo abbiamo su tutto il territorio ecco e ovviamente essendo variegato di caratteristiche di dimensioni diverse sia i contenitori e le attrezzature che diamo a seconda della situazione ecco vedete anche per zone per distinto per zone per utenze non domestiche trattate con flussi di servizi anche particolari ma non sono sottratte da questo modello di gestione ognuno può avere il proprio sistema unitario però che cambia di graduazione di volumetrica anche i sacchetti che noi non usiamo per il porta a porta ma per conferire dei punti mobili ma che comunque non cambia il principio di responsabilità ecco e forse qui mi mancano le frequenze forse mi mancano le frequenze le frequenze sono direttamente proporzionali alla complessità cioè più il sistema è denso più il servizio passa perché c'è un contenitore più piccolo c'è meno spazio ecco quindi abbiamo una crescente frequenza di servizio domiciliare al crescere della complessità della verticalità però il nostro principio è dare a ciascuno la propria attrezzatura perché esplichi la propria responsabilità evitiamo tranne casi di collettivizzare la responsabilità e quindi le raccolte troviamo piuttosto delle soluzioni di cui vi parlerò ecco nella zona complessa che pur abbiamo visitate Treviso faccio un po' di pubblicità e vedrete o meglio non vedrete la presenza di contenitori perché si sono adattati anche nel centro storico medioevale eccolo qua si dicevo le frequenze pensavo di non averla vedete è variabile a seconda della complessità la zona standard però raccoglie l'indifferenziato una volta ogni due settimane con contenitori normalmente da 120 litri e i condomini anche da 30 litri lo sappiamo che è sufficiente una raccolta ogni due settimane perché la percentuale di utenze che espongono i propri contenitori sono attorno al 12% 13% quindi assolutamente abbondante raccogliere 26 volte all'anno quando la media dei conferimenti è a 4-5 contenitori da 120 litri all'anno quindi questo rappresenta un po' la reazione al sistema tariffario alla raccolta differenziata agli altri contenitori disponibili alla facilità di usare un servizio domiciliano e nelle situazioni più complesse abbiamo anche dei sacrifici tipo anche qualche volta abbiamo dei condominali come l'ho detto abbiamo l'ecobus che abbiamo indicato e l'ecostop mezzi mobili presidiati a punto fisso stazionanti ecco poi forse li vediamo e sotto vedete anche la possibilità di dedicare degli spazi che noi chiamiamo ecco punti ecco arredi dove la mancanza interna o esterna di spazi può consentire in maniera coperta all'utente di depositare il proprio contenitore non sono collettivi hanno tutto un nome e cognome quelli che vedete in questa fotografia in basso questo è un altro modo per cercare di mantenere la responsabilità individuale ecco qui abbiamo la foto e sono questo è un angolino molto bello di treviso con sottoportico che dà sulla pescheria e questi sono contenitori di utenze non domestiche della zona che sono più di una contenitori delle utenze non domestiche con la chiave di quell'attrezzatura che noi abbiamo ed è un universale ma lì troviamo il contenitore che non aveva trovato spazio in un'utenza in densità di zona come quella che vi ho appena accennato ecco qua i mezzi mobili i mezzi si fermano tre quarti d'ora l'ecobus un'ora l'ecostop si muove come una metropolitana leggera di superficie stazione poi si sposta ai 200 metri si incrocia secondo una rete che permette all'utente di avere davanti o dietro di sé di fianco o sulla strada a fianco una fermata nel tempo in orario serale se non ha potuto conferire porta a porta o voluto la mattina nel pomeriggio pre-serale tornato a casa del lavoro può utilizzare uno qualsiasi di queste fermate questa è ancora responsabilità individuale perché c'è la stessa dinamica l'utente arriva consegna il suo bidoncino lo viene misurato viene registrato in base a quello pagherà il nostro operatore come sempre fa un controllo rapido come lo farebbe nel porta a porta quindi i principi dell'responsabilità individuale supera il porta a porta comprendendola ma comprendendo altre modalità compatibili altre non lo sono questo come ho detto prima ecco l'idea della subway di New York ecco insomma è una rete strutturata di servizi che va incontro alle complessità senza disturbare vogliamo dirlo questa volta l'utente ecco senza senza quella di costrizione se vogliamo all'appiattimento come in altre situazioni il sistema cioè dove il porta a porta ha dei limiti diamo dei servizi di supporto anche alternativi ma con la stessa logica ecco a quel punto l'alibi del disturbo cade si può fare dappertutto ecco lo stiamo facendo in 500.000 abitanti mi domando se altri 500.000 a fianco a noi perché non farlo visto che la complessità ce l'abbiamo noi ce l'avranno quelli a fianco ecco ecco centri che sono disponibili a tutti i cittadini i servizi sono fruibili dappertutto quindi indipendentemente della propria ubicazione territoriale residenza perché condividiamo tariffe logiche sistemi e quindi abbiamo una uniformità di gestione e apriamo le possibilità dei cittadini abbiamo creato i mezzi questi sono denominati priola tech perché hanno sono stati pensati per il porta a porta l'uomo guida a destra ha una seduta e una vicinanza a terra per le sue discese ha degli avancassonetti non so come chiamarli dei punti in cui può scaricare dei mastelli insomma si trova in condizione ottimale quindi quando si pensa a un sistema si pensa ai mezzi non tutti i mezzi sono uguali per tutto ecco purtroppo non è così diffuso il tuo pensiero quando c'è bisogno invece di avere grandi movimenti i mezzi piccoli vanno come dei figli dalla madre e conferiscono identificandosi su quale rifiuto stanno trasportando con dei trasponder e pesando la quantità di ogni di ogni conferimento che viene portata a distanza dove serve ecco la tariffa puntuale è in tutti i 49 comuni è appunto una corrispettiva di un servizio una tariffa riscossa dal gestore lo abbiamo fatto con dei trasponder associati ad ogni contenitore e al momento della consegna o iniziale o al nuovo utente allo sportello o alla consegna domicilio a quel punto la lettura di questo dispositivo elettronico abbondantemente ormai usato permette di associare quel movimento che noi abbiamo attribuito principalmente ai rifiuti indifferenziati a quell'utente che originalmente era stato associato ecco questa è l'operazione mattina presto col buio quel trasponder è un trasponder a bassa frequenza oggi sono tutti ad alta frequenza nel 2001 quando abbiamo iniziato non c'erano perché quelli ad alta frequenza erano riservati solo a obiettivi militari insomma poi sono stati smilitarizzati quindi abbiamo ancora due generazioni di trasponder per dire quanto tempo ormai questa cosa si fa e mi fa sorridere quando si dice non funzionerà non funziona insomma che cosa dobbiamo dimostrarvi ancora ecco questa è la nostra tariffa è ancora più raffinata dopo 22 anni abbiamo quadrinomiale la parte presuntiva di abitanti o di superficie per le utenze non domestiche è ristretta a un quarto del totale e con delle regole che ne depotenziano la possibilità di essere un po' deformata quindi andiamo o a contenitori una parte in base al volume di contenitori consegnati come fosse un contatore a quante volte ci siamo fermati a raccoglierli e quanti rifiuti ci siano molto banale concettualmente è molto banale dentro c'è un lavoro c'è stata un'esperienza ma non è impossibile lo stiamo facendo dappertutto da Treviso al comune dei migli abitanti che abbiamo ovviamente tanta comunicazione la comunicazione è tanto più necessaria quanto più un sistema coinvolgente i sistemi che non disturbano non disturbano neanche la comunicazione non hanno bisogno di informare per comunicare tanto uno che ha meno significato perché l'utente è meno coinvolto e quindi è più resiliente anche ai messaggi comunicativi perché è il sistema che non è coerente che comunica al contrario ecco nel nostro sistema invece comunica nella stessa direzione del sistema gli utenti lo richiedono voglio pagare il meno possibile il giusto e dico come facciamo a separare bene gli diamo dei messaggi anche di questo tipo attenzione ho raccolto ma aveva un problema attenzione non ho raccolto perché c'era un problema grosso sistema milla cosa che poi tornerò ecco è necessario comunicare quando l'esposizione è di notte e il mattino successivo c'è la raccolta bisogna trovare un sistema per dato il tempo differito mentre quando avviene il conferimento ai centri mobili la comunicazione signora mi può togliere per favore quel pezzo di carta nella raccolta della plastica grazie questo è un po' necessario l'impiantistica abbiamo due poli impiantistici uno per le frazioni organiche umido vegetale che appunto produce compost e tra qualche giorno nel senso che è stato acceso anche il biodigestore produrremo biometano che utilizzeremo per i nostri mezzi anzi ne avremo un po' in abbondanza mentre abbiamo un polo delle frazioni secche che per tre quarti è dedicato ai riciclabili quindi la carta valorizzazione della carta abbiamo anche l'impianto sperimentale per i rifiuti assorbenti la plastica gli ingombranti e poi anche il trattamento del rifiuto secco che è un trattamento meccanico non più biologico perché non abbiamo più umido all'interno del secco e va agli impianti regionali di discarica e di incenerimento abbiamo una pianificazione regionale dove il rifiuto non differenziato è pianificato e regolamentato dalla regione era una provincia una volta ora la regione questi sono i flussi che raccogliamo i macro flussi se vogliamo vado avanti per anche raccontare il nostro inizio la porta a porta è iniziato nel 2001 la tariffa puntuale su un semibacino nel 2002 e poi nell'altro quindi tutti nel 2009 il comune di Treviso è arrivato nel 2013 è iniziato nel 2014 la tariffa puntuale questo è gli risultati medi anche quest'anno abbiamo mancato il 90% di raccolta differenziata per un decimo però abbiamo comuni il nostro comune campione è 94,1% è un po' sotto l'obiettivo che ci eravamo dati al 2022 quindi lo devo dichiarare di fronte a Rossano Ercolini che era previsto al 96% quindi questo gruppo immaginate il peloton del Giro d'Italia che arrivano tutti insieme stanno toccando il traguardo quasi tramite il primo che arriva ma poi sapete il tempo del gruppo è uguale al primo che tocca il traguardo e probabilmente non sarà il 2022 ma sarà il prossimo anno o poco più avanti insomma ci stiamo spingendo verso lì questo invece è la quantità di rifiuto residuo che abbiamo abbassato ancora un pochettino nel 2022 il nostro obiettivo è un po' più basso è significativamente più basso 10 tonnellate qualche problema ci ha dato l'impianto dei pannolini che avrebbe aiutato non poco stiamo vedendo anche con Aschit e con altri siamo in contatto per come proseguire da quel punto di vista questo è il nostro costo vorrei fare una chiosa questi sono i costi medi di una famiglia nel nostro territorio rispetto a quelli dichiarati dalle pubblicazioni del territorio intanto insomma non si spende di più prima perché qualcuno direbbe ma sì noi abbiamo più servizi ma siamo una grande città sì sì tutto giusto posso dire che non spendo di più sì almeno questo sì concedetemelo seconda chiosa è stato detto eh ma se non ci saranno gli inceneritori spenderete il disastro bene se io avessi un raddoppio di costo il raddoppio eh di costo di trattamento del mio indifferenziato che abbiamo visto è poco quindi spassassi da 150 a 300 questo può essere il disastro prefigurato bene facciamo finta che sia così ecco l'aumento della tariffa per i nostri utenti sarebbe attorno al 3% disastro 4 diciamo 4 teniamoci più larghi perché se no qualcuno potrebbe dire sì ma poi gli scappi 5 sapete quanto è stato l'effetto dei costi energetici nell'anno 2022 nella tariffa nel costo di gestione complessivi del vaccino 4,2% 3 milioni nel nostro territorio cioè stiamo parlando di disastro quando possono essere nelle fluttuazioni di un mercato difficilmente controllabile non solo non solo l'energia ma anche sulle materie prime perché poi le opportunità dipendono da da altri tipi di dinamica ecco questo è una chiosa che mi sono sentito ridire avendovi ascoltato in precedenza attenzione la raccolta differenziata ti protegge la riduzione ti protegge te fattori fuori controllo potrebbero essere anche l'incendio le discari l'energia le materie prime che ne so ecco ti protegge da questo punto di vista io ho finito non mi ero accorto di finire non so se ho devo rimuovere no non so come fare qua il la mia vediamo qui non so come forse vedete ancora lo schermo vero si Paolo c'è un qualche bottoncino interrompi la condivisione ecco qua bene l'ho trovato scusate non so se sono andato oltre il programma probabilmente si mi lascia un po' tra l'altro è stato interessantissimo anche se ti dico siamo un po' preoccupati perché non hai raggiunto l'obiettivo nel 96 ma ti sei fermato al 94 e questo ci ha pensato tutti no veramente a parte le battute i dati che ci hai mostrato sono interessantissimi cioè il 94% di raccolta differenziata un costo di tariffa per gli utenti è veramente invidiabile penso da più di mezzo Italia per non dire il 90% d'Italia è una produzione pro capite di rifiuti bassissimo quindi credo che veramente dà l'idea che non solo tutto in serie è possibile ma che va a connotarsi come una best practice come qualcosa che dovremmo cercare di mettere appunto un po' tutto e passando mi tirerà le orecchie adesso per questi due per cento grazie voglio ringraziare lavoriamo Luca Giorgiano l'assessore il sindaco di Pannoli lavoriamo insieme per la sessione Pannolini e Pannoloni più che Pannolini e grazie di nuovo perché insomma non possiamo e non dobbiamo tornare indietro i risultati ci sono le esperienze industriali sono solide e quindi assolutamente dobbiamo fare squadra perché altrimenti a tornare indietro è un soffio di vento grazie grazie Paolo con un aperto veramente grazie a Paolo per il lavoro che stanno svolgendo ecco restando sempre nei termini della comunità un altro soggetto importante nella gestione dei rifiuti è la parte dell'imprenditoria figura dell'imprenditore dell'azienda e qui con noi abbiamo una figura che a mio modo di vedere è importantissima che è quella di Fabrizio Tesi presidente Astri e Comistra SRL che ci parla appunto dell'economia circolare dell'upcycling del tessile appunto non si può non parlare di Prato senza non tenere di conto di quella è la parte del tessile della della manifattura tessile ecco un tempo il nostro distretto è il distretto dove ci sono state le prime forme di riciclo mio nonno faceva il cenciaiolo ed era una forma di recupero di questa materia che è importante oggi tante volte vediamo questi bruttissimi sacchi neri nelle migliori dell'occasione gestiti in modo corretto nei modi diciamo legali ma con una scarsa capacità di recuperare quei materiali altre volte questi sacchi sono sparsi nella nostra campagna quindi il tema del riciclo e del recupero della materia legata al tessile per il nostro distretto è cruciale quindi ti passo la parola cercando di capire dal tuo esempio dal tuo lavoro di imprenditore come stai affrontando questa questione non tanto sotto l'aspetto del problema ma anche quello l'opposizione grazie a essere con noi ti passo la parola grazie a voi grazie a tutti grazie a voi e un grazie a Rossano per parlare e di portare degli esempi virtuosi e poi magari vediamo perché ci riprendano quindi ci vedranno ecco allora voglio mandare un messaggio allora voglio mandare un messaggio dire a coloro che ci ascolteranno ora e dopo che Rossano gli attivisti sindaci che si battano per arrivare a degli obiettivi virtuosi non sono devisionari non vengano da morte anzi io sinceramente farei un bel biglietto di sola andata su Marte a coloro che vogliono incenerire un biglietto di sola andata sì perché perché lo dico perché sicuramente la mia esperienza l'esperienza della famiglia che nasce nel 1920 in casa mia rifiuti non ce ne parlavo ma non si parlava nemmeno di economia circolare perché l'economia circolare è una cosa che nasce dall'uomo primitivo cioè o si riusava o si riciclava o si faceva assai i nostri antenati riciclava cioè la spazzatura è nata negli ultimi anni negli ultimi decenni oggi dobbiamo parlare magari di un'altra cosa di un'economia circolare industriale bisogna industrializzarsi a fare un'economia circolare e perché sono qui perché sono a rappresentare come dire un'associazione l'associazione deve essere citata l'italiana nata nel 2017 da degli imprenditori io ho la fortuna l'onore e l'onore di di presiedere ma perché è nata perché ci sono delle contraddizioni ci sono purtroppo in Italia delle grosse contraddizioni a livello normativo ok nella gestione dei rifiuti purtroppo siamo figli di normative che vengono da lontano e quindi oggi obsolete bisogna cercare di snellire la burocrazia per arrivare a fare una transizione ecologica vera e sono qui a portare come dire a parlare di tessile un argomento molto complesso ma cercherò di essere sintetico per capire dov'è il problema ma anche la soluzione ormai il tessile sotto riflettori di tutti è la seconda industria più inquinante del pianeta prima Luca che ha avuto come dire mi ha onorato della sua presenza in azienda e Rossano e Florini più volte ha potuto vedere quello che si riesce a fare dare una risposta alla seconda industria più inquinante del pianeta pensate che solamente il tessile utilizza il 20% di acqua potabile e il 10% delle emissioni quanto più gli aerei e le navi messe insieme quindi che settore veramente inquinante l'acqua che sappiamo benissimo essere uno dei grandi delle grandi risorse di cui noi abbiamo necessità ma il tessile non si sta fermando il tessile non si sta fermando sta andando ancora avanti diciamo è previsto è previsto nei prossimi anni un aumento continuo questo perché per effetto di un di errori che fanno la produzione i legislatori e noi stessi noi a oggi il cittadino va a comprare a cercare un prodotto economico quando non sa che pagherà più quel prodotto rispetto a un altro prodotto fatto bene e che abbia una longevità qui dietro l'immagine parla chiaro solo l'1% del materiale viene riciclato a livello planetario ma vediamo che cosa sono fatti i nostri vestiti ebbene essere consapevoli i nostri vestiti di cui ci vestiamo sono fatti essenzialmente di prodotti che sono altamente inquinanti e dannosi il cotone perché perché si legge qui davanti va a come dire a consumare 20.000 litri di acqua per produrre un chilo di 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 prodotto il cotone è un problema a livello di pesticidi e insetticidi perché quando si coltiva si avvelena le falde acquifere il jeans è il prodotto più utilizzato a livello planetario ogni secondo 60 paie di jeans vengono prodotti il poliestere in primis ma perché il poliestere perché il poliestere è una fibra che costa poco dove i brand si fanno tanti guadagni e così si possono comprare gli otte le barche alla faccia dei consumatori che pensano di andare a comprare un prodotto di livello ma prendano un prodotto che ha un grosso impatto ambientale ok perché perché oggi dobbiamo per produrre il poliestere che è la fibra più utilizzata a livello planetario andare a estrarre a un petrolio che è sempre a più bassa profondità brucia e quindi è sintetico e crea e crea inquinamento quando lo si mette nell'area ecco perché manderei su Marte coloro che vogliono bruciare il poliestere non è possibile mandarlo in discarica perché supera come dire l'antimonio è un veleno è un cancerogeno e sappiate o sapete come me quanti danni creano il mare quante microplastiche noi quando mangiamo i pesci ci ingeriamo tutte le volte che facciamo un bel piatto al pesce o allo spugio la presenza di antimonio di cui dicevo prima che non è un problema perché l'antimonio è un catalizzatore del poliestere e quindi dà grossi problemi allora vediamo io ho parlato delle due fibre il cotone e il poliestere ma qual è la fibra più sostenibile chiaramente quella che viene dal mondo del riciclo io sono un laniero la mia storia dal 1920 è un laniero però la fibra più la fibra riciclata chiaramente ben accetta da qualsiasi sia il tipo di fibra ma perché ciò è potuto accadere perché purtroppo negli ultimi 15 anni pensate la quantità di fast fashion e di tessile è raddoppiata 15 anni Rossano 15 anni non solo 15 anni e purtroppo perché è raddoppiata per due effetti la popolazione è aumentata dalla dall'evoluzione industriale in poi siamo passati da qualche milione di abitanti qualche un milione nemmeno mezzo miliardo di abitanti a 8 miliardi quindi probabilmente in futuro la domanda di fibre e di risorse sarà incredibilmente molto più alta rispetto a quella che siamo oggi ma perché è potuto succedere perché ci sono stati due effetti gli effetti di un cambiamento di moda prima si faceva l'inverno estate la prima vera scusate l'inverno l'automundo la prima vera estate oggi pensate che i nostri brand Zara e CM Primark fanno una collezione a settimana quindi il consumatore è diventato un papero lì che mangia continuamente per essere ingrassato e quindi preso in giro scusami spero che sia io che mi sono venuta a noi si condividono le slide si condividono bene ecco perfetto eravamo rimasti qui allora sono io ad avere il problema poi si dico delle cose scondono se qualche brand mi si è inserito dentro perché faccio nome e cognome bene proviamo ora allora come nasce il Fescio io l'ho reaggruppato l'ho sintetizzato a chi piace capirlo nasce negli anni 90 ok è proprio in occasione un'apertura del negozio di Zara e New York Tanks in quell'occasione incomincia a parlare di Fescio io l'ho raggruppato in quattro rivoluzioni quella dove viene abbandonato il nome del prodotto a beneficio del produttore no prima ci si diceva vada a comprarmi un paio di pantalone poi si è cominciato a dire vada a comprarmi una giacca di Gucci un paio di pantalone d'armani e via ma con l'avvento della televisione letteralmente con la distribuzione nasce un nuovo linguaggio nel microstore ma più che altro siamo passati dalla logica dei bisogni a desideri oggi si compra solamente perché i brand lo sanno è un grande antidepressivo andare a fare shopping le donne lo sanno e quindi i brand lo sanno ecco che in qualche maniera cinondano dei prodotti la quarta rivoluzione è quella sotto gli occhi di tutti dove la grande globalizzazione quindi ha dato la possibilità ai giovani a noi con un click di acquistare ma a che prezzo a prezzi sociali altissimi oggi si può acquistare a prezzi bassissimi dei prodotti nei retei nei centri commerciali senza farci la domanda come mai i prodotti possono costare così poco e questo è evidente allora che ce l'ha la responsabilità di cambiare tutto questo le istituzioni che oggi in qualche maniera ci sono rappresentate e e quindi il legislatore ha un ruolo importante le imprese le imprese io sono un'impresa ma le imprese si fa la svelta basta mettere le leggi giuste imporre e fargli rispettare le imprese è una cosa molto veloce ma è anche il cittadino deve essere educato noi siamo associazioni ora stiamo producendo tre filmati nuovi dove il primo sarà un filmato tecnico il secondo sarà un filmato emozionale perché serve come dire a dare visibilità all'associazione che è nata appunto nel 2017 e che abbiamo fatto tanta strada perché siamo nati per errori normativi ma anche per una poca visibilità di più grande distretto di Europa ma del mondo nella sostenibilità del mondo lo ripeto e nessuno Prato lo conosceva Prato si parlava solamente dei sacchetti neri dei sacchetti neri ma oltre a sacchetti neri dei cinesi Prato c'è anche un modo virtuoso nel 2017 243 mila tonnellate che sono state come dire riusate e riciclate quindi non costa da poco ok l'impresa quale sarà l'impresa che dovrà in qualche maniera avere la responsabilità qualsiasi tipo di impresa il long life prodotti più lunghi non a quei prodotti che oggi la donna la compra la mette in lavatrice e poi diventa un panno lenzio oggi signori purtroppo e io ci dirò il mondo vado nelle confezioni dove si produce noi ci stiamo coprendo non vestendo è un'altra cosa oggi troviamo Armani e troviamo un dottore cabana dove troviamo Primark e Zara nelle stesse confezioni avete capito solamente che uno vi dà il prodotto accessibile e l'altro ve lo fa pagare 500 1000 euro ma non ha il valore non c'è la vestibilità attenzione ci stanno fregando ok quindi bisogna prenderne atto io ho la fortuna di andare in tante scuole in tante università a far vedere altre slide e quindi a parlare di fast fashion tutta l'evoluzione e sinceramente tutte le volte smette perché fanno greenwashing questa gente ci sta prendendo un giro perché un tempo c'era il valore data dalla vestibilità oggi purtroppo il valore non c'è più quindi l'impresa attraverso una produzione long life voi sapete che sta arrivando un qualcosa che dovrà cambiare la produzione no le PR extension product responsabilità che noi come astri siamo stati nel tavolo del ministero e abbiamo fatto le nostre osservazioni e i nostri emendamenti perché anche lì anche lì alcuni volevano in qualche maniera fare come se fatto nel RAI e non nella plastica quindi si pensa a un ecocontributo che comunque solo tenuto mano da coloro che devono gestire il problema l'ecocontributo deve essere fatto come nella plastica e nella carta deve essere spalmato in tutta la filiera perché oggi il tessile è a livello planetare oggi purtroppo certe dinamiche ecco perché 20 minuti sono pochi ma cercherò di essere sintetico e oggi le dinamiche sono cambiate e se vogliamo fare il reshoring e quindi riportare le produzioni in Europa e soprattutto in Italia in un paese ricordatevi che è il primo paese di moda al lusso nel mondo e non ha materia quindi se si va a fare un reshoring è chiaro che parte dell'ecocontributo deve andare anche alla preparazione del reciclo perché non solo il produttore potrà detenere quei soldi ma li deve spalmare in modo equo a tutta la filiera il legislatore deve cambiare una cosa che io purtroppo vado già da anni dicendo eliminare l'imposta sul valore aggiunto è incostituzionale oggi noi quando si va a comprare un'autovettura non si vaga lì sul prodotto che è usato quindi l'imposto sul valore aggiunto è un'accelerazione verso la transizione valore si va a incentivare l'acquisto di un prodotto che costa meno oggi far pagare viva da un prodotto che viene dal post-consume quindi dalla raccolta dei sacchetti fino al capo quello è un capo bianco e nero andato tre anni fa in una sfilata ok 100% riciclato ma che comunque gli veniva inserita la parola dell'imposta sul valore aggiunto tema la scuola la scuola è fondamentale io sarei poteri avessi potere di dire togliamo qualche materia che non serva un tubo a ragazzi e mettiamo la materia ambientale non c'è Cristo questo ve lo dice uno che ha fatto un calcolo ok io ho fatto un calcolo io sono un realista un concreto e sfido chiunque a provare il controllo se ho i dati che darò sono sbagliato se io porto in discarica un autocarro ogni secondo l'avete visto nel tessile ogni secondo non sono dati miei sono del nome ogni secondo va a un autocarro in discarica ok ci vogliono tre persone veramente chi guida l'autocarro il titolare è un impiegato tre persone se io questo autocarro lo porto nella filiera del tessile per esempio a Prato un modello che comunque può essere cronato ovunque oggi si parla di PNRR di Capannor di Hub sì io a Matteo mi sono scontrato molte volte per l'incenetore ma soprattutto per gli abbe perché quando si vogliono fare delle cose bisogna pensarle bene perché se non ascono vecchie come l'autostrada del sole quindi se io voglio fare un abbe devo pensarlo bene io sicuramente Rossano ha seguito ma anche altri sono stato molto critico non sulla presenza degli abbe ma di come lo si concepiva l'abbe di come si può concepirlo e pensarlo che è sbagliato un abbe 150 tonnellate al giorno se si può fare la selezione non sono sufficienti 9.000 metri quadri e 50 persone adesso non è sufficiente che cosa si può fare allora solamente intercettare i soldi dal PNRR ok no allora bisogna fare qualche cosa siccome i sindaci le istituzioni hanno la responsabilità di gestire i soldi ai cittadini devono essere gestiti bene l'opportunità per noi paese è quello che vi dicevo prima e poi avanti perché siamo il primo produttore del mondo e io sono convinto e ve lo posso garantire perché sono nell'impresa ormai da tanti anni non da 120 che hanno la comistra ma è da tanti anni o 60 anni e vi posso garantire che in futuro le imprese che avrà che dipenderanno dalle materie prime vergini avranno problemi per soddisfare il mercato ci ha avvenuto il covid e si fa per dire in aiuto a questo problema perché ha rallentato tutti gli acquisti eccetto che il mascherino e qualche altra cosa ma nel 2019 io che acquistavo lana per esempio il mio course business è per ciclare l'80% del prodotto ma il 20% è lana avevo consegne a 6 8 10 mesi dalla Nuova Zelanda e dell'Australia quindi non è possibile soddisfare le richieste che vengano dai mercati non è possibile quindi attenzione questa oltre che ambientale prima ho sentito dire da Rossano anche economica mi ha fatto piacere perché la dice poche volte se ne scorda ma è vero perché è economica e quello che dicevo prima 3 persone andare in discaria 27 volte in più si creano posti di lavoro e quindi anche occupazionale Rossano oltre che ambientale e sociale anche ok l'Europa ci dice un sacco di cose già dal 2012 la differenziata Luca si è dal 2025 l'Italia ha voluto anticiparla al 2022 anche se gli effetti non se ne vedano purtroppo vabbè per me questo è importante questa è la cosa più importante perché sono fiero come dire di fare un'attività che soddisfa le richieste delle linee di guida ambientali dell'Europa del 2012 dove questa diciamo è sono le indicazioni che ci arriva quindi la prevenzione sappiamo che cos'è e quindi produrre prodotti più a lunga vita e l'EPR nell'EPR questo ce lo dicano ok prodotti siano riciclabili e hanno prodotti e siano prodotti fatti per durare e non cambiare ogni 5 minuti ok prodotti che siano riusabili e riciclabili allora ci vuole una pratica virtuosa che si chiama eco design che tanti parlano ma purtroppo ancora non se ne vedano diciamo dei risultati importanti quindi questa piramide ci dice la prevenzione e ci dice il riuso attenzione ok a oggi io sappia il riuso avviene solo nel tessile non avviene nella carta nella plastica nel ferro nel vetro nessuna parte nel tessile si è fatto bene eh perché poi c'è il tessile anche della camorra della mafia ok e la terra l'Italia dei fuochi che prima era terra dei fuochi noi abbiamo associazione diciamo che dobbiamo togliere tutti i gavini burocratici per poter eliminare per poter incentivare le persone vogliono fare eh come dire perché se no le start up non nascano se te gli dici attenzione siamo in un ambiente qui pericoloso perché a secondo dell'interpretazione degli enti di controllo te puoi essere accusato e non accusato di trappi o invece di rifiuti quindi bisogna togliere certi certe e bisogna essere più come dire cattivi con loro che fanno pratiche poco poco accettabili e virtuose il tessile è l'unico che fa l'uso attenzione e se fatto bene il 60% del materiale va nelle bancherelle dell'usato nel second e crea una ricchezza incredibile una ricchezza non andiamo a prendere risorse non andiamo a consumare acqua eh energie elettrica e sono le due diciamo eh eh i consumi maggiori e andiamo a rimettere un prodotto tale e quale sul mercato però quel prodotto lì ecco che l'ecodesign è sempre importante per usare il riciclare potrà essere rimesso se è pensato bene se è prodotto bene se non ci prende a regire quindi utilizzano fibre più lunghe e non fibre corte costano poco e i capi durano poco questo è una slide di cui abbiamo già parlato l'EPR ben venga l'EPR la responsabilità del produttore al fine vita e quindi la responsabilità lui o chi per lui dovranno gestire ma attenzione l'eco contributo deve essere spalmato su tutta la filiera perché se non c'è la preparazione al riciclo non si ricicla e non si riusa questo è un esempio di quanto la lana è aumentata io sono laniero però bisogna favorire tutti i tipi di riciclo questo è quanto è aumentata la lana ma siamo a niente perché fra un anno due tre noi vedremo l'impegnate di materie prime che voi non avete idea perché con l'aumento diciamo degli acquisti ci sarà una guerra a acquistare anche le fantasme hoarder quindi quindi la gente acquisterà di più di quello avrà bisogno perché in futuro avrà paura di non di non avere la quantità necessaria Prato quanto manca quanto manca rimangano qui quanto ho di tempo vai 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 allora Prato può essere un modello che da 170 anni fa questo tipo di attività ok attenzione forse ci sono delle slide qui è una slide molto come dire molto semplice ma intuitiva e quindi 60% è destinata a riunio 60-65% quindi cavolo dei numeri fantastici se si fa bene perché l'economia circolare industriale tessile è la più complessa in assoluto pensate che in questi app in questa foto di questo signore vede visivamente se il prodotto può andare bene sul riuso oppure no ed è lui che ha la responsabilità di definire se un rifiuto è tale o no è lui che decide se quel prodotto deve andare in rifiuto in riciclo oppure riusato e non è un ente di controllo sono gli strumenti io ho avuto la fortuna di essere ascoltato in commissione ambiente in parlamento ho avuto la fortuna di parlare con l'ISPRA però ho avuto la sfortuna che di qui di entrano e di l'agresa questo è un cartello che rappresenta la nostra associazione ma che comunque rappresenta quello che facciamo dai sacchetti abbandonati allora io sono molto preoccupato per restare in termini di sacchetti ok di obbligatorietà della raccolta differenziata io sono a favore della raccolta porta a porta perché perché fino ad oggi la seconda industria per il financo di pianeta andava come dire a collocare quel sacchetto in un bidone in un bidone uno speciale cassonetto dove in qualche maniera veniva come dire gestito dall'associazione not profit e quindi a salvation army red cross umana quindi colui che andava a depositare il sacchetto lo andava a depositare si sentiva come dire così investito di una responsabilità lasciare questo sacchetto in certe condizioni allora questa differenziata sul tessere che oggi ci sarà quindi il bidone io so mi preoccupa molto perché mi preoccupa molto sappiamo benissimo che se nella carta nella plastica e in altre cose noi buttiamo altri prodotti vanno a come dire rendere difficile il riciclo nel tessere non ne parliamo nemmeno nel tessere da una miniera che noi abbiamo perché Rossano diceva la miniera urbana in casa nostra per noi rifiuti non si è mai pagato per noi guardanti c'è c'è nonno o babbo 100 connellate da riciclare per noi erano risorse che mi hanno permesso la casa a via reggio mi hanno permesso la macchia lavorando sono del dominio continuamente ecco e mi hanno permesso di vivere ecco perché io dico che questa può essere una grande occasione quella dei rifiuti che può dare un supporto all'ambiente ma più a chi ha il pianeta a noi stessi ha il pianeta porto un tubo e un tino a girare siamo noi che sta dei problemi a soddisfare perché noi abbiamo oggi due strade io ragazzi glielo dico sempre ragazzi mettiamoci da conto questa due strade un utopistica è che è quella della decrescita decrescita è utopistica perché non dobbiamo decrescere su delle cose dobbiamo limitare la crescita per altre cose quindi la vita del prodotto che dura più a lungo non decresce ma limita io la voglio un po' stare così l'altra è quella su come dire andare nella direzione della circolarità perché così si può soddisfare le richieste che vengano diciamo da nostri giochi non possiamo andargli a dire smettete di comprare smettete di proliferare perché questo è impossibile allora io sono qui a parlare anche di un riciclio perché oggi si parla di sostenibilità si sente dire tante cose se no il riciclo i singassi che questi banditi l'hanno fatto passare per riciclo io sono preoccupato perché questi banditi ok hanno messo i singassi per riciclo e io sono molto preoccupato quando dalla strategia del tessile in Europa marzo 2022 che sicuramente l'amico Luca conosce benissimo si legge che saranno creati 20 posti di lavoro ogni 20 tonnellate io sono saltato sullo segno io ho visto che quel dato lì era stato preso da Eurotex che noi conosciamo tutti io sono rimasto preoccupato perché io so che con 1000 tonnellate ha altro che 20 posti di lavoro ma se ne occupa 500 perché una persona è il primo impianto di trattamento tessile di trillule produce da 2 a 500 kg di prodotto e poi c'è lo step successivo che fa 150 gruppi ecco perché vi dicevo il più complesso il primo impianto arriva a fare 150 gruppi differenti il mio impianto arriva a selezionare 1500 gruppi diversi quindi è molto complesso e quindi ci sono tanta gente come si fa con 20 come si fa per forza ci sono dei soggetti che hanno creato un consorzio che sono 5 in testa la Montclair e 5 soggetti che per fare questo consorzio dovevano come dire fatturare almeno 500 milioni di euro questi sono 5 signori che vogliono che il contributo ambientale lo prendi più ok e lì diciamo l'impianto per finire tutto e per creare energia come dire lo vogliono favorire attraverso l'ordine Europa un soggetto mi ha detto ma io faccio energia cretino te la fai energia una volta io quei prodottori lo riciclo 1 2 3 4 5 quante volte sono risorse io faccio energia una volta e va bene ma quelle devono essere le ultime spiagge come ci diceva la piramide in Europa da discare e termoparalizzatori le ultime spiagge ma realizzando che cosa che cosa abbiamo fatto noi abbiamo realizzato qualsiasi prodotto oggi noi in Prato sempre più ci dovremmo certificare ok e siamo già abbastanza certificati perché i nostri brand vogliano la tracciabilità giustamente giustamente si deve capire come è stato fatto quel prodotto e a che condizioni ambientali e sociali infatti prima o poi come sapete arriverà uno strumento molto importante in Europa che è il DPP Digital Product Passport e quindi ogni azienda che non avrà quello strumento che servirà a come dire dimostrare quanto io impatterò con l'ambiente a dimostrare come farò a trasformare il mio prodotto io per esempio ma come tanti altri miei colleghi stiamo finendo di realizzare impianti da centinaia di watt sui fotovoltaici perché perché abbiamo visto che la sostenibilità non si poggia solamente sulla riduzione ma tutto ciò che si fa lo si deve fare in modo come dire sostenibile noi per tanti anni abbiamo prodotto qualsiasi accessorio capo e da ultimo e questo ci tengo a dirlo perché io sono stato invitato a Ecomondo l'anno scorso a parlare a portare l'esperienza a Prato la mia esperienza e cavolo mi ero già preparato con poche slide ma mi ero già preparato e sono stato fortunato perché sono stato l'ultimo a parlare e quindi la mia fortuna è di aver sentito dire tante stronzate e quindi è una fortuna perché in quella maniera gli puoi in qualche maniera dire quello che si devono assumere le responsabilità quando si parla le tessie si fa solo downsizing voi sapete che cosa è downsizing io qui siate tutti invitati come ha fatto Luca come ha fatto Rossano a dimostrarvi un prodotto che io vendo 70 euro per esempio 100% cashmine riciclato e che a farlo un uovo si dovrebbe importarlo o dalla Cina o dall'Iran o dall'Afghanistan alla faccia e quindi io l'ho fatto con gli stracci recuperati a Napoli a Ercolano li ho riciclati ho fatto un prodotto 70 euro ma quelli 70 euro io non è che guadagno 70 euro ci guadagno bene a differenza di altri ma ho potuto alimentare tutta la filiera del riciclo ho pagato chi l'ha raccolto e poi in parte il comune ho pagato chi l'ha riciclato chi l'ha trasportato attenzione non dica chilometri zero ma poco perché se io devo importare il fiocco dall'Afghanistan la Cina quanti chilometri sono se io devo importare la lana dalla Nuova Zelanda dall'Australia quanti chilometri sono ecco che facciamo dei prodotti per conoscenza di alto livello e come meccanicamente sì meccanicamente perché ci tengo a dire oggi si parla molto di riciclo termochimico chimico attenzione non c'è letteratura per questo noi si sentiamo molto spesso parlare è un prodotto che io purtroppo devo consumare perché i miei clienti me lo chiedono e ho 50 persone da accampare e quindi anch'io mi tocca trovare dei compromessi ma le reti da pesca e le mochette che oggi si riciclano non è che sono meno impattanti come le si riciclano in quel modo lì rispetto a una fibra perché sono fatte in modo termochimico io devo riportare indietro la materia quindi devo utilizzare risolventi e poi ritornare indietro pensate gli scandali ci sono in Cina hanno doppia azienda siccome oggi la sostenibilità il GRS la materia riciclata è di moda ok allora hanno una fabbrica davanti dove producono bottiglie hanno una fabbrica davanti che le distruggono per riciclare se vi succede questo ma il greenwashing è una cosa che succede spesso andatevi a vedere il Greenpeace Germania ora che ha stilato tutte le borgogne dei grandi brand che sta denunciando una marea di brand che stanno prendendo letteralmente in giro i consumatori quindi noi noi attivisti mi sento una parte tipo un attivista anche se mio nonno e mio padre ti hanno pregato perché già nel 1920 hanno iniziato e pensavano tanto tanto non ci scassa e no a parte due battute per noi il downside per esempio è questo il downside dopo che abbiamo prodotto capi vestiario a prezzi altissimi i brand hanno sempre comprato da 150 anni noi non è che li abbiamo preguati oggi dobbiamo come dire avere degli strumenti che certificano il riciclo prima non lo volevano perché dice no ma questo proviene da rifiuti oggi invece sono i salvatori del pianeta e quindi vogliono da noi gli strumenti che gli serve da leva di vendita perché sono i salvatori del pianeta però Zara si accontenta del suo join life la sua metodologia si accontenta del 25% riusciamo a fare qualcosa di meglio degli spagnoli sinceramente ok questo è bene sapere quindi per me il downside è quando si va a imbottire e a come dire coibentare delle case che va benissimo ma è prodotto più alto alto oggi noi siamo in grado di fare come dire prodotti di alto livello perché tante volte si ha l'idea del prodotto riuscito sia un prodotto di bassa qualità non è vero io ho invitato tutti a venire nell'azienda e a mostrare quello si fa io come tanti miei colleghi in Prato il distretto di Prato oggi comprende 7000 aziende con 42000 addetti quindi pochissimi addetti per aziende perché se si fa 42000 diviso 7 gli addetti sono pochi ok dove si ridivide in due 3500 aziende dell'abbigliamento che è in mano alla comunità cinese e metà tessile arredamento abbigliamento allora io vorrei quindi il mio aspicio che a Prato gli fosse riconosciuto un'importanza fondamentale oggi e questo è il milotto da sette anni e posso dire di essere contento perché in Prato e nella mia sede Asti sono passati dall'Europa tutti dalla BBC a tutte le grandi televisioni internazionali e posso dire che sono rimasti entusiasti a vedere quello che si faceva ecco io mi auguro che il sistema Prato possa essere un modello applicato ovunque perlomeno se non in toto ma in parte prendere quello spunto lì quindi l'abb sarà necessario a fatto che grazie 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 di cuore a Papizio che veramente ci ha dato un'idea concreta di quello che si può fare vado velocissimo un altro segmento importante forse non tipico del frattese ma strategico per l'economia del futuro è quello che riguarda i RAI quindi tutti i rifiuti elettrici ed elettronici che contengono tutti i metalli preziosi e quelle terrenare che hanno un ruolo strategico per l'economia del futuro e in questo senso voglio passare la parola a Claudio Tedeschi che si occupa appunto con la sua azienda di smiego proprio dello sbattimento del trattamento di questo tipo di risorsa ecco non vi ricordo a te la parola infatti mi sentite io cercherò di essere velocissimo perché so che il orario è abbastanza e volevo integrare un po' volendo integrare un po' quello che ha detto il mio precedente relatore nel senso che cosa siamo riusciti a fare a 80-90 km da qui ecco a 80 km da qui esiste esiste la prima azienda al mondo capace di recuperare la materia prima degli elettromagnetici si chiama bismeco ed è a marzabotto sulla pennile però quello di cui volevo parlare è un progetto che è assolutamente innovativo in Europa che è partito un anno fa e che va nella direzione tra l'altro in collaborazione con il Polo Rossano che va nella direzione del riciclo e del rutilizzo ma l'abbiamo fatto anche scoprendo degli aspetti assolutamente innovativi parliamo di lavatrici per esempio noi incitliamo come dismeco in Italia quindi a Bologna quasi 400 lavatrici al giorno con una percentuale di recupero delle materie prime del 98% siamo i primi in Europa quindi non è vero che in Italia non si restano a fare le cose e la nostra alternativa sono i rottamai quindi da noi le lavatrici vengono montate selettivamente vengono recuperate le materie prime i rottamai invece non fanno null'altro che occupare queste lavatrici di un interno di un isolatore e di schiarlo con un altro perlo o con un altro materiale di un isolato cosa abbiamo fatto in realtà è del primo esempio al mondo che viene fatto e abbiamo anche risultati ci siamo detti di 400 lavatrici che ci arrivano ogni giorno molte arrivano in buone condizioni e quindi come mai arrivano in buone condizioni cos'è che ha spinto i cittadini a portare queste lavatrici nelle tazioni ecologiche perché si parla di lavatrici che provengono dalle tazioni ecologiche allora è chiaro che nessuno in Europa aveva mai si era mai posto il termine del problema di come mai per quota percentuale di lavatrici arrivassero in buone condizioni nelle tazioni ecologiche allora cosa abbiamo fatto magari qui è un po' più difficile mi sembra di capire abbiamo fatto un accordo con ERA e poi anche CNA e ci siamo detti ERA vogliamo capire il come mai il perché quota parte di quante lavatrici che arrivano nelle tazioni ecologiche possono essere recuperate quante lavatrici che arrivano nelle tazioni ecologiche possono essere recuperate nessuno lo sapeva né dal punto di vista statistico né il perché vengono portate le tazioni ecologiche e abbiamo fatto questo progetto che abbiamo denominato progetto utile l'abbiamo fatto in collaborazione con ERA e con CNA e poi vi spiegheremo il motivo del CNA ecco appunto perché volevamo andare nella diciamo questa questa è questa è l'azienda è la la rete di la linea di smontaggio selettivo unica al mondo che ha 80 km di paese e che smonta ha potenzialità di smontare circa 1000 lavatrici al giorno ingegnerizzata e produttività ecco le lavatrici come vedete sono composte da tanti componenti giustamente e cosa ecco questo è il modello imperante nella gestione delle lavatrici vengono portate quasi il 99% dei casi in Italia vengono portate e ci siamo chiesti ma è possibile che non si possa recuperare una lavatriccia nel senso che non esiste non esisteva in Europa nessun tipo di statistica che ci potesse consentire di capire ma quante se ne potrebbero recuperare senza essere distrutte allora abbiamo fatto un percorso abbiamo scoperto che in Italia la normativa non consente di prendere un rifiuto e di rimetterlo nella catena del valore allora cosa abbiamo fatto abbiamo fatto sensibilizzazione presso l'ente di controllo che è ARFA e abbiamo detto noi siamo un'industria quindi non siamo ambientalisti non siamo con tutto il rispetto e proviamo a capire se si può fare qualcosa cosa si può fare per fare in modo che una lavatrice distrutta o semi distrutta della stazione etologica possa rientrare nella catena del valore e abbiamo detto ma noi ci mettiamo la nostra capacità industriale le nostre certificazioni ci consentite di fare una prova e ARFA ha detto sì perché il 152 che è il testo unico di gestione dell'ambiente non dice assolutamente che non è possibile tornare in vita è possibile a determinate condizioni e quindi abbiamo avuto l'autorizzazione dall'ente di controllo l'ARFA ci ha detto vabbè visto che voi siete un'azienda innovativa industriamente innovativa a determinate condizioni potete prendere una lavatrice e rimetterla che viene dall'entrazione etologica e rimetterla nel ciclo del valore quindi non produrre più rifiuti cioè fare in modo che questa non sia un rifiuto quindi c'è stato un cambiamento epocale abbastanza uniti in Italia ma è epocale poi cosa abbiamo fatto abbiamo detto proviamo a fare il nodo che queste lavatrici ci giungano nella maniera più integra possibile quindi non mandiamo camion con diciamo politi a distruggere a recuperarle ma prendiamo sia unico che e mi banca ci hanno sponsorizzato un mezzo ecocompatibile Euro 6 perché anche nel momento in cui si si recuperano le lavatrici il mezzo che le recupera che le va a ritirare in ecologica deve essere il meno impattante possibile e cerchiamo di farlo in un'ottica di prossimità quindi abbiamo concordato con era 30 attrazioni ecologiche a livello di prossimità dell'impianto e con un mezzo ecocompatibile li andiamo a recuperare per capire quindi appunto un mezzo a basse emissioni che tra l'altro come vedete tutte le lavatrici di questa sperimentazione del progetto utile erano e sono contrassegnate da un QR code cioè da un diciamo da una certificazione elettronica che ci dice da quale stazione ecologica sono state prese in che giorno sono state prese per dare la massima tracciabilità e per capire quale stazione ecologica quali comuni erano più virtuosi e quali meno e abbiamo fatto una statistica che ha dato dei risultati sorprendenti e quali sono questi risultati che nessuno aveva mai diciamo soldato precedentemente su un anno di sperimentazione 10.000 lavatrici ritirati da 30 stazioni ecologiche il 7% erano recuperabili e detta così può sembrare banale in realtà gestendo semplicemente gestendo in maniera diversa lo stesso rifiuto abbiamo dato un valore a questo rifiuto che è 200 volte superiore a quello che viene considerato mi spiego meglio una lavatrice gestita da un rottamaio vale sul mercato 1 euro una lavatrice individuata come rigenerabile e rigenerata per esempio dagli artigiani di CNA vale 200 euro se consideriamo che su 10.000 lavatrici 700 recuperati dalle fratelli ecologiche a fare tali condizioni economiche senza spese senza nessuna spesa per il pubblico quindi a costo zero per la politica noi nel 2023 regaleremo doneremo a persone in difficoltà economica e sociale tramite la città metropolitana di Polonia quasi 600 lavatrici il che significa che gestire in maniera diversa la stessa cosa ma con un approccio virtuoso ci consente di scaricare sul territorio e quindi regalare al territorio più di un milione di euro e il 6 di giugno partirà un corso base finanziato dalla città metropolitana per riparatori di elettromestici perché quello che ha causato la vendita di apparecature a basso costo e di bassa qualità è stata la sparizione totale di addetti di professionisti che potessero riparare gli euro di elettromestici adesso non ci sono più nella vulgata è molto più conveniente diciamo comprare una lavatrice nuovo piuttosto che riparare quella vecchia ma questo non è vero perché in realtà il mercato o perlomeno una disfunzione del mercato ha fatto sì che sparesse la categoria dei riparatori di elettromestici sparesse l'elettromestici di qualità quindi non potesse essere più riparabile quindi continuamente ogni tre anni andiamo a comprare la lavatrice perché dopo 900 lavaggi ci rompe ma questo è una bestialità dal punto di vista diciamo di una gestione industriale corretta è una bestialità per quanto riguarda l'ambiente è una bestialità per quanto riguarda le professioni che noi abbiamo bisogno di dare anche delle prospettive artigianali e di riparabilità ai beni e non solo quelle di comprare di continuo eccetera eccetera io non la tengo molto non la tengo molto lunga perché tra l'altro insomma abbiamo poco tempo volevo solo dire alcune cose circa questo progetto scusatemi allora abbiamo fatto delle scoperte cioè noi industriali io purtroppo non sono un metallista o per fortuna non so ma sono un industriale abbiamo scoperto delle cose che nessuno in Europa avrà scoperto cioè primo punto il 7% delle elettrometri delle nutrizioni ecologiche possono essere riparate e donate a persone che hanno bisogno secondo cosa molti di questi elettronomestici non sono portati nelle stazioni ecologiche perché sono rotte ma perché mancano i ricambi vi rendete conto che noi gestendo 400 lavatrici al giorno tra l'altro in maniera virtuosa a livello europeo i ricambi ne abbiamo a tutte terza cosa e sono aspetti intangibili che però ribadiscono poi fortemente diciamo nelle filiere di recupero di riciclo e nelle possibilità di dare lavoro anche alle persone in maniera sacra le lavatrici che noi doneremo a Caritas che comunque per le persone bisognose devono andare a comprarle diciamo presso i grandi magazzini queste 600 lavatrici che noi che noi doneremo e di cui 8 vedete il giornale le abbiamo donati proprio di treni per la montagna domandese le lavatrici che abbiamo recuperato non sono quelle di scarsa qualità ma sono quelle più costose perché solo le lavatrici più costose e di qualità possono essere recuperabili e rimarabili mentre le altre quelle fatte in cina o chissà dove in realtà collassano dal punto di vista strutturale e quindi non sono riparabili quindi questo tipo di percorso e cerco di concludere e di essere molto lo potrebbe chiaramente sulla vostra attività semplicemente gestendo in maniera diversa lo stesso rifiuto che prima era mandato ai rotamai e valeva un euro ma cercando di gestirlo con intelligenza con un approccio se vogliamo anche rifiuti zero moltiplica il suo valore di 200 volte e di questo l'ho proposto anche a Firenze e alla municipale di Firenze cioè a volte cercare di avere una visione diversa una visione non dico creativa ma da un certo punto di vista che dia valoriale a quello che si fa modificando semplicemente l'approccio a un rifiuto noi cercando di avere conoscenza da questo rifiuto vati capire come viene gestito come funziona non solo da un valore ma come in questo caso su tre interazioni ecologiche tra l'altro marginali perché sono quelle della provincia bolognese noi riusciamo semplicemente gestendo in maniera diversa un rifiuto e applicando delle modalità industriali non consuete non distruttive ma selettive e performanti non riusciamo a donare al territorio quasi un milione di euro senza alcun posto per la politica quindi io tra l'altro mi scuso sono molto indigolato perché vengo da Fornia in più che no abbiamo proposto anche questa cosa cioè questo modello se reiterato sul territorio potrà produrre veramente valore aggiunto nuove professionalità vi dico l'ultima cosa mi taccio fra qualche anno le lavatrici e banalizzo per dire lavatrici ma potrei dire tutti gli altri medici non andiamo più ben tutti andranno noleggiati la grande distribuzione si sta orientando verso questo tipo di sistema anche perché dal primo di marzo l'anno scorso la comunità europea ha innalato una legge contro la disolescenza programmata per cui le lavatrici non dovranno più durare tre anni ma dovranno fare le sette e quindi ci sarà tutto il tema di oh dio ma se questa lavatrice dopo 3 anni si riluppe chi me la ripara visto che non ci sono riluppati quindi il tema sarà costruire delle lavatrici da parte dei produttori di maggiore qualità perché se ci pensate bene noi teoricamente non compriamo la lavatrice noi compriamo il lavaggio cioè noi abbiamo bisogno del lavaggio non della lavatrice non abbiamo bisogno di avere la proprietà della lavatrice da un punto di vista feoglio però c'è tutto un tema estremamente interessante che è quello di ricreare quella filiera di riparatori che adesso non esistono più quindi e veramente in maniera decisa questo punto e vi ringrazio ribadisco incentivare le pratiche di riuso e rutilizzo anche a livello istituzionale reiterare queste progettualità innovative sul territorio cercando di avere un approccio di frutti zero anche a livello industriale uno potrà che produrre valore aggiunto per il territorio meno forte per la politica e soprattutto lavoro per le persone io spero di essere di essere fatto allora la seconda parte della questa iniziativa è più dedicata ai comitati cittadini quindi abbiamo diciamo tre interventi programmati abbiamo però anche più spazio per quelle che sono le domande quindi per chi volesse intervenire vi potete prenotare anche per gli amministratori che sono in sala che stamattina non c'è stato modo di conoscersi allora intanto io chiamerei il primo comitato che era previsto parlare che è trasparenza per Empoli quindi chiamerei Marco il tuo intervento riguarderà il caso di Empoli più o meno un quarto ora diciamo se riesci a fare un'intervento perfetto avvertitemi perché io su questo i politici che hanno parlato prima di me loro ci sono abituati perché nelle sedute di solito hanno l'intervento che deve essere quello io vi chiedo ad aiutarmi in questo io vengo da Empoli come è stato anticipato io ringrazio intanto per l'organizzazione di tutta la giornata perché è molto importante io parlo da cittadino è molto importante per i cittadini è molto importante per i cittadini sapere che oltre a quello che viene illustrato diciamo molto sovendemente come l'unica possibilità che abbiamo dalle amministrazioni sovente almeno per noi a Empoli era così è successo così ci sono invece tante altre possibilità e tanti altri esempi e quindi oggi è stato importante per me che comunque diciamo in un modo anche un po' forzoso è un po' violento nell'ultimo anno mi sono dovuto informare molto su questo argomento questa giornata però mi ha portato tanti esempi esempi reali e penso che siano quelli di cui la cittadinanza ha bisogno di cui i cittadini hanno bisogno perché i cittadini ormai sono abituati alle parole ma forse anche stancati dalle parole quando invece si riesce a vedere fisicamente una persona che porta un'esperienza reale ecco questa è una cosa che da cittadino io ho apprezzato molto molto oggi quindi tutti gli interventi di stamani sono stati per me dal mio punto di vista eccezionali molto molto importanti su Empoli cosa è successo? su Empoli è successo che ci troviamo in un momento in cui diciamo stiamo vivendo un po' una tornata perché non è solo su Empoli questo problema è una tornata di proposte di impianti di trattamento a caldo Empoli era una di queste proposte che la regione portava diciamo sui territori ai quali la nostra sindaca aveva derito però come succede ultimamente sempre più spesso anche troppo spesso i cittadini vengono a saperlo in modo distratto non c'è mai un'informazione diversa mai un'informazione profonda da parte delle amministrazioni e diffusa tutta la cittadinanza per far capire cosa si sta per decidere quindi noi siamo venuti come comitato a saperlo un po' per caso parlando fra cittadini ci siamo informati un pochettino ci sono venuti un po' di dubbi io vorrei fare una precisazione su Empoli Empoli siamo con la raccolta differenziata da tanto tempo con il porta a porta superiamo tranquillamente l'ottanta per cento Empoli e anche i comuni vicino a Empoli è una zona che per questo ha dimostrato da tanto una forte propensione disponibilità e attenzione al tema tant'è vero che già i nostri nonni e i nostri bisnonni Empoli ha una natura e una vocazione una storia che viene dal compatto vetrario dalle vetrerie e già loro diversi decenni fa tanti decenni fa avevano capito che già nel lavorare il vetro il grosso vantaggio era il poter recuperare il vetro quindi anche il recupero della materia è una cosa ben presente nel territorio di Empoli e si pensava fosse un concetto a cui anche l'amministrazione credesse fermamente fino in fondo c'è il consorzio più grande della Toscana di recupero del vetro a Empoli quindi l'attività c'è già e sinceramente da empolese da cittadino vedere presentare un progetto del genere al momento che abbiamo capito cosa era realmente questo progetto è stato anche un po' frustrante non voglio usare il termine offensivo verso i cittadini no ma frustrante sì perché era come se si dicesse a un territorio che si era impegnato e che aveva dimostrato anche di saper fare e di poter mettere in pratica in atto delle pratiche si veniva a dire no però guardate va bene quello che fate vi si lascia fare continuate a farlo però ecco da oggi basta la materia non si recupera più non si guardano più tanti principi che abbiamo seguito fino ad ora ma si vuole intraprendere un'altra strada proprio su quel territorio è risultata una cosa un po' di poco di poco gusto ma soprattutto dal punto di vista politico noi cittadini l'abbiamo interpretata come una mancanza di visione futura perché ci si aspetta da cittadini che la politica abbia con il passaggio del testimone ci sia anche un passaggio di memoria e sembrava quasi che a un certo punto si fosse persa la memoria non abbiamo più la memoria è stato passato semplicemente un testimone ma qui si cambia registro si gira pagina e si va da tutta altra parte ecco questo fortunatamente grazie anche a Rossano perché il primo evento di apertura su Empoli l'ha fatto Rossano sono venuti Rossano con Stefano con Laura e a Empoli ci hanno spiegato cosa volevano fare cosa la regione voleva realizzare perché l'avevano già provato tra l'altro a Livorno lo stesso progetto quindi erano semplicemente cercare di riportare lo stesso progetto che era già stato respinto dai cittadini ma in un'altra città riportarlo a Empoli provando a farlo passare senza informare i cittadini perché di fatto questo si tentava tre assemblee in una città da quasi 50.000 abitanti tre assemblee a numero chiuso da 120 persone ciascuna quindi formandone anche lo 0,7 0,8% della cittadinanza così si voleva far passare che la cittadinanza l'aveva accettato era tutta concorde fortunatamente dopo la prima riunione fatta da Rossano i cittadini hanno cominciato a informarsi hanno capito di cosa si parlava noi stessi abbiamo ricevuto tante informazioni alcune abbiamo continuato a cercarle le abbiamo riportate a tutti gli altri cittadini e le persone hanno risposto positivamente positivamente verso i dubbi che stavamo sollevando perché non non ci sembrava giusto fin dal primo momento partire dicendo noi comunque non lo vogliamo su Empoli perché semplicemente non stavamo capendo cos'era perché non c'era una comunicazione allora la cosa più giusta da fare come il comitato ci è sembrato raccogliamo delle informazioni il comune però rallenti si fermi smetta di dirci che è solo un'ipotesi perché un'ipotesi non era e lo si era capito che si stava procedendo velocemente lasciateci il tempo di capire anzi fateci vedere quelli che sono i progetti portate dei dati condividete con noi cittadini prendiamo una decisione insieme questo questa apertura non c'è mai stata non c'è mai stata la volontà e allora i cittadini a questo punto hanno detto signori noi abbiamo cominciato a capire cosa c'è dietro questo progetto cosa è realmente qui la materia non si recupera qui la materia la si disintegra è un processo che di circolarità non ha niente i cittadini dicono no i cittadini scendono per strada la manifestazione fortunatamente ha avuto una buonissima partecipazione sui giornali dicono mille persone ma la questura a noi a fine manifestazione ci ha detto c'erano almeno 5.000 persone la questura il questore mi ha detto guarda complimenti avete gestito io sono 18 avete gestito avete ai ragazzi ai ragazzi di Marciniana che l'hanno organizzato con il comitato a Pinnoeo hanno detto guardate bravi ragazzi perché una manifestazione da 5.000 persone filata liscia così bella con tutte le persone i bambini colorata e quant'altro complimenti quindi detto da loro penso che loro se ne intendano no si no no lo sapevamo comunque l'informazione puntuale comunque io credo che il grosso il grosso problema adesso sia mantenere alta l'attenzione perché comunque sentendo quello che sempre a mezzo stampa viene diffuso perché la stampa è un po' strana l'esempio ha fatto la signora è giustissimo alcune cose hanno una risonanza pazzesca altre nonostante risuonino forte per le strade però nei telegiornali sui giornali non arrivano mai questo purtroppo però vediamo in queste settimane ci sono stati molti scambi a livello politico tra i sindaci soprattutto la sindaca di Empoli il sindaco di Prato ma anche altri sindaci e l'assessore Amonni i quali lasciano intendere compresa Alia che insiste che questo progetto ormai ha realizzato e che lo deve presentare anche perché qui apro una parentesi noi consiglio comunale da Empoli abbiamo fatto presentare un'interrogazione chiedendo appunto ma Alia questo progetto l'ha fatto sui giornali ai tempi ci siamo andati a ricercare e hanno detto che avevano dato mandato alla Mary Peckinmont e avevano stipulato un contratto per realizzare il progetto come Alia è dei comuni i comuni avranno il diritto di sapere quanto c'è costato questo progetto anche semplicemente la prima bozza perché loro parlavano di un progetto totale il 10% del costo dell'impianto quindi si parla di 40 milioni quindi anche solo una bozza di progetto da presentare sicuramente sono cifre rilevanti che sta andando con le tasche purtroppo la risposta non è stata data e questa è un'altra evidenza che bisogna considerare ma considerare e rifletterci bene perché qui si sta parlando negli interventi di stamani sono venute fuori anche delle situazioni in cui diciamo l'ambito è gestito da un'azienda che ha una certa sensibilità verso le tematiche e noi qui riportiamo che non devono per forza essere condivise da tutti però c'è una cosa che dovrebbe essere condivisa da tutte le società che portano avanti questo servizio negli ambiti il rapporto che hanno con i sindaci e con i comuni Alia non risponde più a nessuno cioè diciamocelo chiaramente questo è un problema grave che va affrontato Alia non risponde più a nessuno forse a Firenze forse a Firenze sì ma a tutti gli altri comuni non risponde più questa è una perdita di controllo che è grave è grave ma va attenzionata in modo particolare questa questione va sollevata va portata avanti soprattutto in questo momento in cui ci propongono anche un modello che è quello della Multitility dove anche lì si riempiono la bocca con questa circolarità 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 ma poi si va a vedere in tutto quello che propongono dove si va a analizzare si vede tanto verde nelle grafite si trova tante volte la parola circolarità ma quasi sempre la materia viene distrutta quindi qui di circolare non c'è poco poi in fondo e nessuno gli dice niente anzi sembra quasi ah no sembra io parlo da Empolese il comune di Empoli la sindaca di Empoli è tra i quattro comuni che lo sta proponendo perché sono Firenze e questo a me personalmente dispiace dispiace che non se ne possa neanche parlare perché le informazioni nonostante si cerchi di portarle ai cittadini come fatto per il gasifiatore non c'è modo però di farle circolare in quei mezzi che sono la stampa fondamentalmente quindi il problema qui è uno non possiamo andare noi cittadini noi comitati che abbiamo una sensibilità che abbiamo una visione che abbiamo il diritto di riportare non possiamo andare da una testata giornalistica che è privata a imporgli di pubblicare la nostra notizia questo no ecco però siccome ci sono delle leggi che ci sono anche a livello regionale e che dovrebbero garantire ai cittadini la possibilità di avere un dialogo di partecipare nel momento decisionale non solo perché qui si scambia in regione toscana e anche per esempio come è successo a Empoli si scambia l'informazione con la partecipazione perché quella che era stata fatta a Empoli era un'informazione e molto distorta anche ma era informazione di partecipazione non c'aveva niente perché la partecipazione si ha quando ci sono delle idee si deve valutare e allora ci si confronta e poi nel partecipare insieme si possono trovare anche degli accordi dei compromessi si può tracciare un'altra insieme questo manca questo credo da quello che questa esperienza mi ha raccontato è che ci sono le possibilità per i cittadini di abbeverarsi a tante fonti e ogni fonte ti può portare una conoscenza diversa solo che i cittadini non lo sanno io da cittadino io stesso mi sono reso conto che ci sono tante fontanelle dalle quali abbeverarsi ma ti dicono sempre che ce n'è una sola massimo due e quindi tutti alla fine abbiamo nella bocca sempre gli stessi sapori e quindi parliamo sempre con le stesse parole quando in realtà si potrebbe ampliare il vocabolario la conoscenza di tutti e questo sarebbe e sarà solo quando e se riusciremo a farlo un vantaggio per tutti perché riuscire ad ampliare il nostro vocabolario vuol dire anche riuscire ad affrontare le difficoltà e a dissolverle e a trovare delle soluzioni anche quando si hanno delle visioni che non sono che non corrono in parallelo se ci manca la dialettica perché ci manca la dialettica perché non si partecipa nello specifico della discussione perché non ci si interessa le persone io lo dico da cittadino oggi non si interessa più perché purtroppo c'è in atto un sistema che tende a tenerci fuori purtroppo questo va detto e bisogna ripartire da qui bisogna ripartire da qui perché ci sono delle esperienze che sono più che decennali che hanno portato a dei laboratori questi laboratori si sono trasformati poi in luoghi veri e propri di sperimentazione questi luoghi veri e propri di sperimentazione poi hanno portato a dei luoghi veri e propri dove si fa attività quindi siamo partiti grazie all'attività che ha fatto Rossano grazie all'attività che hanno fatto molti dei relatori oggi sia i sindaci che ci hanno creduto chi prima e chi dopo ma ora abbiamo visto stamani che già sono in Toscana sono 44 sono in Toscana siamo arrivati dall'idea siamo arrivati all'applicazione quindi oggi l'applicazione c'è la dobbiamo dobbiamo trovare il modo di fare vedere ai cittadini che questo esiste che è reale perché a Impoli nonostante tutto quello che è successo la narrazione che viene ancora diffusa dal comune è che queste sono fantasie che non esiste niente di tutto questo al mondo ecco questo va questo bisogna cercare di abbattere questo muro perché i cittadini tornino a essere partecipi nelle vite della decisione sui propri territori questa è la cosa più grande che credo si possa fare oggi quindi sostenere chi con impegno e dedizione da tanti anni porta avanti una serie di attività delle quali noi oggi pigramente ma per fortuna possiamo arrivare a trarre il succo il succo ad assaporare il frutto però c'è un ultimo passo che dobbiamo fare quello lo dobbiamo fare noi cittadini perché solo grazie alla partecipazione dei cittadini possiamo far sì che tutte le decisioni che vengono prese domani siano il più possibile e rispecchino il più possibile quello che è il reale sentire dei cittadini perché spesso se no ci troviamo a dover scontrarci con le amministrazioni e a dover scendere in piazza e creare anche un disagio perché io mi rendo conto che quando si scende in piazza si riacquisisce un qualcosa come comunità però è anche vero che si rompe qualcosa in una comunità a volte si dice si dice sempre che le situazioni di dolore poi aiutano a crescere ti fanno crescere ti portano avanti ecco però se si può evitiamole quando dipendono da noi io spero che sia riaccare grazie 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 veramente per l'esistenza di di Marco devo dire che quando ho accompagnato Laura a un paio di incontri mi ha sorpreso che molte volte c'è questa idea che tra i cittadini c'è disinformazione non sono informato adeguatamente invece mi ha colpito molto l'inverso quanta informazione informazione ci fosse tra tanti cittadini attivi e quanta forse disinformazione c'è tra alcuni amministratori pubblici hai volto un dettaglio importante l'eccessivo potere decisionale e anche la simmetria di informazioni tra tra Alia e i sindaci i soggetti gli enti locali che dovrebbero controllarla e indirizzare le scelte quindi questo arriva a dire ancora di più come la scelta del zero waste della comunità e dei comuni sia un binomio fondamentale ecco ora sempre restando in tema di comunità passiamo al coordinamento provinciale di più di zero Livorno con Stefano Seghetti salutiamolo con un applauso non ho preparato live niente quindi cerco di farlo così un po' abbraccia partendo già subito da quello che diceva Marco Cardone prima con il riferimento visto che si parla lo siamo parlato stamani del piano rifiuti che è andato attualmente in delibera da parte della giunta regionale che andrà in commissione in discussione in commissione ambiente in regione e poi in consiglio regionale e dal 2014 che siamo in attesa di un nuovo piano regionale quindi c'era molta attesa la consigliatura precedente non ce l'ha fatta l'unico atto che la consigliatura precedente parlo in questo caso della consigliatura Rossi aveva preso prima del 2019 era una mini variante del piano rifiuti che prevedeva che cosa un accordo tra Alia Eni e i comuni di Livorni e Colle Salvetti per la costruzione all'interno dell'area della raffineria di Stagno di un gasificatore lo stesso progetto esattamente identico che è stato riproposto alcuni anni dopo pochi anni dopo a Empoli e che è tuttora stato presentato a livello di manifestazioni di interesse di nuovo da Eni per quanto riguarda la raffineria di Stagno e da Alia come soggetto proponente insieme agli stessi soggetti tecnici METECNIMOT MESCHEM ci sono soggetti diciamo di definizione tecnica del progetto oltre che a Empoli anche a Pontedera in zona Revet e a Rosignano in area Solvè allora se facciamo conto soltanto questi tre sono tre progetti di gasificazione da 250.000 tonnellate per dare un'idea dell'insieme le manifestazioni di interesse voi sapete che la regione toscana ha con l'assessore Monni tra virgolette ha aperto questa strada nuova di in parte commistione cosa che già ricordava Rossano stamani tra rifiuti speciali e rifiuti urbani voi sapete la pianificazione regionale è prevista soltanto per gli urbani è vero che esiste un problema di speciali ma è anche vero che non possono essere pianificati dalla regione quindi diciamo questa la commissione è arrivata soltanto a livello di la regione propone una fase di ricognizione la chiamata così in cui ha proposto delle manifestazioni di interesse all'industria a soggetti industriali per quanto riguardava il problema del trattamento dei rifiuti sono arrivate 39 più di 39 poi 39 sono state selezionate tra le manifestazioni di interesse presentate da soggetti industriali pubblici e privati in questo caso i più disparati quelli su cui più si è concentrata l'attenzione anche tra l'altro non tanto di zero waste o degli attivisti sui territori ma anche soprattutto della regione toscana è stata guarda caso quello dei trattamenti del RUR cioè del rifiuto urbano residuo quindi dell'indifferenziato perché sugli altri su impianti di riciclo o impianti di biodigestione o d'altro nessuno sostanzialmente ha poi messo né particolare attenzione ma diciamo questi progetti tra virgolette forti tra virgolette e su cui maggiore è stata l'attenzione da parte della stessa regione toscana sono quelli che si riferiscono al trattamento dell'indifferenziale in questi ci sono i tre che nominavo prima i tre progetti di gasificazione e quattro scusatemi perché c'è quello di Eni che è rimasto in piedi più c'è un altro progetto anzi ce ne erano altri due altri tre per essere più precisi ma due in modo particolare uno di pirogassificazione nella zona di massa e uno di ossicombustione che è comunque una pirogassificazione nella zona scusatemi nell'area di Belvedere Peccioli all'interno della discarica di Peccioli su quest'ultimo vorrei soffermarmi e fare una parentesi perché è quello che riguarda un po' di più la zona da cui provengo perché è vero che Peccioli è lontana da Livorno ma c'è un collegamento stretto tra il progetto di costi combustore a Peccioli che è un progetto di rete ambiente e qui volevo un attimo riallacciarmi perché il sindaco Menesini che non c'è tu ora però stamani tra le cose che ha detto diceva che tutto sommato rispetto ad altre esperienze è comunque una holding a totale capitale pubblico dove sono i comuni che decidono hanno un pieno controllo fondamentalmente sulle decisioni della della holding e quindi ne dava un giudizio tutto sommato positivo giudizio che tutto sommato positivo da questo punto di vista mi sento in qualche modo anche di confermare devo però dire che il master plan di rete ambiente il master plan 2030 che è stato votato dall'assemblea dei sindaci nel luglio del 2022 prevede guarda caso un ossicombustore e un pirogassificatore cioè anziché sulla gassificazione sposta perché non è un progetto suo sposta però da un giudizio positivo sulla gassificazione sul waste chemical e sul waste fuel e così via ma oltretutto presenta anche come soluzione interna per la propria area quindi per lato costa una soluzione di nuovo di processi tecnici cioè facendone dandone anche un'esaltazione dal punto di vista della questa è una cosa su cui richiamerei i sindaci o gli amministratori presenti di altroposta se ancora ci sono oggi i presenti ovviamente noi lo stiamo facendo con quelli con cui abbiamo più contatto diretto su ecco su questo bisognerebbe un attimo un attimo intervenire perché anche l'ossicombustore che è in questo caso la tecnologia unsalve non ma il Tecnicont ha comunque grosso modo la stessa serie di problemi che stamani venivano elencati di nuovo siamo lontani dall'economia circolare tra l'altro anche questo è un impianto da 160.000 tonnellate quindi siamo a un milione di tonnellate per quanto riguarda la classificazione più 160.000 dell'ossicombustore abbiamo superato ampiamente metà dei rifiuti urbani di tutta la Toscana non dei rifiuti indifferenziali siamo alla follia concepire un piano sulla base delle esigenze o dei possibili appetiti dell'industria pubblica o privata che sia è a mio avviso un aberrazione per questo che cerchiamo di richiamare ovviamente in termini di pianificazione anche a un confronto su quelle che possono essere le alternative un'ultima cosa che vi accendo visto che vengo dalla zona di Livorno a parte portare il saluto dell'assessore all'ambiente del comune di Colle Salvetti che aveva garantito fino a ieri sera che sarebbe stato presente oggi e purtroppo ha avuto un problema di salute stanotte e quindi vi manda a tutti ovviamente un saluto e sarebbe stato volentieri presente mi dispiace che non lo sia quello che mi dispiace di più ovviamente è che non ci sia il sindaco di Livorno in questo consesso perché il sindaco di Livorno aveva firmato nel 2019 voi sapete nelle aree di votazioni ci sono votazioni oggi ma ci sono votazioni anche sicuramente nel maggio-giugno del 2024 che coinvolgeranno moltissimi dei comuni toscani Livorno nel 2019 uno dei candidati sindaco voi sapete che il Zero Waste spesso nelle tornate elettorali l'ha fatto anche nella tornata elettorale regionale stessa propone ai candidati presidente ma anche alle forze politiche che si presentano una sorta di protocollo una sorta di impegno per verificare appunto per mettere a conoscenza ai cittadini di quelle che sono le posizioni dei candidati relativamente in questo caso a un problema di gestione di rifiuti che voi sapete amministratori o meno che siate che ha un peso enorme nei bilanci comunali e rappresenta un problema non indifferente dal punto di vista non solo ambientale ma anche dal punto di vista economico per le amministrazioni il sindaco di Livorno quello che poi è risultato eletto come sindaco aveva firmato un protocollo con il coordinamento provinciale di tutti i zero in cui si impegnava a che cosa ha la dismissione intanto dell'impianto di incenerimento voi sapete che Livorno ha ancora attivo un impianto di incenerimento uno dei pochi ancora attivi in Toscana e che nella anche non so nelle dichiarazioni della regione ma anche nella pianificazione era dato per certo in dismissione a parte quello di Porgibonsi a parte un altro Montale di Livorno erano previsti in dismissione l'impegno che era stato preso era di chiusura grosso modo al 2021 il comune fece presente che l'autorizzazione integrata ambientale era in scadenza all'ottobre del 2023 di quest'anno chiese e prospettò ovviamente un allontanamento nel tempo della chiusura dicendo vabbè andiamo alla scadenza naturale della priorizzazione integrata ambientale e nel frattempo pensiamo a soluzioni alternative non tanto o non esclusivamente per la RUR quanto eventualmente per un problema di trattamento dei rifiuti in termini generali considerando che si parla ormai di appunto ambiti ottimali e non necessariamente di comuni che devono provvedere in proprio a tutte le frazioni e così è stato cioè per i primi anni questo impegno è stato confermato è stato presentato un progetto di impianto per quanto riguarda FANGI e FORSU con tra l'altro un finanziamento importante da parte del PNRR e quindi c'è un progetto in corso tutto è andato così con anche tra l'altro l'ammissione stessa da parte dell'azienda della SOL che gestisce i rifiuti a Livorno che è una società anch'essa pubblica al 100% come socio unico al comune di Livorno e che è ANS bene nonostante tutte le ammissioni che questo impianto ha prodotto nell'ambito degli ultimi sei anni 17 milioni di debiti all'azienda e non di guadagni nonostante che l'impianto abbia 50 anni e che l'impianto gemello a Pisa sia stato chiuso dopo un'analisi epidemiologica quindi con una situazione assolutamente identica ormai dal 2018 il comune ha fatto una retromarcia nell'ambito di sei mesi tornando indietro puntando a che cosa dicendo abbiamo convenuto con in realtà poi problemi e pressioni che ci sono state a livello locale potete immaginare che sono state molte ed altre però la giustificazione è stata manteniamo attivo l'inceneritore di Livorno fino all'entrata in funzione dell'osso convulsore a pezzo questo è il rapporto che vi dicevo prima e sul quale vi dicevo su questo si giocano a volte le cose allora bisogna un attimo cercare di chiarire anche con gli amministratori purtroppo questa cosa ha portato in tempi abbastanza brevi a una rottura di rapporti e anche finalmente purtroppo lo dico io perché il comune di Livorno era un comune di rifiuti zero fino al 2010 e è stato espulso dalla rete dei rifiuti di comune di rifiuti zero purtroppo lo dico con un dispiacere enorme perché ci siamo impegnati io dico come cittadini e come attivisti insieme all'azienda su moltissimi progetti di recupero di riuso abbiamo facilitato e aiutato ma con riunioni settimanali bisettimanali aiutando l'azienda quindi dando la disponibilità e il senso che non c'è mai un problema che c'è un attivismo e una cittadinanza attiva che vuol collaborare alla risoluzione dei problemi non mettere in discussione o peggio ancora dare dei noi biologici a soluzioni ma semplicemente cercare di fare insieme dei percorsi questa cosa la racconto con molto dispiacere perché è un purtroppo un elemento di un bonus che si è creato indubbiamente per quanto riguarda anche il prossimo e immediato futuro il comune ha presentato la propria richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale anziché arrivare alla dismissione aveva tempo fino al 30 di novembre del 2021 per presentare il proprio ha presentato la propria domanda di rinnovo dell'AIA facendola passare anche qui senza mai trasparenza senza mai dire le cose per come stavano ma dicendo ma no stiamo rispondendo perché dovevamo rispondere sulle BAT e non su una domanda di rinnovo questo è stato purtroppo questo è avvenuto siamo arrivati a una rottura di rapporti che ci ha portato a questo punto a denunciare anche a livello di danno erariale perché questo impianto tra l'altro oltre a creare problemi di tipo ambientale sto qui a ridire la quantità di problemi che gli incendiosi creano spero in questo consenso sia ormai chiara ma ha creato e continua a creare problemi anche di tipo economico quindi il senso di questa operazione è un senso di rinvio e di agonia che in realtà risponde a interessi evidentemente diversi perché non nascondiamo intorno agli inceneritori così come intorno agli impianti ai progetti di gasificazione come diceva la prima Carbone girano molti soldi non sono sui rifiuti si spendono molti soldi della comunità gli inceneritori costano soldi costano in manutenzione costano per quanto riguarda quello che è il ciclo che non chiudono perché si diceva già stamani le ceneri che escono dagli inceneritori che sono tra l'altro rifiuti o speciali e problematici lasciamo perdere i fumi e tutto ciò che esce a livello di particelle e che danno alla salute dei cittadini ma anche i soli rifiuti che finiscono in discarica sono problemi anche dal punto di vista economico rigorno spende diversi milioni l'anno soltanto per portare in Lombardia o più lontano le ceneri del proprio inceneritore trattandolo con aziende locali di pretrattamento che guarda caso sono finite in indagini da parte della magistratura in alcuni casi sono state chiuse ora sono in fase di riapertura le stesse che gestivano le ceneri cioè si parla di problemi non indifferente il massimo dell'attenzione quindi anche quando si va a dire ok reti ambiente la richiesta in questo caso alle amministrazioni è di essere particolarmente attente nelle decisioni che poi la holding prende perché è facile che passino sotto traccia scelte che vanno nella stessa direzione che fondamentalmente il zero vista contesta che è quella della mancata circolarità e delle soluzioni termiche che ovviamente di cui abbiamo già ampiamente parlato stamattina se c'è qualche altra domanda fate non mi fermo perché ho parlato anche troppo ringrazio ovviamente tutti questi sono secondo me momenti importantissimi anche di connessione io credo molto cioè noi abbiamo una collaborazione buona abbiamo adesso con il comune di Colle Salvetti ci sono zone che Colle Salvetti è passata tanto per darvi alcuni numeri ha iniziato la raccolta differenziata porta a porta nel dicembre del 2021 rimandandola perché il primo atto che ha fatto l'amministrazione di Colle Salvetti nel 2019 è stato l'entare di Vito di Zero e questo tutto sommato è stato un buon passo il primo atto amministrativo presso l'amministrazione appena entrata il passaggio è stato dal 40 al 74% in un anno di raccolta differenziata Rosignano Marittimo è passato dalla raccolta stradale un altro comune in area area quindi in area dove c'è voi sapete una discarica importante che è quella di scapigliato e che quindi aveva ritardato moltissimo il passaggio a porta a porta è passato a porta a porta Rosignano Marittimo è passato dal 50 al 79% nell'ambito di un anno sono cose importanti giustamente facevo osservare Rossano Stamani non c'è di che bearsi bisogna subito intervenire fare molta attenzione perché poi ci sono le famose discese quasi immediate e i ritorni indietro quindi questi processi lo diceva anche il sindaco di Carminiano Stamani vanno accompagnati non sono mai cose automatiche non sono soluzioni che fatta una scelta si fa la scelta e porta a porta il su di zero è andato e più tutt'altro voi sapete che i dieci passi sono dieci giusto appunto il porta a porta ne ha uno solo e c'è bisogno di accompagnare con molta attenzione però ecco quando comunità e comuni fanno questi passaggi insieme le cose come vedete poi i risultati si vedono ci sono e questo è la cosa per cui questa serie di incontri per me ha un'importanza capitale proprio perché c'è questa importante importante incontro tra una realtà che deve fare i conti con un'amministrazione tutto il mio rispetto perché fare l'amministratore è un lavoro difficile enormemente difficile un po' per le normative ma anche per le difficoltà economiche per mille problemi il riuscire a farlo evitando i conflitti ma aprendo i confronti è faticoso indubbiamente per le amministrazioni però porta anche dei risultati importanti questa è una strada che va a mio avviso seguita senza altro Livorno purtroppo non l'ha più fatto grazie a tutti grazie 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 a Stefano Sedetti per l'importante realtà che ci ha raccontato passiamo ora al al TAT Montefoscoli sul tema dell'ossido riduzione e della discarica di peggio nella scaletta ma avevano messo la Silvia TAT Montefoscoli perché chi è il volto di questo TAT Montefoscoli sarà Andrea Calloni che per noi più modestamente è lo zio di Lorenzo è orgoglioso sicuramente decisamente vi ringrazio cercherò di essere molto sintetico visto la platea qualificata di oggi tra l'altro io rappresento oggi un comitato molto piccolo ci occupiamo dal 2011 della discarica di Legoli ma non siamo nemmeno nel comune di Peccioli dove la discarica di Legoli è situata quindi abbiamo avuto la sfortuna di trovarci a tre chilometri e mezzo dall'impianto il primo centro un pochino più importante a subirne le conseguenze il paese dove abito è Montefoscoli siamo meno di 400 anni però dal 2012 ci battiamo ci battiamo fortemente e abbiamo avuto diciamo l'intuizione e la fortuna di aver sposato fin dall'inizio la strategia di più di zero ci siamo innamorati di questa strategia io non conoscevo Rossano alla prima manifestazione la prima fiaccolata che Rossano giustamente raccontò in piazza dicendo dopo 20 anni è la prima manifestazione di dissenso contro la discarica di regoli tutti dicevano viene anche Rossano Ercolini viene anche Rossano Ercolini e non sapevo chi fosse poi ci siamo diciamo così abbiamo fatto questo percorso iniziale cercherò di essere molto sintetico mi ero buttato giù una serie di notizie intanto per contestualizzare quello che è la discarica di Peccioli oggi in 15 chilometri di raggio con in centro il paese di Casciana Terme sono situate e perlomeno nel 2015 quando abbiamo fatto questa rilevazione sono situate tre tra le quattro discariche più grandi della Toscana che sono Scapigliato Gello di Ponte d'Era Chianni e Legoli nel 3% del territorio regionale nel 2015 venivano smaltiti il 50% dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di tutta la regione sta riaprendo la discarica di Chianni è stata fatta una manifestazione dal coordinamento Valdera Velenata ora a Ponte d'Era una manifestazione a inizio marzo partecipatissima e questo non era da grandi scioperi della Piaggio che veniva organizzata una manifestazione di questo genere la discarica di Legoli è attiva dagli anni 80 ha subito ampiamente nel 1990 di circa 500.000 tonnellate nel 94 di 1.750.000 nel 2004 di 1.950.000 nel 2012 di 4.500.000 abbiamo fatto ricorso al TAR abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato presentato da WWF Toscana e purtroppo non abbiamo avuto ragione nel 2022 come se questo non bastasse trascorsi ben oltre i 30 anni di una normale vita di una discarica nel 2022 all'improvviso viene fatta richiesta dalla Belvedere che non è più società a capitale pubblico ma da pochissimo tempo non ha perso il Comune la maggioranza del pacchetto azionale nel 2022 sta rappresentata una richiesta per rifiuti speciali per 5.500.000 tonnellate è notizia di pochi mesi fa che la Regione Toscana finalmente ha respinto ed è notizia mi diceva l'assessore del Comune Palaia che era qui presente fino a poco tempo fa e la società Belvedere farà di forza al carro su questo affinché possimo al fine di arrivare a questa decisione della Regione Toscana ci siamo buttuti estrenuamente non solo noi che ripeto siamo un comitato piccolissimo però per la nostra esperienza è stata diciamo un episodio fondamentale perché siamo riusciti oltre a presentare noi le nostre modeste osservazioni sono state presentate osservazioni da Zero Waste dalle Gangiente Valdera dai comitati della Piana Fiorentina è stata una condivisione di contrarietà a quest'impianto che veramente ha apportato delle istanze da parte dei comitati che poi hanno portato anche la Regione a finalmente annegare questa autorizzazione momentale addirittura la Belvedere scriveva nella propria presentazione la non realizzazione dell'opera potrebbe provocare la difficoltà di chiudere il ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti una volta esaurite le volumetrie residui e la discarica quasi minacciando la Regione come dire se non ci concedete questa autorizzazione vi creeremo notevoli problemi naturalmente su questa discarica ci sono sempre le solite domande delle solite risposte stupide perché questa discarica nonostante che si attiva dagli anni 80 non ha ancora accantonato i fondi del post-mortem fino al 2014 ha sotterrato il tal quale nonostante quello che sia si è detto in giro dal 2014 c'è l'impianto che è viene definita o autodefinita un'esperienza virtuosa nel 2022 guardavo ieri i dati per avere i dati recenti complessivamente nel 2021 l'impianto di Legoli ha sotterrato 475.000 tonnellate di rifiuti quindi significa 1300 tonnellate al giorno considerando anche i giorni festivi per questa piccola realtà vedo sia un'enormità con le strade che accompagna al sito di smaltimento quindi potete immaginare cosa questo comporti per la nostra zona è una discarica che serve come dicevo guardavo ieri per più della metà situazioni e rifiuti provenienti da fuori provincia addirittura la Belvedere si vanta di presentare un record di sostenibilità quasi annuale ma per dire come ragionano loro e poi farò altri esempi successivamente elenca la situazione toscana e dice che la media di raccolta differenziata in Toscana è di X nella provincia di Pisa Y eccetera e guarda caso si dimentica di indicare qual è la percentuale di raccolta differenziata che è da sempre inferiore o addosso al 30% e si definisce esperienza di EPS la situazione oggi è di questa discarica che sta andando avanti l'autorizzazione che ha ottenuto nel 2012 ha quasi esaurito la volumetria concessa è in costruzione un impianto che sta costruendo ma non troviamo questo progetto la ALBE che sarebbe l'acronimo di ALIA più Belvedere e poi è venuto fuori questo nuovo impianto di vetrificazione già nel 2011 la Belvedere si vantava di proporre di montare un impianto il famoso dissociatore molecolare che è collassato già durante le prove ma al destramente hanno tentato di rivenderlo a un comune del Lazio non è successo neanche questo hanno bruciato qualche centinaio di migliaio di euro per me sono andato a vedere ho chiesto anche agli altri amici degli altri comitati se avessero notizie più aggiornate su cos'è questi impianti di vetrificazione mi sono visto anche la presentazione che questa società Ikea del gruppo Ansaldo ha fatto tramite i canali della regione fiscana allora viene spacciata con una tecnologia già sperimentata in realtà l'unica esperienza avviene da anni ma non da due tre anni da molto di più a Gioia del Colle con tutta una serie di problematiche ci sono pochissime notizie non sono stati conclusi esami su possibili impatti sanitari anche questo materiale vetroso non ha riscontro né sul mercato non si sa se poi sul mercato come è da avere un utilizzo e nemmeno sull'eventuale usura che poi questo materiale vetrificato e cosiddetto inerti in realtà contiene tutta una serie di materiali inocenti loro dicono che è zero emissioni poi alla fine tramite le domande che vengono poste in chat dicono sì proprio dobbiamo dire che non proprio tutte zero emissioni in realtà qualche emissione produciamo gas acidi ma non preoccupatevi perché questo poi verrà fatto un lavaggio che quindi lo rende non pericoloso quindi queste esperienze tecnologiche industriali si limitano a questa esperienza l'oriennale che tra l'altro ha avuto anche tutta una serie di problemi di cui si è occupata anche la magistratura non ha avuto nessun riscontro effettivo leggevo anche una critica di un professore universitario che aveva scritto addirittura nel 2021 e criticava anche tutta una serie di diciamo di elementi che aveva letto sul sito di questa idea vado a vedere oggi sono trascorsi più di due anni dal 2021 e il sito è uguale quindi non è cambiato niente le esperienze sono quelle è estremamente lacunoso è molto superficiale per essere un'industria cioè per essere una società che si vanda ad avere un prodotto così alternativo e vincente mi sembra che dobbiamo di che preoccuparci la domanda che mi sono posto è siccome il sindaco di Peccioli ci spenderemo o meglio i cittadini spenderanno 90 milioni di euro e dovrebbe servire dicono loro esclusivamente i rifiuti che non sono trattati dal TMD vale la pena e su questo progetto lavoreranno 25 naturalmente super esperti dell'ambiente vale la pena che i cittadini rischino al posto di una società e quindi si assumano i rischi di impresa 90 milioni per smaltire una cosa di questo genere quindi vogliamo davvero che addossarci di questa responsabilità è un affare privato o un affare pubblico questo tra l'altro quest'idea sembra sia una società abbastanza in crisi e poi l'altra domanda è ma perché se allora c'è questo progetto in essere perché la società Belvedere chiede un ampliamento di 5 milioni e mezzo tra l'altro con un orizzonte temporale fino al 2050 quindi ci sono tutte queste cose diciamo che dal punto di vista della sostenibilità pongono ben altre domande diciamo questo è un po' il quadro il quadro generale di oggi di questa di questa discarica che sembra non abbia mai fine un accanimento impiantistico che sembra sposti dall'orizzonte temporale di altri decenni e decenni ancora quindi questa è un po' la situazione attuale volevo averlo interpellato anche Rossano perché in questo orizzonte decisamente nero diciamo per la nostra piccola esperienza c'è anche un motivo di orgoglio come dicevo noi abbiamo iniziato nel 2011 noi siamo nel comune di Palaia vicini del comune di Peccoli abbiamo riscontrato nell'amministrazione una voglia di cambiare sono due piccolissimi comuni sia Palaia che Peccoli 4.500 abitanti ciascuno abbiamo intrapreso due strade diverse il comune di Palaia ha sterzato decisamente sullo sviluppo turistico il comune di Peccoli continua a procrastinare l'economia legata ai rifiuti nel 2017 credo anche con tutte le pressioni che facevamo da anni quindi anche con un'ammutata sensibilità da parte della gente tenete conto che nel paese sgrabito io 15 anni fa se uno si alzava in un'assemblea qualsiasi e si esprimeva contro Peccoli veniva giù il mondo perché era considerato siccome noi siamo vicinissimi tutti dicevano non l'abbiamo presa noi questa discarica modello questo gioiello e ce lo troviamo addosso non ne prendiamo i benefici e poi questi benefici in realtà quali sono? La popolazione del comune di Peccoli è in continua diminuzione viene spacciato che hanno l'energia gratis il riscaldamento gratis Macelloni si vanta di di elargire somme continuative all'associazione alle persone più bisognose per quale motivo la gente dovrebbe andare via da Peccoli quindi c'è qualcosa che non torna quindi noi abbiamo queste questa questa situazione grave che poi vive su due anomalie è fondamentale la discarica di regoli è situata entro 500 metri dal centro abitato questo in tutti tutte le volte che ci troviamo a ricorrere e fare delle osservazioni lo mettiamo bene in evidenza perché sarebbe un fattore escludente nel ricorso al TAR fu detto che avevamo fatto nel 2014 fu detto che era stato sbagliato a prendere il punto di riferimento per tracciare la distanza quindi che non doveva essere il cartello del centro abitato ma il centro del paese che comunque sarebbe ugualmente dentro a 500 a 500 metri nelle ultime osservazioni è stato detto che c'era prima la discarica per quale motivo dobbiamo andare a sindacare se oggi sta dentro un meno a 500 la seconda anomalia che penso gran parte dell'assemblea sappia è che dal 1988 c'è lo stesso sindaco già questo se si levasse dalle scatole sarebbe anche l'ora lui è in interrottamente sindaco del 1988 salvo che per un mandato in cui ha spostato lui è andato a fare il presidente la vervedere il presidente la vervedere è andato a fare il sindaco ora lui è ritornato a fare il sindaco e quell'altro è ritornato a fare il presidente la vervedere questo è il giochino che ha fatto si diciamo in questi giorni poi c'è da ridere per non piangere Peccioli viene sempre portato poi veramente viene portata come esempio da tutta una serie di associazioni è diventato un po' un santuario di rifiuti perché ora hanno aperto fanno l'open day della discarica hanno aperto un ufficio del turismo ospitano se lo ricordo male in un mese hanno avuto più di 4.000 visite alla discarica addirittura ci sono la cooperativa amiatina fanno parte della copp che ha scritto i soci hanno scoperto come la gestione dei rifiuti può avvenire riducendo l'impatto ambientale non so dove abbiano visto la riduzione ancora più grave l'ordine dei giornalisti toscana su cui anche Rossana ha fatto un post che dice riteniamo Peccioli un luogo adatto e belvedere fatto in ideale per parlare di Angola il Turin Club scrive di cui Peccioli è vanghera arancione ha scritto questo è un avveniristico impianto di smaltimento è una discarica punto e basta dove sia l'avveniristico impianto chiudo qua noi viviamo di fronte a questa discarica periodicamente scriviamo sui giornali che non ci pubblicano ci rivolgiamo al comune che ci ascolta e fa la propria battaglia ah mi sono dimenticato di dire che le osservazioni che abbiamo fatto all'ultima richiesta di ampliamento per la prima volta sono state fatte anche da comuni di Palaia e di Montaione quindi per la prima volta i comuni limitrofi si sono espressi in modo deciso e fortemente contrario a questo impianto Peccioli vive un po' di questa grande r invitano i grandi nomi la gente va a vedere gli spettacoli vanno a Peccioli i giornalisti di tutte le testate nazionali di tutti i magazine patinati che ci sono vanno a Peccioli pranzano vanno allo spettacolo nessuno che si e questo vi abbiamo scritto nessuno ha mai risposto naturalmente nessuno che si prenda la griglia di andare a Legoli o di scendere in piazza cosa che dovrebbero fare soprattutto i giornalisti e capire il sentore comune Peccioli è un paese profondamente diviso c'è una parte che lavora tenuta in vita e sostenuta da questa da questa amministrazione dal sistema Peccioli e c'è a metà del paese che è fortemente contrario perché non arriviamo o arriveranno perché non li posso votare alle elezioni decideranno di portare pagina purtroppo non non cambieranno le cose io ringrazio come? sì sì Fatto Quotidiano ha scritto diverse volte Macelloni ha avuto anche uno scontro forte con Peter Gomez che aveva usato ora vado a memoria un aggettivo che lui non aveva gradito aveva minacciato il denunciato tra l'altro Luca Sofri gestisce e organizza una rassegna definita alla Gorà della Valdera con tutti i giornalisti c'è stato da Michele Serra a Carofiglio a Valtelettroni tutti i nomi Lucia Annunziata chiunque vi possa venire a mente c'è stato e quindi non aveva gradito questo aggettivo che aveva utilizzato in dei giorni due giornalisti che avevano pubblicato un articolo sul fatto quotidiano online sono stati denunciati da Macelloni perché avevano detto delle cose che anche lui non aveva gradito quindi abbiamo fatto abbiamo tentato un po' con tutti questa cosa volevo ringraziare Rossano che ci ha dato ripeto sempre che noi siamo una piccolissima realtà però ce la mettiamo veramente dito Rossano ci ha dato sempre ampio spazio è stato sempre in prima linea come gli altri comitati ultimamente che ci hanno dato una mano lo dicevo prima a Stefano siamo veramente felici perché ci sentiamo non più da soli perché tanti anni siamo stati veramente da soli e quindi è stata una bellissima giornata il fatto soprattutto che si trovino gli attivisti cittadini le associazioni e le amministrazioni pubbliche è un fatto veramente veramente importante qui vorrei chiudere con una slogan che mi permetterete noi gli impianti peccoli sia a palaia che il percorso di Fugli Zero allora adesso l'ordine dell'intervento diciamo di un po' bellissimo ma interessante che è concluso però prima adesso c'è il rappresentante del comune di Peccoli sì sì no 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 ma non voglio presentare volevo volevo in 30 secondi esprimere costruttivamente e impegnativamente la solidarietà a Peccoli perché la prossima battaglia sarà sul vetrificatore legge si inceneritore di Peccoli in realtà come dicevi giustamente te Andrea che sei una persona pacatissima ma indipendente non sei io sono appassionato non sono estremista però sono appassionato appassionato tu sei anche una persona pacata che fai parlare i dati avete questo bel documentario il triangolo verde che magari ai comitati che a volte fanno iniziative sarebbe bene condividessero in solidarietà ma anche per far conoscere le comunità io ho seguito il caso dell'unico impianto che è un impianto pilota Gioia del Colle io sono stato invitato avevo a fianco a me il presidente del lancio nazionale De Caro De Caro di Bari e è una sola trattasi l'unica differenza tecnica perché lui mi diceva ma poi tecnicamente non so entrare nel merito no è un'altra bravissima più bravo di me sicuramente l'unica differenza è che mentre un incenditore tradizionale tratta attraverso la combustione attraverso il comburente aria che viene insufflato che viene soffidato in quel caso si tratta aria depurata da tutto ciò che non è ossigeno ecco quindi dovrebbe portare a temperature più elevate e a un'efficienza di combustione più elevata però esiste un unico impianto contestatissimo che è stato anche recentemente era stato bocciato dai tribunali amministrativi regionali poi nel gioco dell'infaure diciamo dei corsi e dei ricorsi è ritornato un gioco però è un impianto che non ha mai funzionato mi ha agghiacciato il sangue l'ha detto Giorgio del Vingaro è un sindaco quindi ha un'opinione da questo punto di vista anche più imparziale della mia è agghiacciante che si fa la democrazia noi abbiamo fatto qui e grazie di nuovo al comune di Carliniano a Edoardo alla detta stampa una conferenza stampa che ringrazio perché poi è uscita sui blog c'erano anche le televisioni di Prado una televisione di Prado però a Peccioli c'era pieno di giornalisti che mangiavano la pettunta pagata quando facciamo le cose allora non interessa risolvere il problema interessa afforaggiare i soliti noti punto interrogativo se non è così se vengo smentito io sono prima ad essere contento quindi il 26 avremo un impegno che non portare spero che ci sia la possibilità di recuperare un rapporto costitutivo anche forse in un po' di differenza ma questo è quello che avviene quello che ha descritto Andrea quello che avviene nella civilissima Toscana è un atto di messa a discarica della democrazia e dell'informazione quindi attorno a Peccioli erigiamo una battaglia campale non solo sull'ossido riduttore o vetrificatore verificheremo perché con Giorgio Del Viner abbiamo già portato una riunione del lato costa sul lato costa è inaccettabile io formalmente chiedo le dimissioni di Renzo Macelloni da presidente dei sindaci rete ambiente è una vergogna l'ho detto anche al sindaco Luca Menezini di Gavangoli al mio sindaco detto è inaccettabile che abbiate accettato la presidenza del lato costa dal punto di vista dei sindaci a un personaggio del genere si può avere idee diverse non c'è un problema ma lui non rappresenta le buone pratiche è spazzatura non lui ma quello che lui rappresenta quindi guardate che a me le parole non escono dalla volta è un impegno a sostegno della comunità non solo di Peccia ma di tutta la Valdera ed è un impegno perché altrimenti non ci scrogliamo di dosso questi poteri sport che sono inaccettabili in quest'era in cui o si va a lunghe pancate verso l'economia circolare la sostenibilità la partecipazione della democrazia diretta o si va a sfaccennare o andiamo a sfaccennarsi contro l'inquinamento ambientale contro il distatto definitivo della Lado scusate ma ci tenevo perché l'intervento di Andrea riscrive bene Davide contro Colio però noi forse siamo ancora Davide ma voi non siete i Davide piccolini ma siamo tutti insieme poi magari a qualche mese studiamo una nuova fiaccolata l'unico tributo al fuoco che ci piace grazie ok Laura non c'è non per sostituire ma adesso ecco fai allora la giunti ah no no scusa io ho surfato allora mi ammetto che chi vuol parlare insomma allo spazio libero si è intanto prempato per chiesole associazioni cittadini per chiesole abbiamo Renzo Lumpi che è bene del fagone c'era anche la sindaca di Monsumano c'era anche la sindaca di Monsumano abbiamo anche è rimasto il consigliere di Monsumano poi abbiamo il coraggio di Cille abbiamo Giorgio Pena non lo so se l'ora c'è è andato via quindi comunque chiunque vuole parlare può venire grazie sì vi porto i saluti del sindaco Anna Ravoni che non è potuta venire a questa giornata perché ha degli impegni sul territorio chiesolano e quindi è rimasta sul proprio territorio per onorare questi impegni anche l'assessore al territorio era con Anna e quindi ci siamo portati avanti diciamo così noi mi presento io sono Renzo Lucchi sono il presidente dell'associazione Cittadini per Fiesole cioè quell'associazione che esprime la lista civica Cittadini per Fiesole che ormai governa da nove anni a Fiesole dal 2014 parto da questo piccolo contesto permettetemelo della della lista della lista civica perché mi voglio subito riallacciare quello che diceva Rossano questa mattina ma anche ora lo ripeteva sul concetto di democrazia e sul concetto dei progetti di comunità noi quando ci siamo presentati la seconda volta la prima volta nel 2009 ma siamo andati all'opposizione la seconda volta nel 2014 come lista civica voi pensate noi abbiamo all'opposizione tutto lo schieramento di centrodestra e tutto lo schieramento di centrosinistra PD compreso quindi abbiamo portato in quell'elezione un'idea di progetto di comunità cioè per noi Fiesole il territorio fiesolano che prendiamo come concetto principale per la nostra azione civica in quel momento era come dire disgregato c'era un rapporto fra chi amministrava e cittadini che possiamo definire da subito e il nostro slogan infatti era cittadini fra cittadini cioè cercavamo abbiamo portato meglio un progetto di comunità cioè riaggregare una comunità intorno anche a grandi progetti visti grandi per noi importanti progetti uno di questi appunto perché siamo in questo in questo contesto era appunto l'idea di aderire alla comunità di rifiuti zero lo abbiamo scritto nel nostro programma elettorale del 2014 perché quest'idea perché abbiamo ereditato un un sistema di smaltimento dei rifiuti perché di questo parliamo a Fiesole per gli impianti altri impianti industriali o artigianali ce ne abbiamo ben pochi quindi il nostro problema il nostro tema è soprattutto lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ereditavamo un qualcosa che era ancora a cassonetti quelli stradali classici con delle piccole sperimentazioni sul Fiesole e in una piccola frazione a Caldine del porta a porta ma non avevano seguito dal 2015 quindi dopo un anno più o meno di lavoro siamo partiti con lanciando dei gruppi di lavoro su due temi principalmente uno era il consumo consapevole e mangiare sano e poi ci arrivo e l'altro era rifiuti non grazie cioè l'idea di aderire a rifiuti zero ma il nostro modo di lavorare questo grazie ad Anna che ce l'ha ben impiantato profondamente è quello di lavorare sempre per mai contro quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo piano piano lavorato e cominciato a lavorare con i cittadini in tante assemblee in tanti momenti fino a gruppi di lavoro condivisi con i cittadini stessi per far sì di far crescere una un'idea di far sviluppare che un'idea di smaltimento dei rifiuti continuiamo a chiamarlo smaltimento come lo chiamavamo allora e allora ci siamo confrontati con i cittadini ci siamo abbiamo studiato soprattutto e nello studiare abbiamo incontrato appunto Rossano e le sezioni di Firenze dei rifiuti zero i quali in più riprese Rossano in due presentando il suo libro e poi in un convegno fiesolano parlando di rifiuti zero abbiamo cominciato a mettere il seme a far capire a cercare di far capire e meglio a partecipare la gente a costruire questo programma sul finire del 2018 ci abbiamo messo tanto 4 anni 3 anni sul finire del 2018 no i primi del 2018 siamo passati a raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale lo diceva prima nell'introduzione di Stamani cioè trattare il territorio comunale almeno quello tutto uguale perché prima era macchia di leopardo il sistema di smaltimento quindi su tutto il territorio comunale abbiamo attuato la raccolta differenziata forti di questo momento di decisione di attuazione ci siamo proposti per aderire al rifiuti zero cioè non volevamo entrare la comune che non faceva niente no perché anche questo ce lo suggeriva Rossano quindi abbiamo detto prima attuiamo uno dei dieci punti per lo meno e poi proponiamoci come se saremo indicati e per entrare nella comunità rifiuti zero guardate nel 2018 prima di di attuare appunto la raccolta porta a porta abbiamo fatto tredici assemblee in parte le ultime tre erano informative su che cosa andavamo a decidere ma le altre precedenti no erano per capire per tastare il polso devo dire che all'inizio c'era una grande non opposizione ma una grande diffidenza dei cittadini verso la raccolta porta a porta e i mastelli in dove si mettano come si fa ma quante volte passa l'umido perché se uno fa il pesce in casa il venerdì come si fa se il sabato non raccolgano l'umido e tutte queste storie sapete tutti benissimo qualcuno alla fine di queste tredici assemblee ci ha detto che eravamo condannati a morte e che quindi nel 2019 avremmo pagato il dazio e quindi essere allontanati dai cittadini beh nel 2019 quando ci siamo ripresentati Anna ha nuovamente vinto le elezioni con un numero maggiore di voti e un numero percentualmente passando il 50% dei voti in quell'occasione che abbiamo chiamato anche Rossano per dirglielo e Rossano ci diceva vedete ha pagato la scelta e la partecipazione che avete fatto verso rifiuti zero forse le persone i cittadini hanno capito la finalità e per questo anche per questo forse ci hanno ci hanno premiato partivamo da e noi su questo abbiamo riflettuto parecchio Rossano e quindi abbiamo continuato a lavorare fino a far crescere quello che vi dicevo il gruppo di lavoro consumo consapevole e mangiare sano anche quello è stato un lavoro sull'agricoltura fiesolana che forte della scelta dei rifiuti zero andava verso la scelta biologica anche questa l'abbiamo costruita insieme agli agricoltori insieme dal basso e alle tante associazioni fiesolane e nel 2021 siamo passati come il primo distretto biologico della Toscana quindi un connubio sul territorio importante per noi la scelta dei rifiuti zero e la scelta biologica e fino al distretto biologico della primo distretto biologico della Toscana ecco credere quindi in questi aspetti e costruirli insieme ai ai cittadini non solo poi arriviamo ad arrivare ad approvare le scelte ma facciamo sì che i cittadini partecipano alla scelta stessa questa è stata la nostra scommessa su questi due temi poi ci sono vantima altima andrei fuori telo ecco da questa scelta che cosa è successo per noi nel 2018 eravamo a una raccolta differenziata del 60% e oggi viaggiamo intorno all'80% questo elemento di viaggiare alti almeno per Fiesole per come partivamo sulla raccolta differenziata ci ha fatto sì di aderire alla sperimentazione per la per la tariffa corrispettiva e siamo 13 comuni dell'area fiorentina e del Mugello che hanno aderito a questa prima sperimentazione diato centro che andremo l'abbiamo messa in atto e andremo a constatare se come si diceva stamani raccolta differenziata porta a porta più tariffa corrispettiva o puntuale porterà nuovi frutti per abbassare il rispetto e incrementare la raccolta differenziata ecco qui scontiamo che cosa scontiamo non voglio parlare di inadeguatezza perché l'ho detto prima siamo abituati a lavorare per ma con il gestore che è Alia in questo caso della nostra zona il passaggio alla corrispettiva è stato un disturbo verso i cittadini perché fai la coda per ritirare i tag dei cassonetti e come si misurano e spiegano anche questo in altre tante assemblee non altre tante in cinque assemblee abbiamo cercato di portare il concetto far passare il concetto e guardate che cosa abbiamo trovato in queste assemblee tanti cittadini che si arrabbiavano perché facevano code di due ore allo sportello per ritirare i tag poi non arrivavano poi non eri registrato poi invece dal primo gennaio è stato spostato al primo marzo quindi inadeguatezza diciamo così e quindi abbiamo cercato di aiutare Alia voi pensate che alcuni consigliari comunali sono andati allo sportello di Alia per consegnare i tag per cercare di far prima possibile e quindi mettendosi anche a disposizione l'amministrazione via più che noi come associazione ecco in questa discussione in questo tra virgolette disturbo però non era calata la percezione e la responsabilità della raccolta differenziale abbiamo visto e vedevamo nelle prime assemblee che indietro non si torna e questo ci ha fatto estremamente piacere fino a un punto però che ha distrutto questa nostra immagine ve lo dico col cuore perché su questi temi sulla raccolta differenziata e sulla passaggio alla tariffa puntuale noi che cosa spiegavamo spiegavamo che ci sarebbe stato anche un ritorno economico verso i cittadini più virtuosi e quindi questo cercare di fare compensare gli incrementi di ato centro che avremo anche nei prossimi anni il sindaco di Carminiano lo sa lo sa bene e quindi lo presentavamo in questi temi anche guardate se si fa i bravi possiamo anche ridurre la tariffa ecco su questo si è innescato un gioco partitico incredibile la lega si è buttata sul costo dei rifiuti dimostrando che la raccolta con i cassonetti costa meno del porta a porta e quindi sta raccogliendo le firme per passare per tornare ai cassonetti a chiave con tanto di telecamera perché nessuno butti di fuori niente e abbandonare il porta a porta per i costi e quando si fa leva sul costo la gente qualcuno ascolta è questo il tema quindi quella responsabilità che gli abbiamo dato va coltivata bisogna riuscire a coltivarla e a sostenerla e questa è la grande difficoltà delle amministrazioni comunali non solo ma visto che con la tariffa corrispettiva praticamente misurata quindi sul rifiuto residuo il residuo cerchiamo di esporlo meno volte possibili in maniera che la misurazione è tutta sul differenziato quindi è passata l'idea ma è vera che il mastello esponiamolo quando è bello pieno e teniamocelo in casa se è mezzo vuoto quindi i cittadini ci hanno un po' detto eh ma puzza ma come si fa come non si fa dove si tiene eccetera eccetera e qui anche qui sopra il gioco partitico sulle perplessità dei cittadini è partito il partito democratico dicendo sì al porta a porta ma per l'umido per scusate ma per l'indifferenziato torniamo ai cassonetti con la chiave quindi doppia raccolta ecco vedere sciupare passatemi il termine eh per interessi partitici questa eh quello che avevamo costruito tutti insieme cittadini compresi eh nei quattro anni fa male questo ve lo volevo riportare perché stamani sentivo proprio questo questa idea di collettività di condivisione di responsabilità del cittadino ma ma coltivata va coltivata bene quindi c'è bisogno ancora almeno su Fiesole di tornare a far percepire che cos'è l'idea di rifiuti zero perché quella noi vogliamo perseguire allora stiamo lanciando anche temi come il riuso e qui soprattutto in collaborazione al centro di riuso di Londra eccoli là che abbiamo conosciuto negli scorsi anni ma ancora anche lì fatichiamo insomma ecco mettere in campo tante altre tante altre azioni ecco un'altra noi in Ato per riportare il problema di Ato centro perché forse Rossano c'è bisogno di affrontarlo anche questo tema di Ato centro abbiamo un piano finanziario disastrato disastrato o meglio fatto di quattro anni di aumenti del 6% poi c'è Areva percentuali varie eccetera che ci porta a cifre esorbitanti guardando quelle prima ti stringevo nelle spalle e quindi lì c'è da capire come lavorare guardate in Ato l'esperienza che abbiamo fatto non è la discussione sul tema della raccolta o sul piano decennale ormai morto di Ato di Ato centro che poi si basava sul residuo sull'inceneritore al quale l'amministrazione comunale di Fiesle aveva detto no ma su Ato si discute per indirizzo partitico e quindi non c'è una discussione sul livello del rifiuto e del suo trattamento e via dicendo ma lì si prendono ordine di come occorre guardare l'ultima volta il comune di Fiesle ha detto no al piano finanziario non siamo stati trattati bene in Ato così come ha detto no alla multiutility perché non c'è mai un'idea quello che almeno nella piccola nostra esperienza un'idea di quello che dovrà essere un piano sui rifiuti se non sbaglio Rossano il piano regionale è dieci anni che deve venire fuori un piano regionale e lo scontiamo tutto ma è mai possibile che non ci si metta un tavolo a discutere nei e quindi mi fa piacere se il 26 recuperiamo un un dialogo perlomeno un'apertura di idee io oserei oserei dire guardate in Ato Centro e finisco siamo 62 comuni solo 4 fanno parte dei riciclizzer forse è il caso di lavorarci anche in Ato Centro almeno questi 4 sono di più allora forse sono rimasto indietro allora quelli che sono anche di più di 4 forse è il caso di cominciare a lavorare insieme si diceva stamani col sindaco vediamo quello è possibile è possibile fare perché proprio da questi comuni deve partire la discussione disinteressata guardate rispetto allo schieramento partitico che ognuno di noi che ognuno di noi ha perché è il tema fondamentale per i nostri per i nostri giorni la difficoltà è l'ultima cosa questa ve la voglio dire perché ecco quando noi ci confrontiamo con i nostri concittadini che comunque continuano ad avere ancora un livello di raccolta oltre quasi all'80% ci confrontiamo e ci diciamo ma dove va a finire tutto il nostro sforzo o meglio la nostra responsabilità di differenziare differenziare bene e senza inquinamento del rifiuto differenziato dove va a finire bene in atto centro se non sbaglio parte della raccolta dell'umido va a finire fuori regione come smaltimento e non è tutta trattata in atto centro l'indifferenziato credo vada a finire addirittura in Olanda per essere per essere bruciati e lì ci dimostrano come l'elevato costo per portarlo a bruciare lassù è costa costa a tonnellata costa a quintali eccetera eccetera quindi costi come si fa a non poterli sostenere ma io mi chiedo ma dov'è un piano regionale che metta insieme eletreato e sviluppi il tema del trattamento dei rifiuti e davvero avere dall'indifferenziata una 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 risorsa ecco questa è l'esperienza di Fiesole mi scuserete se sono un po' stato un pochino saltellone però questa è la nostra esperienza e su questa esperienza noi continuiamo però a scommetterci tuttora con la tariffa corrispettiva e quindi dobbiamo ripartire non voglio dire nell'educazione ma nel senso di responsabilità dei cittadini grazie applausi 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 allora si è prima di parlare è il diritto di zero di Arezzo che per arrivare ha fatto le perivezie stavano si è ridotto in questo modo grazie dopo c'è il consulterio di allora io si faccio parte del gruppo di giudizia di Arezzo ho fatto parte tuttora ne faccio per molti anni del comitato vittima della discarica di potere di Rota di Terrenova Bracciolini anche lei è una delle più grosse della Toscana e abito a loro giuffena da 14 anni l'unico comune insieme a Sovicille della provincia di Arezzo è l'unico comune del GD0 insieme a Sovicille sono gli unici due dell'Ato Sud ma non parlerò qui della situazione di questi comitati o di quello che si fa la giuffena perché intanto per cominciare avrebbe dovuto semmai farlo l'assessore di loro che è dovuto andare via e perché devo dire sinceramente che in questo momento sia il comitato di vittima di potere Rota che il GD0 non stanno passando uno dei momenti che ho migliori della loro vita vorrei trattare solo due punti uno è intensificare delle cose che sono state già abbastanza dette con una sorta di metafora e l'altro riguarda invece una questione che io ho come problematica e su cui che la lancio voglio sentire magari in futuro insomma è l'opinione di voi altri allora è stato detto appunto da molti interventi quanto sia fondamentale la la relazione continua e sistematica formativa e informativa con la cittadinanza io direi che si dovrebbe forse sostenere che per far parte della rete di GD0 Arezzo un comune deve dimostrare un certo livello di attività su questo frutto altrimenti si fa finta l'importanza di questa cosa va vista con un esempio la metafora è questa qual è il rifiuto principale che diciamo l'umanità si è sempre occupata di allontanare le deiezioni corporali nel medioevo si buttavano in mezzo alla strada o si facevano delle specie di depositi nelle case cosa che va di contemporanea con le massicce epidemie di peste è normale tra l'altro questo mostra come la situazione epidemica di una popolazione umana è strettamente legata all'organizzazione sociale un altro esempio in questa linea si può fare con gli studi che sono stati fatti da medici del lavoro eccetera sulla storia della tubercolosi in relazione all'organizzazione del lavoro industriale alla povertà delle popolazioni eccetera c'è da ritenere che probabilmente anche certe pandemie di carattere soprattutto polmonare come sosteniamo sono legate all'organizzazione del sistema di medicina ma qual è l'organizzazione del sistema dei rifiuti che abbiamo ereditato dal meccanismo dell'allontanamento delle deiezioni corporali con un semplice è chiaro che diciamo fino io negli anni 70 sono stato ospite di una famiglia nel Friuli dove il bagno cioè non c'era il bagno in casa era fuori però insomma per molte famiglie per molte popolazioni al mondo in questa parte del mondo ci sono due secoli almeno in cui il semplice gesto che dura un secondo che tiri lo sciacquone ti allontana il rifiuto cioè c'è uno scarto che viene allontanato via attraverso le foglie poi al fiume poi al mare all'oceano sparisce non lo venite sono secoli che abbiamo questa idea e la questione dei rifiuti è stata precisamente degli altri rifiuti è stata pensata ancora così la maggior parte delle persone ancora pensa che qualcuno mi deve allontanare non li voglio più vedere il sindaco li bruci li sotterri faccia quel cazzo che gli pare ma a Merilia mi gli torna questa è una rivoluzione antropologica non si risolverà se non in un secolo probabilmente che non vuol dire anzi vuol dire che dobbiamo cominciare ancora prima ed è permettetemi diciamo questa specie di come posso dire di cosa da marsistello cioè questa questione che diceva lui della Lega che diceva che con i cassonetti si spende meno è rappresentare come una relazione fra cose fra costi fra merci quella che è una relazione fra persone e cioè il rapporto fra noi e i nostri nipoti le nostre nipotine piccole che abbiamo e le generazioni future e quindi è una mistificazione dunque se questo è vero dobbiamo cioè non possiamo sapere sapendo che avremo dei risultati parziali per molti anni a venire ma senza queste attività formative senza che appunto la distribuzione porta a porta non sia un semplice fattinaggio me li portano via controllano magari che li faccia abbastanza bene ma che sia contemporaneamente una convocazione di iniziative formative in continuo di revisioni e così via con la popolazione secondo me non abbiamo fatto beh secondo punto da noi c'è stata questa questione della multiutin cioè dappertutto in toscana sicuramente e devo dire che sempre a proposito di rapporto con la popolazione c'è stato un solo comune che ha fatto di sua iniziativa un'assemblea pubblica una riunione pubblica sulla questione per motivare la propria posizione che è Montevarchi qualcuno che fa della dietrologia dice sì ma perché Montevarchi è amministratta dal centrodestra e siccome Dinelli che è il sindaco da Rezio oppure lui di centrodestra e fa i soldi con l'inceneritore la lotta che è stata fatta anche per una lotta in prima persona che è stata fatta contro la discarica e anche questa cosa di non stare nella multiutility perché c'è troppo più il D mentre invece la destra sarà anche vero non mi interessa il punto è che da chi diciamo ha avuto la responsabilità perché in tutto il Val d'Arno quasi tutti i comuni non aderiscono al progetto l'eccezione naturalmente è quella che potete immaginare cioè Terra Nova che campa sull'indennità del disagio ambientale che è sempre stata con Firenze da 15 anni a questa parte e quindi naturalmente loro ci stanno lo sapevamo poi c'è stato in realtà Castelfranco Piondiscò che un po' alla chichella ci stava ma è successo un pasticcio ha dovuto convocare un'assemblea pubblica e il sindaco era talmente imbarazzo su questa cosa che ha fatto di aderire di rompere un po' questa comunità del Val d'Arno che a un certo punto solo perché qualcuno del pubblico applaudiva ha interrotto la seduzione del Consiglio Comunale Aperto ci sono state urlate chiamate di carabinieri e tutt'ora quello che io vedo che questa situazione rappresenta e anche che diciamo spiega secondo me il comportamento del sindaco di Frantella Franco Piondiscò è che affidarsi a questa moltiutilità generale corrisponde a una tentazione che c'è in tutti gli amministratori e cioè l'abbandono della politica come servizio e l'adesione alla politica come delega qualcuno me lo fa e io appunto come diceva il compagno questa mattina mi limito a notificare le tariffe che sono state delle tarie eccetera che sono state prevermiate da un'altra parte cioè c'è una sorta di debolezza come dire spirituale nell'atteggiamento di queste amministrazioni e io credo che il pericolo che corriamo nel Valdarno e questo appunto è il punto problematico che voglio sottolineare è che tutti gli altri sindaci e sindache diciamo che non fanno subito una bruttissima figura perché non aderiscono ma se non matura niente da noi quando stiamo piano avrà finito il suo mandato piano piano uno dopo l'altro per spingimento perché non ci sono alternative diranno e che si fa e vabbè cerchiamo anche noi non c'è rimasto nient'altro da fare dunque è della massima importanza fare una proposta e questo è appunto magari mi sbaglio sul modello di Priula il Valdarno Fiorentino Arepino si deve dare una un bacino una comunità di bacino per appunto coordinare per vedere se questo rifiuto di stare alla multiottimiti è sincero ed è diciamo un po' programmatico ed energico e appunto studiare come gestire complessivamente non solo i rifiuti ma appunto anche altre cose però non so se la dimensione sia quella giusta se bisogna pensare a qualcosa che ci sia un chiarezzo e tutto quanto insomma e se la cosa ha senso grazie 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 Monzio Manoterme Monzio Manoterme è uno dei comuni dei comuni della provincia di Pistola come ha detto Laura ad aver aderito nel 2021 al progetto il 3.0 e di questo mi è fatto orgoglioso perché sono stato in qualche modo il promotore di questa adesione Monzio Manoterme nel 2011 ha già attuato la raccolta di rifiuti porta a porta l'unione dei comuni che già da diversi anni attua questo sistema di raccolta di rifiuti poi nel 2017 faccio una premessa nel comune di Monzio Manoterme esiste una discarica per il conferimento di rifiuti indifferenziati chiamata impianto di trattamento di rifiuti il fossetto dove i comuni limitrofi della zona conferiscono indifferenziati nel 2017 purtroppo anche con la precedente amministrazione è stato deciso di ampliare questa discarica quindi addirittura hanno saputo che venisse creata questa ottava vasca di parliamo di 200.000 metri pubblici di volume e dal 2020 sono iniziati poi i lavori di realizzazione e conferimento in questa nuova vasca quindi purtroppo questa discarica vedrà ancora un po' di anni diciamo di di attività purtroppo tra l'altro faccio anche una piccola parentesi questa discarica si trova anche per chi conosce la valdinevole adiacente un'area che si chiama quadrui di fucetto che conoscete immagino quindi diciamo una cosa come proprio un controsenso vedere una discarica in prossimi italionari naturalistiche con quadrui di fucetto detto questo purtroppo il progetto è avanti e attualmente la discarica continuerà a essere operativa nonostante questo quindi poi nel 2021 ho convinto l'amministrazione ad aderire che poi è cambiata aderire a questo progetto e come attività diciamo inerenti a questa strategia dal 2023 anche noi abbiamo attuato la perifra corrispettiva quindi questo già è un ulteriore step che l'amministrazione ha deciso di portare avanti ma ovviamente questo non basta e sono intenzionato assolutamente a continuare a stimolare l'amministrazione per attuare nuovi progetti ora stamattina sentivo alcuni soggetti come la di Smeco e come il tesi presente tesi per questi progetti di ciclo RAE oppure di tessuti quindi assolutamente sarà un nuovo diciamo motivo di stimolo per l'amministrazione a pensare a nuovi progetti per Monzumano Terme visto appunto sia l'esistenza della discarica che un domani sarà oggetto di recupero un progetto di naturalizzazione o quello che insomma si potrà realizzare ci faranno un po' di anni ma l'importante è cominciare e poi abbiamo anche nel territorio un centro di raccolto in isola ecologica nella quale il mio impegno il mio sogno mettiamola così sarebbe quella di crearci un centro di recupero e riuso dei difficili quindi ora lavorerò e lavoreremo spero su questo progetto anzi già come diceva Laura vorrei l'occasione per chiedere all'associazione di incontrarci nel territorio così potrete conoscere meglio queste realtà del centro di raccolto e della discarica e pensare insieme a come attuare delle strategie utili per il recupero di questi di questi vicini quindi sono molto veramente felice di aver partecipato a questa a questa occasione e spero che anche la mia amministrazione contribuisca a questo progetto grazie allora che gli interventi sono finiti Milena ecco infatti ho mandato in Londra io sono Milena Londra è in Val di Sieve e in Val di Sieve abbiamo due comuni che hanno aderito a rifiuti zero uno è il comune di Londra appunto dove c'è il centro di riuso che è aderito a rifiuti zero già nel 2015 abbiamo fatto molto molto lavoro con l'amministrazione con la popolazione varie campagne per il compostaggio per per la riduzione dei rifiuti mercatini per riuso incontri di riparazione fatto sta che questo comune ha raggiunto dei buoni livelli dei livelli molto alti di raccolta differenziata oltre l'ottanta ed è stato per molti anni sui 50 kg di indifferenziato pro capite poi è arrivato il covid quindi insomma un pochino ci siamo fermati poi è cambiata l'amministrazione poi hanno avuto vari problemi hanno avuto bisogno di accedere al PNRR a vari finanziamenti per problemi abbastanza grossi che avevano nel comune quindi questa collaborazione si è un po' fermata però speriamo che possa riprendere appena insomma vari problemi sono stati risolti il comune di Pontassiello invece ha aderito a rifiuti zero nel dicembre 2019 dopo un lungo lavoro fatto insieme a noi attivisti delle associazioni vari incontri con l'amministrazione con la popolazione però poi hanno accusato anche loro il PNRR però diciamo che hanno un po' dormito c'era una delibera che era molto ambiziosa con molti obiettivi però non sono stati portati avanti e anzi i nostri rapporti con gli amministratori sono diventati sempre più difficili ecco noi ci siamo sentiti un po' come diceva Stefano Seghetti prima ci siamo sentiti un po' che erano state fatte delle grandi promesse magari nel periodo elettorale e poi poi forse le divisioni interne agli amministratori forse tutta una serie di motivi non non è andata come a Fiesole insomma ecco anzi noi siamo molto contenti di avere vicino Fiesole perché qualche volta magari possiamo portare esempi oppure e sentirci insomma appoggiati da loro fatto sta che appunto non si è fatto quello che c'era nei vari obiettivi della delibera non è partito il porta a porta non è partito quindi la tariffa puntuale di conseguenza il centro di riuso di cui si è parlato per anni con gli amministratori il centro di riuso ce lo siamo fatto da soli abbiamo affittato un fondo paghiamo noi l'affitto paghiamo noi le utenze e siamo pure in attivo diciamo abbiamo pure un buon attivo quindi stiamo dimostrando che non solo si può fare ma che funziona bene che può avere un risvolto economico oltre a molti altri risvolti perché qui arrivano le persone stiamo vicini alla popolazione parliamo discutiamo di tante cose vengono fuori tanti argomenti su cui possiamo intervenire possiamo fare all'interno del centro di riuso varie iniziative anche anche sulla modalità della raccolta differenziata sul riuso del tessile sul riuso dei rai insomma abbiamo sempre partecipato per esempio alle giornate della settimana europea alle settimane della settimana europea per la riduzione dei rifiuti e abbiamo molta partecipazione quindi per noi quello è un punto importante una sorta di presidio sul territorio tornando invece al comune di Pontassieve dopo appunto il 2019 solo due mesi fa è partita la manifestazione di interessi per entrare nell'osservatorio a cui naturalmente abbiamo aderito anche sull'osservatorio ci sono state molte discussioni perché la nostra proposta era quella che fosse un osservatorio della cittadinanza quindi un organismo gestito e partecipato dal BAS sono riusciti a trasformarlo in un altro una brutta copia del consiglio comunale della burocrazia comunale e approvando una delibera in cui i cittadini membri dell'osservatorio devono essere solo due invece dei tanti che noi avevamo che noi avevamo proposto però hanno la maggioranza in consiglio comunale c'è una maggioranza PD e liste correlate quindi questo questo è stato quindi niente ci siamo sentiti anche spesso in difficoltà perché appunto la comunicazione con gli amministratori è diventata difficile e avremmo avuto bisogno anche di di confronto e di consiglio ringraziamo tantissimo Laura Rossano e tutti gli altri che ci hanno sempre sono sempre stati molto disponibili e molto vicini a noi piacerebbe poter avere un un contatto anche più ampio con tutte le realtà dei comuni rifiuti zero non lo so come una chat su whatsapp non lo so in cui ci sono i membri degli osservatori o ci sono gli amministratori o ci sono quelli strettamente correlati con la realtà dei comuni rifiuti zero in cui magari se c'è un problema si butta un SOS e magari qualcuno che ha già superato quella difficoltà o avuto quell'esperienza ci può dare una mano insomma non siamo una realtà molto molto piccola quindi niente io ringrazio tutti per il lavoro incredibile che si sta facendo grazie più di intervento vorrei fare una domanda che qualcuno mi può aiutare a rispondere sì di Campedizia Morelli sono la consigliera di Unito Cinque Stelle di Pucecchio e dunque a Pucecchio con l'amministrazione ho chiesto a suo tempo ho ottenuto il centro che si chiama semplicemente Onlus gestito da volontari che recupera tutto quello che la gente butta via e che comunque dà gratuitamente a chi ne ha bisogno però ecco si pagano l'affitto si fanno tutto si autogestiscono il comune in questo non contribuisce niente la cosa che vorrei chiedere se qualcuno mi sa rispondere il centro di raccolta come sarà a Pucecchio sarà anche in altri centri se uno va lì io evito ad andarci non me lo nascondo mi faccio anche ridere perché quando vado lì è più la roba che cerco di rubare tra virgolette perché non si può prendere niente e quindi mando mio marito perché arriva a casa e mi trovo in macchina più costa di quello che ho portato magari anche regalandole io non posso vedere proprio buttare via la roba come penso gran parte di un genio è presente perché se no non avrebbe senso essere qui ecco mi hanno detto che non si può creare un centro di raccolta che metta a disposizione di chi vuole la roba che la gente butta via ma è vero o non è vero perché cioè è illegale mi è stato detto dagli operatori che lì ci lavorano dice se ti vedono prendere qualcosa ci sono le telecamere addirittura qualcuno mi disse e poi puoi essere richiamata all'ordine ora io non lo so siccome non è stato detto sull'acficicchio perché sarebbe una cosa veramente sensata cioè una cesta la mette lì io vado lì prendo la cesta e la porto via ma dal momento presente la mia amica che è andata in Svizzera in Svizzera ha detto c'è un centro di raccolta dove la gente va lì deposita quello il quale se ne disfà io vado lì prendo quello che voglio e lo porto a casa perché da noi non si può fare io non riesco a capire cioè se qualcuno mi può saper rispondere grazie grazie comunque per tutta l'organizzazione per me di Dienzo di Dienzo che non può essere sì allora per l'intervista un intervento che me lo era benissimo di Dienzo favorino avuto un contratto con famiglia e quindi non riesce a poterarsi neanche nel pomeriggio però magari possiamo mettere la soluzione dei slide perché i suoi interventi erano proprio sui miti sullo sfatare i miti dell'Ice quindi sono delle pidole utilissime magari mettiamo a disposizione quelli c'è qualche altro intervento Alberto 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 il nostro cerimonio di Dienzo esatto grazie grazie è giornata interessantissima ma Rossano ci ha abituato a queste giornate importanti e forse ora è proprio un momento particolare per ricominciare a tessere questa questa tela molto complessa molto complicata io intervengo a titolo personale sicuramente perché il mio rapporto con rifiuti zero è data da tanto tempo ma devo ammettere che intervenga anche al nome del Movimento 5 Stelle nel senso che Rossano ha già anticipato che il 26 ci sarà in consiglio regionale questo incontro ovviamente questo incontro è concordato con Rossano e avrà questa caratteristica di essere la mattina pubblico e il pomeriggio questo lo dico vi chiederete ma perché questa scelta quindi ve lo dire e ve la spiego anche il pomeriggio lo facciamo riservato agli iscritti al Movimento 5 Stelle perché organizziamo un gruppo di lavoro permanente che poi valuteremo insomma come organizzarlo nel senso che la mia idea perlomeno è quello che non si è riservato agli iscritti al Movimento 5 Stelle ma sia il più ampio e il più largo possibile però il primo incontro che sarà rivolto agli amministratori del Movimento 5 Stelle agli iscritti è a questa caratteristica perché vogliamo fare una discussione essenzialmente tecnico-politica e quindi forse non sarebbe stato diciamo per tentativi soprattutto in un momento complicato come quello che stiamo attraversando l'idea è venuta perché come voi forse sapete in occasione delle ultime elezioni politiche Rossano e il Movimento avevano rivolto un appello a tutti i candidati di tutte le forze politiche per la firma di un protocollo il protocollo rifiuti zero in Toscana coloro che hanno a me risulta poi casomai Rossano mi protegge ma che hanno risposto a questo appello sono stati solamente due esponenti politici cioè Irene Galletti consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Andrea Guartini che poi è stato eletto il deputato per il Movimento non so se poi avevano avevano firmato mi sembra setto perché in realtà un cartellone di in Toscana mi sembra 8 o 9 candidati a presidente della giunta non era rivolto ai candidati consiglieri se no le coalizioni quindi il problema è che non sono stati eletti gli altri e gli unici eletti sono gli unici eletti sì penso per esempio Tommaso Fattori si 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 aveva firmato il candidato dei comunisti dei comunisti ora telelist non me lo ricordo però magari in quella sede diremo no riporteremo un pochino anche per correttezza ecco ecco quindi comunque diciamo gli unici due eletti sono il Movimento 5 Stelle e quindi parlando anche con Rossano con Stefano con Marco Cardone perché l'esperienza di Empoli è stata veramente straordinaria guardate sono stati di una bravura incredibile perché nessuno vi dava un tirino per vincitori conoscendo bene la zona l'Empolese con una spiccata mentalità in più individuale là dove è nato il rencismo insomma si pensava su chi fosse una battaglia persa a partenza invece c'è stato veramente ma però Empoli è anche una dimostrazione molto concreta che se riesci a impostare una battaglia con argomenti riesci a dialogare con i cittadini riesci a stabilire un rapporto una vicinanza insomma non sempre si vinci ma qualche volta si può anche vincere vero architetto Tamburini si può anche vincere eh scusa avvocato Tamburini avvocato Tamburini perché appunto anche noi veniamo da due esperienze eh quella della piana e quella sì che sono passati troppi anni troppi anni quindi se ne è persa se ne è persa un po' la memoria allora io penso che l'incontro che organizziamo per il 26 mattina appunto quello pubblico sarà soprattutto un confronto tra Rossano e noi ci auguriamo l'assessore Mondi ci auguriamo in che senso nel senso che abbiamo organizzato così l'incontro della mattina abbiamo già fatto la richiesta all'assessore di questo incontro abbiamo speranza che questo incontro avvenga nel senso non c'è stato detto di noi immediatamente quindi insomma noi continuiamo a lavorare come se questa fosse un'ipotesi molto concreta e nei prossimi giorni ovviamente continueremo a lavorare per questa per realizzare questo incontro perché se ovviamente si realizza questo incontro e questo confronto le ragioni sono molte dalla nostra parte possiamo mettere sul tappeto e qualche volta insomma la ragione può vincere anche sulla forza e voi capite che anche l'incontro del pomeriggio assumerebbe un altro un altro aspetto perché da l'esito dai risultati di questo incontro io penso e auguro e spero in senso positivo ma anche se fossero in senso negativo cioè di una chiusura totale dell'assessore Monni ovviamente noi dovremmo appunto fare una riflessione su questo comportamento io ho seguito in questi giorni oggi si vota a Impruneta Impruneta è un comune rifiuti zero che però per il comportamento del sindaco diciamo praticamente è rimasta l'adesione ma la sostanza non c'è stata non c'è stata più non c'è stata più una politica attiva a favore della strategia rifiuti zero nel programma del nuovo sindaco c'è stato scritto esplicitamente del nuovo candidato del nuovo candidato a sindaco di un'ampia coalizione anche un po' originale perché va dal PD al Movimento 5 Stelle a liste civiche eccetera eccetera il programma del candidato di questa lista prevede esplicitamente non solamente il no alla multiutilità e se permettete con il simbolo di PD il no alla multiutilità insomma ha fatto un po' scalpore il no alla multiutilità prevede un rilancio della partecipazione e dell'iniziativa a favore di più di zero e siccome anch'io e termine credo che nel lato centro c'è bisogno veramente di ingaggiare una bella battaglia c'è veramente bisogno di ingaggiare una bella battaglia perché poi l'asse scusate se faccio dei nomi ma insomma l'asse Biffoni Nardella e Sindaca di Barnini Sindaca di Empoli insomma va credo ci dobbiamo rendere conto delle politiche sbagliate che questo asse propone e quindi elaborare strategie adeguate sempre pro ma incontro pro nel senso di innalzare il livello di proposta e di iniziativa del movimento dell'associazione di più di zero oggi è stata una giornata che va in questa direzione io sono molto felice e a tutti a cominciare da Rossano auguri di buon lavoro grazie ci sono altri interventi Fabrizio Fabrizio e ma che hai il cognome di noi ma non so Fabrizio 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 ma 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 come di sì di temi che come dire aprirebbero un ragionamento anziché più dell'altro tuttavia io ne vorrei riprendere tre più un quarto allora il primo è che diciamo noi dovremmo avere più consapevolezza della nostra forza noi possiamo ovviamente come dire valutarci troppo bene tuttavia io credo che su questa cosa che ovviamente viene chiamata partecipazione questo sia un elemento da aprire in modo insomma un po' da approfondirlo mentre andiamo avanti nelle nostre battaglie e anche nelle nostre propuse a me pare che non si tratti solo ed è benvenuto ovviamente di un confronto tra le amministrazioni comunali intesi come il comune e le comunità questo ovviamente va benissimo anche per l'origine quasi identica del nome di comuni una volta era appunto le comunità nella storia in particolare la storia italiana e toscana tuttavia le comunità cioè gli abitanti anche nel diritto vigente non vorrei dare la suscettibilità dell'avvocato Gambolini però diciamo sia nel diritto vigente sia nell'intendere che il diritto è molto creativo il diritto è una cosa viva quindi è una cosa che lo sappiamo sempre no? abbiamo sempre le leggi 500 anni fa è una cosa che si crea e quindi io penso che nel diritto vigente gli abitanti abbiano una potenza superiore prima di tutto perché la stessa proprio notando velocissimamente la stessa costituzione repubblicana che comunque è un patto cogente e da specialmente in alcuni articoli da una potenza notevole agli abitanti io credo io credo che noi dovremmo come dire rimbracciare dovremmo fare una osita no? perché l'articolo 3 per esempio richiama alla partecipazione con la finalità del della persona umana poi l'articolo 42 il 41 e 42 come dire definiscono come dire la unità di centro e anche assegnano alla proprietà privata e all'impresa privata una finalità sociale questo forse non ci potremmo reinterluirlo come dito in più c'è l'articolo 43 che richiama esplicitamente la possibilità diciamo di in qualche modo da parte degli abitanti dei lavoratori dei consumatori stessi di poter gestire alcune fasi di alcuni processi produttivi economici in particolare che è legata all'energia e a beni diciamo ancora non c'era il concetto di beni comuni ma è stata scritta ma insomma a beni fondamentali per la comunità e poi era il quarto comma la memoria dell'articolo 118 che proprio dà no quella dà proprio una valenza e un potere agli abitanti io credo che questo non bisogna bisogna come dire santo proprio d'altra parte ci sono anche delle leggi anche nella legge della Toscana io sono il tipico non c'era qualche tempo sono piuttosto critico in generale anche verso le istituzioni purtuttavia faccio mia un'espressione cara a Rossano e Polini cioè ne abriamo un barco e quindi bisogna utilizzare una pronostra allora recentemente mi pare che una sentenza della consulta come dire rispetto alla legge diciamo sul terzo settore mi pare l'articolo 35 abbia come direte il posto alle amministrazioni locali a tener conto diciamo della possibilità degli abitanti di operare anche in forme economiche e poi ci sono delle leggi diciamo in mezzo a quella sui beni civici che parla di autonormazione delle comunità di si parla delle comunità di un tempo però in realtà diciamo i beni comuni sono legati a una comunità che non c'è come l'Italia e poi la regione toscana ha una legge sulla partecipazione che non è un gran che e che però ora viene in corso la sua diciamo previsione potremmo anche dire la nostra ma rispetto al piano sui rifiuti o sull'economia circolare alla pianificazione generale è piuttosto precisa cioè immagina che i piatti vengono costruiti non aprendo banchi diciamo alle imprese che in qualche modo si sostituiscano alla mano pubblica viceversa come dire il portino le associazioni per gli abitanti a non solo a dire da loro ma a costruire il piano io credo che questi elementi anche rispetto all'incontro con le istituzioni regionali città monopositane gli stessi comuni guarda la sottolineare che ci aiutano appunto in modo molto in modo molto pragmatico quindi non mi accontenterei almeno come previsione di come dire di avere solo un rapporto di confronto io esicerei e credo che noi abbiamo tutte le carte in regola queste lotte passate tutte le proposte per lo che a me ti ha di chiamare conflitti virtuali io come il nostro non sono d'accordo ad abbandonare il conflitto però lo declino come un conflitto non che ci tiriamo i sassi o quant'altro ma come un momento di confronto tra interessi diversi confronto qualche volta anche aspro è importante che sia progettuale cioè che abbia come obiettivo una qualche soluzione quindi questo è un elemento che a mio avviso i movimenti hanno come obbligo come una volta la novità obbligava diciamo che i conflitti le lote che abbiamo fatto in questi anni ci obbligano a stare su questo piano e ad approfondirlo la seconda questione è vero che i rifiuti speciali diciamo meglio le norme regionali del piano si interessano in modo presente dei rifiuti domestici e assimilati perché l'assimilazione non è che non c'è più diciamo che non c'è più il singolo comune lo sindaco che ammetteva da un elenco i rifiuti assimilavano quelli che nel suo territorio erano assimilati però diciamo che assimilati c'è una parte dei rifiuti speciali ci sono ecco quindi noi non si deve assegnare ad alcuni strumenti un compito che non hanno però non ci possiamo noi tirare fuori dal tema io credo che debba essere il momento la stagione del termine di giù di zero nelle sue anche varie articolazioni le differenze se non si oppongono credo che sia un arricchimento io penso che dovremmo creare proprio almeno uno o due luci di lavoro sui rifiuti speciali anche perché noi non possiamo parlare di altro penso a una norma scusate la voce per esempio la norma del super bonus cioè della coibitazione degli edifici probabilmente ha immesso nel mondo una serie di materiali che avranno molta difficoltà nel settore edilizio parla di essere immagini e anche questi rifiuti i dati diciamo di qualche discarica e insomma poi noi secondo me come cittadini come abitanti non ce ne possiamo diciamo non far carico questa era la seconda cosa quindi io mi proponerei questa cosa quindi l'altra questione è invece la questione del del lato centro io credo che debba essere questa responsabilità anche dei comitati no? perché noi siamo stati piuttosto fermi o piuttosto silenziosi o piuttosto nell'ombra su questo tema questo come dire siccome abbiamo una responsabilità va detto a chiare lecce io credo che debba essere fatta anche un'iniziativa anche diciamo emblematica che ne so denunciare il sindaco della città metropolitana che poi è lo stesso il sindaco di Firenze della sua inadempienza diciamo su questo su questo aspetto credo che bisogna trovare un modo di lavorare insieme Gesù Cristo sulla prima questione anche a me sta molto a cuore perché io vedo se noi decliniamo male o non in modo fertile il rapporto tra come dire gli abitanti che devono contare tornare a contare che devono decidere che devono avere potere una parola che non gli piace insomma una potenza se lo decliniamo in modo riduttivo la partecipazione credo che faremo un entro sempre agli occhi quindi io però chiederei almeno al lato centro ma di fare un gruppo regionale sui gruppi speciali e di fare un'iniziativa anche emblematica avversa ai comuni inattententi su dei raccorti differenziati come restammo è stato già detto molte volte stamani con le raccolte differenziate ma anche sono di mezzo per l'utilizzo e il riciclaggio la madre di tutte le azioni è la riduzione dei rifiuti e qui ti vuol dire un'altra economia però di questo ci vorrebbe più tempo io vi ho già rubato ve ne ho già rubato troppo grazie grazie faccio parte di medicina che è l'associazione che si è sempre battuta a fianco di nomi tanti anche correndo il supporto tecnico che poi è stato necessario per fare le iniziative anche legate di diverse situazioni cos'è in quanto è il ruolo nostro il ruolo nostro è quello di richiamare una serie di principi che si fanno alla storia del bancacario sulla competenza delle persone non le eserci ma la competenza diretta che le persone si ingrandizzano sulla gestione della propria salute la gestione del proprio ambiente e quindi il problema dei rifiuti è un problema ciclare in questo senso perché su come si gestiscono i rifiuti ricade la situazione della sanità ambientale che è uno dei determinati fondamentali di salute per cui il problema è riprendere anche all'interno di un ruolo del resto è stato stamattina affiancato il discorso dei rifiuti alla gestione dei distretti biologici che sono un altro elemento di di ricerca di un equilibrio di una salute ambientale che è alla base della salute personale e della salute produttiva delle comunità in più c'è un altro elemento in questo rapporto con le istituzioni i sindaci sono responsabili sanitarie e i propri comuni e quindi vedete che su questo terreno si coincidono confluiscono per cui l'aspetto della salute secondo me è un aspetto da non studiare mai come si affronta queste di problematiche e è un modo di tenere insieme la visione del territorio la visione dell'ambiente la visione del futuro in funzione del resto di questo detenimento diciamo le unigie su cui noi come diciamo dati assolutamente e le altre di dare il nostro contributo e le nostre conoscenze tanto di questo che si riesce a raggiungere grazie ci sono altri interventi la parte della scuola scuola e insomma abbiamo scritto dopo insomma eduardo che ha partecipato anche con media con il professore con la fine e con la scuola da domani e comunque non lo vedo sono già partecipato io comunque volevo appunto insomma poi magari invitare per il prossimo anno perché noi abbiamo fatto all'interno della scuola un progetto così chiamo a riunzo della loro vita appunto con il discorso che diceva non era proprio anche ecco c'era un progetto di attivo sicuramente però non è una pubblicità più quindi noi abbiamo avuto molto tutto all'interno della scuola di sensibilizzare questi ragazzi proprio all'inito mi piace molto il laboratorio e insomma io sono vecchia e quindi quando c'era praticamente il calzonallo c'era praticamente tutto si monta e si muta si monta e si muta si muta cosa s'anno fuori hanno un po' prezzo però io ho detto queste foto le hanno i fiuti ci ho fatto vedere sopra le montagne i fiuti ci sono le pareti del pane infatti della scena sono e poi ragazzi hanno fatto vari progetti alcuni magari li possono magari inviare il cibo il cibo lavorato martini insomma che anche il cibo del cibo abbiamo fatto un bel progetto ci riferiamo veramente e volevamo continuare anche il prossimo anno ci sono cose magari delle associazioni che possiamo contattare e sensibilizzare proprio ai giorni che hanno messo loro non mai la nostra porta insomma che davano non senza il problema perché poi ci hanno potuto fumare il tante di non so cosa comunque grazie 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 Serena in effetti la parte sulla scuola mancava ma non c'è dubbio che sia un tassello fondamentale sì visto che sono stato evocato più o meno impropriamente più volte da voi da un buco da un buco ora c'è una serie di cose che mi ha piacere di valire cominciando da come diceva Fabrizio Bertini a proposito di una normativa importante ancora secondo me molto sottovalutata che è la normativa sul terzo settore io ho occasione di occuparmi anche di quello lavorativo e si tratta di una di un giudizio senza esagerare di una devoluzione di sistema perché sono state messe diciamo c'era già una normativa antecedente risalente a molto tempo fa ma l'elemento di vita è che è nato un codice il codice del terzo settore che ha messo al sistema tutta una serie di norme sparse che mettono al centro l'attività volontaria dell'associazionismo in termini di rapporto strutturato con la comunità di amministrazione non per tutte le associazioni solo per quelle che sono iscritte nel registro comunico del terzo settore ma pur sempre diciamo la valorizzazione di un associazionismo che non ha finalità di lungo e che quindi in base ad una serie di criteri anche sotto certi aspetti piuttosto stringenti danno la possibilità di interlocuire in maniera come dicevo strutturata con la pubblica di amministrazione attraverso la partecipazione attiva alla programmazione in tutti i settori della pubblica di amministrazione tutti i settori della pubblica di amministrazione l'elemento privilegiato è quello degli enti territoriali ma nei quali ci sta anche la regione ci sta anche lo Stato come mettere in legame questo è tutto un altro discorso perché sostanzialmente la partecipazione dentro di questo tipo di organizzazioni è una partecipazione che parte dalla programmazione e può andare fino all'esecuzione di amministrazione non si tratta soltanto di associazioni diciamo dalle associazioni più piccole anche agli associazioni molto più strutturali non solo associazioni è stata disciplinata una normativa sulle imprese sociali che molto probabilmente sopravvanzeranno anche le cooperative quando arriverà a tutto di vista anche numerico e anche del volume economico che potrebbero attivare perché lo schema è diverso lo schema è superiore secondo me dal punto di vista positifizionale dell'operativo perché la cooperazione ha comunque una finalità di utilità soggettiva come intuibile le imprese sociali per esempio hanno non hanno finalità di lucro di carattere soggettivo nel senso che non si distribuiscono se non misurati molto limitata dell'utilità ma dove il il profitto che può derivare dall'attività economica delle imprese sociali che sono imprese che possono essere imprese a tutti gli effetti viene riversato in attività in delle loro attività che sono di valore civico solidaristico di utilità sociale quindi è uno schema che è assolutamente diverso da quello dell'economia di mercato nel senso classico del tempo e questo perché accade questo accade questo perché c'è una base costituzionale dentro questa cosa noi abbiamo tre articoli importanti che sono l'articolo 2 e l'ottibuzione e l'articolo 3 e l'ottibuzione potrebbe avere i violabili dell'uomo però che chiede la 20-20 di doveri di solidarietà sociale politica economica quindi abbiamo l'articolo 3 che ci dice che la repubblica nel suo insieme si deve impegnarsi a rimuovere gli ostacoli che non consentono l'uguaglianza dei cittadini e poi abbiamo il 118 che è quello della sussidiarietà come dicono che c'era di già il tema della sussidiarietà già nel d'articolo 2 e nel d'articolo e poi c'è anche quello ora questo è un aspetto importante perché è rimendicabile a determinate condizioni la possibilità di esigere di stare non perché me lo concedi tua amministrazione ma potrebbe essere anche una camera di commercio sotto aspetti diciamo che il tattio è vero che i presi sociali sono in camera di commercio non sono buoni dallo schema del registro posso pretendere cosa che prima non era necessariamente io potevo prevederlo negli statuti comunali la possibilità della partecipazione ma non era pur che io sia un'associazione che sia all'interno perché si vuole verificare che ci siamo i punti della situazione quindi questo è un danno secondo me da tenere sempre ben presente l'articolo 55 quello che faceva il riferimento tra questo faceva un'assistenza da forza istituzionale che dice sostanzialmente di questo che il circuito di carattere economico per cui io posso fare un affidamento come amministrazione pubblica ad un'associazione senza scopo di numero non mi richiede di dover attivare tutta quella quell'armamento che è il tipo degli appalti pubblici siamo in un circuito completamente diverso è dal 7342 dell'audizione della morte istituzionale che è veramente un cambio di sistema ecco quindi questo mi sembra opportuno rappresentarlo uno se lo segna diciamo per i prossimi passaggi ora vanno qua a svolgere l'altra questione che diceva Martini a proposito del fatto che è la area è una società pubblica al 100% anche se non fosse stata al 100% comunque ricade la normativa che consente l'accesso ai documenti da parte dei cittadini c'è il tema dell'accesso civico e tra l'altro dipende anche di essere desittimati alla cera perché o l'amministrazione in questo caso è il soggetto di sentire a parlare di controllo analogo come se ne parlava di anzi controllo analogo significa che io pubblica amministrazione ho subito le società pubbliche un controllo che è analogo a quello che io avrei rispetto agli uffici di cui io sono alberge cioè io amministratore anche se solo società di operazione non cambia assolutamente anzi il presupposto in quale la corte di giustizia del mondo europeo prevede la possibilità di fare società pubblica uno dei presupposti è che vi sia un controllo da parte dell'amministrazione analogo a quello che l'amministrazione avrebbe nel singolo ufficio sul termine di analogia su minaudi questo è fondamentale e questo è un'area non è in aula ma che ora questo periodo specifico però il dato è questo il dato è questo è il sentimento l'altra cosa la signora poneva una lezione importante su cui c'è una discussione più di bonta il tema di ecco la serie di tutto quindi una risposta è difficile poter guardare da questo punto di vista se io possa se io capito bene mettere a disposizione una cosa di cui un disco perché ci sono orientamenti più diversi mi verrebbe da dire siccome il concetto è di disfarsi una cosa se io mi fai conto che non ho fatto qualcosa del genere nel caso di qualcun'altra avremmo messo accanto ai cassoletti un contenitore che consentiva al cittadino di lasciare separatamente dalla non so se questa cosa va da davanti però quello è un esempio in cui la stessa amministrazione metteva a disposizione uno spazio perché ci potesse essere uno scambio al di là diciamo del fatto che certamente non è la stessa cosa ritirare della merce un progetto accanto a un cassonetto o ritirarla presso il senso del riuso per trattare del sottotitore l'ultima cosa che volevo dire e questa lo stanno visto stamattina quando hai fatto l'elenco diciamo un programma parlavi del tema della moratoria questo è un termine che a noi non ci avrà a compiere un nuovo è un tema che in momenti critici l'abbiamo tirato anche poi perché c'era bisogno anche secondo me di dire alle amministrazioni che cosa si poteva prospettare di diverso rispetto a ciò che stavano facendo io personalmente ho un'esperienza che abbiamo fatto in questi anni rispetto anche alla vicenda dell'Aleana ma insomma ho detto con voi in ben altri io ho la mia impressione che c'è quando si ha dei conflitti di questo tipo è che sia difficile poter interlocuire perché sottostante io mi sbaglio ma non sono disposto a riconoscere sempre e comunque una buona fede da parte di questo purtroppo tutto io ho una sensazione sgradevole per cui non so del futuro e poi secondo me alla luce di quello che è accaduto in questi anni di che cosa arriva dalla cultura europea e in questo caso è una cosa positiva io mi sembra un elemento di debolezza parlando di morato è un termine secondo me in cui si dà l'impressione di voler guadagnare l'euro invece io credo che ormai sia appunto molto chiaro dopo di che ci si può anche compromettere ma ci sono delle questioni di principio su che è estremamente difficile poter fare dei compromessi è estremamente difficile quindi io su questo non so replettiamoci un attimo perché ormai le repliche della storia possiamo chiamarle così ci hanno detto delle cose hanno detto delle cose quindi se volete all'amministrazione di Cucetto perché poi veramente dipende l'attività di un limite perché poi c'è il capofila poi qualcuno sa scusa ecco è legittimo questa richiesta no io non ho risposto neanche lui è un avvocato ma invece ci sono potenti diverse allora siccome sto provando di recuperare l'inventuto fresco perché lì c'è l'altro settore c'è una normativa speciale prego c'è una normativa speciale che dice prima di con la nostra red questo le varie supermercati le scuole la prima regione scuole a Evole c'è il resto del futuro solidario che recupera ma io non ho che non ho che recupera dalle vense non vi è piatto veramente ma dalla cuscina e la porta alle famiglie che è bisognose ma anche perché sono soli che può poter mangiare la sua intera ecco quindi ci sarebbe la possibilità di alleggerire percorsi androre perché veramente ci sono sicuramente c'è stato seguito allora ci abbiamo a concludere grazie ci abbiamo a concludere io prego sei arrivato adesso non ti avevo visto eh grazie grazie no no sì io sono l'architetto pizziolo che si lavora sulla piana e sui rifiuti e tantissime da tantissimo tempo insieme con belpini e con altri tantissimi io io volevo fare un'intervento tangente diciamo nel senso che tutto il ciclo della strategia che vede di zero ha una ricaduta per ieri che secondo me è molto importante pensarci sola perché evidentemente come dire su territorio ci sono tante azioni in alto io faccio un esempio di quello sul quale si sta lavorando ora e che è il discorso della piana a questo congresso visto c'è il sindaco di Sesto il sindaco di Calentano il sindaco di Carminiano evidentemente avere già tre sindaco che impostano il ragionamento in questa maniera e contemporaneamente avendo e aperto il discorso di che cosa fare di questo famoso parco della piana che un po' come l'araba finisce e un po' ci si sta lavorando allora siccome nel frattempo anche il discorso che faceva prima Tamburini sulle modalità nuove di organizzazione della così della partecipazione di questo tipo di attività in occasione del del dibattito pubblico organizzata dall'aeroporto un gruppo di associazioni non ha partecipato volontariamente e ha organizzato il dibattito pubblico di comunità è stato chiamato così che per molti aspetti riprende i temi così di organizzazione che sono e dentro a questo dibattito pubblico c'è un gruppo che è l'alterpiana che si è dedicato a dire proviamo a immaginare una soluzione diversa per questa situazione e ne è emersa poi due cose interessanti più uno che poi molti di voi di quelli che ci abitano lo sanno che la piana non è quel territorio gatto dove il comune di Firenze è abituato a sbattere le cose che non vuole ma è un posto ricchissimo di tante potenzialità e di tante realtà per cui noi si sta lavorando ricordatevi ora la spara così il titolo alla specie di parco dei parchi cioè c'è tantissime strutture di grande valore da tavola per dire e tutto quello che stanno facendo che possono già ciascuna da sé essere una struttura significativa ma che poi messe tutte insieme è legata ad alcuni temi fondamentali quali l'acqua quali il riciclo dei rifiuti uguale le modalità di lettura percezione vita il discorso dell'archeologia possono esserci delle strutture che fanno vivere questo territorio in una maniera completamente nuova allora a questo punto non solo ma c'è anche un'altra possibilità ciascuno secondo noi ciascuno di questi architiparchi è anche un ecosistema ciascuno dentro un grande ecosistema e qui c'è il discorso della riconversione ecologica che si dovrebbe fare cioè o cominciamo a farla realmente sui territori o se no rimane un argomento soltanto per una trasformazione verde della posizione di energia ma non è quello il cuore della questione io sono io ogni tanto dico la nostra diciamo bisogna ritrovare diciamo così le nostre amazzonie anche in Italia ebbene la piana potrebbe essere una delle nostre amazzoni dove si fa il riciclo dove il riciclo diventa strutturale per organizzare queste situazioni e allora anche ognuna di queste unità multiple che ci sono nella piana potrebbe vivere una di queste vite organizzate come diceva Tamburini cioè ognuno di queste potrebbe diventare come dire un'appropriazione sociale della popolazione e allora questa piana a questo punto comincia a essere qualcosa di diverso da quello che ci stanno raccontando a maggior ragione è evidente che non posso portare un aeroporto questo mi sembra lo faccio elementi perché ha tutte queste possibilità noi dobbiamo dire a noi la piana ci serve per vivere per sopravvivere per vivere per vivere la visione nuova delle maniere che abbiamo di vivere di biciclare e così via era un intervento un po' tangente ma insomma forse credo che sia importante per stabilire di volontà se qualcuno vuole intervenire o altrimenti ci abbiamo a tirare delle conclusioni ma diciamo in realtà per riaprire cercare delle prime sintesi ma io cerco in cinque minuti spero anche di meno non tanto di tirare delle conclusioni ma fare delle riflessioni alta voce partendo però dalla risposta alla domanda del capito consigliere si la questione della nozione di rifiuto fa impazzire gli avvocati è una questione per cento aspetti di lana caprina però siccome tu io do del tuo a tutti e preferisco il tu la questione diciamo dei beni che sopravvivono come beni nel momento in cui un bene barca la soglia della trazione ecologica non è più un bene ma è un rifiuto e quindi c'è questa differenza normativa che va a incidere addirittura anche sulla potenzialità economica allora ci sono due livelli tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che su change.org Zero West Italy ha lanciato una petizione perché vengano approvati i decreti attuativi dell'utilizzo la preparazione per il riutilizzo all'interno delle isole ecologiche ora tra l'altro siamo l'avevamo lanciata con il governo Draghi e anche più sicuri non per Draghi ma perché avevamo costruito diciamo una catena di relazioni di poterla effettivamente poi assumere come base di discussione in chiave anche istituzionale parlamentare è ovvio che è cambiato tutto quanto quindi il terremoto l'assistamento ci ha messo un po' difficoltà perché poi devi trovare gli interlocutori e così via siamo tra l'altro io avevo detto arriviamo a 30.000 firme sono circa 29.000 quindi se andate sul computer ecco bravissima grazie ecco e quindi riprendiamola perché con il nostro referente nazionale per il censimento dei dei centri di riuso tra l'altro Laura poi dopo questo se forrà fa parte di un progetto europeo proprio centrato su riuso abbiamo detto arriviamo a 30.000 e la consegniamo in Parlamento cercando di costruire quelle relazioni ecco l'obiettivo era quello di definire avrebbero dovuto farlo entro nove mesi dal 2006 dal 2008 per la verità non l'hanno ancora fatto mentre in una notte se c'è da far passare il PET si chiama così i discarti della industria petrolifera decidono che non sono più rifiuti quindi non c'è mai stata la volontà politica né la proposta si si avanza anche una proposta di buon senso che è quella sul modello svedese che ha approvato nel 2019 ci da memoria potrebbe essere il 2018 il gennaio 2019 una legge che dice momento in cui io certifico che ho riparato la mia lavatrice ho riparato le mie scarpe dal calzolaio dal paligname il mobile lo certifico con la fattura con la ricevuta io ho uno sgravio dal 12 al 24 per cento quindi si trattava la proposta di buon senso copiate quello che ha fatto la svezia queste sono vantaglie su cui noi dobbiamo tornare perché sono di buon senso tutti sono d'accordo con noi però se non le sosteniamo noi scompaiono perché la politica quella che va in televisione purtroppo va sempre a seguire altri 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 farfalle altri problemi di distrazione di massa però ecco dal punto di vista operativo nel 2021 quando l'Europa l'Italia ha approvato la direttiva sul pacchetto dell'economia circolare ha introdotto un primo passo all'interno delle isole ecologiche che è possibile confinare un'area adesso cito a memoria cito a memoria di questo ma non so la superficie fino a quanto mi sembra fino a 500 metri quadrati ma potrei fagliarmi dove senza fini di lucro vengono raggruppati beni durevoli che possono avere che sono stati selezionati dal personale dell'azienda e che possono gratuitamente essere messi a disposizione della cittadinanza non possono essere venduti ora chiaramente i certi riparazioni e riuso sono come a Capanno che sono diventati 5 stanno per diventare 6 hanno dato 28 posti di lavoro 28 posti di lavoro non abbiamo tutto il tempo di parlare delle opportunità che derivano ma avete sentito anche per accenni però quanto sia importante declinare socialmente i risultati ecologici della strategia di più di zero ecco quindi al momento c'è solo questa potenzialità cioè che la stazione ecologica di Alia piuttosto che di Ascit della piana di Lucca abbia provveduto al confinamento e alla selezione di beni durevoli da mettere a disposizione comunque rimaniamo in contatto e quindi ci assistiamo reciprocamente perché è fondamentale è banale quello che io dico ma se noi non ci connettiamo e non rigeneriamo continuamente le connessioni rimaniamo soli e ci accerchiamo quando ci mettiamo insieme vedete l'energia le conoscenze grazie bellissimo questi sono interventi non dico il mio ma ci sono stati interventi di altissimo livello dal punto di vista normativo dal punto di vista urbanistico paesaggistico cioè dal punto di vista poi di quella che è chiamata la materia gestione dei rifiuti ma in realtà quando si è rifiuti in zero non parla di rifiuti ma parla di educazione parla di uomini parla di dignità parla di educazione e così via che dire ora i prossimi appuntamenti sono il 26 le forme cambiano quindi non ci stiamo andiamo al concreto in quel caso il tavolo è stato promosso per quel motivo per essere trasparenti perché se no uno potrebbe dire ma voi vi siete scritti a un partito no non è così a me non mi fa assolutamente schifo dopodiché però è giusto anche ricordare la dinamica che ha portato alla costituzione di questo tavolo per il cui il ponte l'ha fatto Alberto e che ringrazio anche pubblicamente per questo lavoro di raccordo di connessione che diceva un valore aggiunto preponderante quindi il 26 andiamo in regione la mattina e il pomeriggio ora troveremo anche il modo magari tu Alberto presenta che se uno ha una terza del 5 stelle anche il pomeriggio siccome ci saranno tavoli su rifiuti speciali come richiamava anche Fabrizio quindi che sia il più aperto possibile anche se in una modalità più da workshop che da conferenza no la mattina naturalmente ha un valore prevalentemente politico un po' nel segno dei sindaci in particolar modo dell'aggressività civica e istituzionale di Giorgio del Gingaro ci devono rispondere non è detto che si sia d'accordo su tutto però ci dovete rispondere che loro usano la tattica comunicativa è una tattica è una tattica non esiste della disconferma no cancrini la pragmatica e la comunicazione umana sanno benissimo che questa è una tecnica comunicativa cioè tu esisti solo perché e si crea il dissidio il dissidio è quando non si può tradurre da un vocabolario all'altro e l'altro perché non ha il tuo vocabolario non ha ragioni da difendere semplicemente non esistono le sue noi siamo una situazione di dissidio è chiaro io non sono un geno io li conosci non sarò Solone e non sarò Machiavelli ma non sono la tua ora però noi la regione continuiamo a dire c'è quella santona ora qualcuno diceva il santone Ercolino qualcuno mi ha detto io santino se mai sarei un santino un santino ecco però al di là mi colpiva perché c'è una diciamo la periodo più orientale io non sono neanche di quelli che poi non ho partito le mode però chiaramente rifletto è che abbraccio tutti io abbraccio tutti me lo devi dimostrare tu che sei mio nemico io ti metto a disposizione se Gianni viene qui io glielo ho chiesto io sono ambasciatore del tartufo di San Mignano tartufo bianco ci incontrammo anche lui ambasciatore ci incontrammo a pranzo e gli dissi Gianni bisogna vedere c'è ragione bisogna vedere io abbraccio anche Gianni chiaramente per dire io non sono se tu ti metti a capo di una Toscana che va verso le buone pratiche io non ho pregiudizi da questo punto di vista ecco perché dico è chiaro è legittimo è fisiologico che tu possa non essere d'accordo commesso tutto è normale è normale anche noi anche tra noi magari Rossato è un po' troppo appassionato Edoardo troppo compassato ognuno ha il suo stile dopodiché però se vogliamo andare avanti vediamo quello che ci unisce io ho detto è l'ottanta per cento non stiamo a sottilizzare se la Monni vuole il settantacinque per cento nella proposta no? di nuovo piano nel perché nella proposta l'economia circolare che è associata al nuovo piano regionale si prevede al massimo massimo l'obiettivo del settantacinque io stamattina ho spiegato che c'è una marea di comuni oltre l'ottanta che si devono fermare la provincia di Lucca è al settantasette per cento che deve tornare indietro quindi perlomeno diamo anche a loro una motivazione a dare ulteriormente quello che possono in più no? ecco però non è questo che ci dirà se l'ottanta per cento o settantacinque per cento ci vede insieme rimane il venticinque su quello che ci divide mettiamo un attimo di sospensione non lo mettiamo in pausa ecco perché lo chiamiamo la moratoria nel senso che se tu non sei d'accordo per forza con gli impianti a freddo e tu sei prevalentemente con gli impianti a caldo confrontiamoci vediamo i pro e vediamo quelle che non le cose che possono non funzionare mi sembra che sia di buon senso è un modo sempre a partire dalla legittima e auspicabile passione civica però di andare incontro alle posizioni di chi non la pensa come te mi sembra che sia facilitratrice di un percorso che si merita la Toscana non questo o quel partito non o quel presidente se lo merita la Toscana e soprattutto se lo merita le comunità toscane anche quando venissero dal Nordafrica o dall'Africa sub-sahariana che diventano parte del nostro delle nostre comunità ecco quindi in questo non tanto per difendere una tesi che comunque però io la ritroporrò nel tavolo nella mattina più politica del 26 voglio vedere se davanti al ramoscello di Olivo ci si spunta sopra e si dicono che sono fregnaci perché se questo è il linguaggio ognuno se ne deve prendere istituzionalmente la responsabilità è inaccettabile che chi gestisce le istituzioni ignori banalizzi offenda il lavoro a fine prova contraria a disinteressato perché io potrò sbagliare su tantissimi aspetti ma che non ho un secondo fine e non ho scheletri nell'armadio su questo non ci piove quindi ecco lo spirito è quello di favorire la comunicazione perché la comunicazione non deve mai mai rinchiudersi su se stessa l'ultima parte l'ultimissimo spunto accolgo l'idea naturalmente ringrazio tutti i sindaci rappresentanti dei sindaci un amico di mi dimentico il nome perché guarda sono di una certa età ormai però rezzo sì scusami rezzo allora giustamente lui ha detto vediamo di favorire quei comuni che specialmente in certe aree sono accerchiati ci sono ma sono accerchiati i comuni di più di zero o magari non necessariamente solo di più di zero ma sono comuni che hanno buone pratiche che ancora non hanno approvato la delibera spingiamoli a farlo ma non è che noi o ha il bollino o se non non siete nostri no settarismo mai attenzione ai tuoi principi tra valori sempre settarismo mai chiusure mai questo è un dato importantissimo di nuovo nella comunicazione ecco se ce la facciamo visto che uno degli appuntamenti successivi al 26 sarà una riunione dato costa lanceremo sulla costa dove siamo più forti dove c'è un numero maggiore e dove io pavento che su Peccioli ci sarà la madre di tutte le battaglie in Toscana sul vetrificatore proveranno a passare sul vetrificatore senza rinunciare al resto ma le truppe le portano lì è stata una prova spettacolare e teatrale quella che hanno fatto con i giornalisti quindi a Biareggio faremo una giornata che sarà l'occasione di lanciare l'idea di coordinamenti di aria naturalmente siccome anche sull'area centro ci sono almeno una decina di comuni di Puglizero magari se ci dà una mano Edoardo e però dando una mano anche voi noi ci siamo a supportarvi vediamo se si possono fare anche momenti informali informali non necessariamente pubblici di coordinamento per sinergizzare al massimo le nostre le nostre proposte io sono contento non sono una persona che si contenta di poco mi sembra che la giornata sia stata ricchissima di partecipazione di livelli di capacità di andare a sviscerare naturalmente i tempi sono chiaramente anche poco propensi a andare fino in fondo ma noi maneggiamo la materia lo stiamo dimostrando attraverso i successi che raggiungiamo bisogna far sempre meglio sempre di più però non si può dire noi questa risorsa la mettiamo a disposizione è una risorsa che deriva da un'alleanza io lo sottolineavo comunità e comuni è un'alleanza nuova non sono i movimenti soli che strepitano non sono solo i comuni che sono come una ruota che girano a vuoto siamo un'alleanza comuni e comunità quando alcuni anni fa Paul Conner ci diceva bello questo incontro perché non si sa chi è il sindaco e chi è l'attivista sono seduti un accanto all'altro e c'è un rapporto orizzontale questo guardate è una novità genetica dei movimenti italiani dove le istituzioni sono parte rilevante dei movimenti e viceversa il meglio che c'è nei movimenti o comunque parti sane dei movimenti e parte sane delle istituzioni secondo me noi siamo destinati a vincere però ecco questo diciamocelo teniamolo come come si dice ottimismo della volontà mi sembra ecco quello che ci circonda purtroppo non è propenso a queste performance a queste disponibilità a questa apertura a queste risorse che noi siamo in grado di mettere a disposizione sicuramente di nuovo Giorgio coglieva il momento la Toscana forse di era Luca Menzini la Toscana a partire dalla Lucchesia a partire da Capannor ma ormai vedo che ci sono esperienze dovunque radicate in Toscana soprattutto nel centro nord ma anche Arezzo cominciano Siena su Grosseto abbiamo cominciato ad avere rapporti importanti questa è la culla di rifiuti zero anche noi come diceva Fabrizio rendiamo consapevole che siamo forti lo so che ognuno di noi torna a casa e dipende dal territorio ritorna solo e quindi semmai io sono solo quando siamo in tanti ci cadiamo quando partecipiamo ma noi dobbiamo la nostra comunità è questa il momento provvisorio quando agisci da solo con piccoli gruppi ma sai che non sei solo quindi secondo me ragazzi la sfida è potente forse noi non siamo pagati loro sono pagati e questo non è di per sé un crimine però lavorano al tempo pieno per fare delle cose in genere sbagliate noi lavoriamo a tempo parziale perché abbiamo la famiglia perché abbiamo le grane della vita però abbiamo vantaggi siamo disinteressati a dare io nella mia storia mi dicevano fossi fossi che incontreremo i dodici i dodici che il segretario regionale è diventato senatore del PD quando c'era il tavolo di Campi Bisenzo dopo il referendum si ma l'ercolino è un maestrino come dire noi abbiamo sentito gli ingegneri del Politecnico e però di strada ne abbiamo fatta tanta non solo a casa Passerini loro non hanno fatto strada però hanno fatto schifo quindi ora speriamo che fossi sia riemerso e mi auguro che magari cominci a fare la sponda dopodiché noi andiamo avanti qualsiasi saranno le risposte ci auguriamo che siano buone risposte ma Matt Magand dice contare sulle proprie forze dobbiamo contare sulle proprie forze io credo che giornate come queste siano pietre e miliari ognuno di noi torna a casa sapendo di aver fatto qualcosa che rimarrà nella nostra storia toscana non ho paura di scomodare parole impegnative grazie io penso non ci sia migliore conclusione di quella che Rossano ha fatto mi piace solo stigmatizzare sottolineare una parte un aspetto che più che conclusione dovrà essere la spinta che ci porterà avanti nei prossimi giorni nei prossimi mesi che è l'idea di un'alleanza fra comuni e comunità ecco quello credo sia veramente debba essere il motore e il metodo che ci guiderà nei mesi a venire io non aggiungo altro credo che sia già stato detto veramente tantissimi concetti anzi bisognerà come dice Don Santoro cercare di nei giorni a venire rielaborare i tanti concetti che sono emersi qui farne tesoro e portarli avanti nelle tante battaglie che ci aspetta perché ecco io credo che la Toscana può essere la pulla sì di un passato in un termine rinascimento a rifiuti in serio ma può essere anche di eh lo so no ora avessi detto rinascimento saudista sarebbe stato un disastro no ora non mi dite che i termini rinascimento diventano un termine renziano perché voglio dire rinascimento è come il Dante di destra no quel che sa veramente ecco però ecco c'è anche il rischio concreto invece ci sono delle scelte fatte sull'onda dell'emergenza del terrorismo mediatico che invece ci riportano indietro insomma su questo bisogna essere concreti però l'esempio di Empoli vedo invece un esempio importante mi sarebbe potuto come si dice mettere il fiocca al maiale cercare di no è vero io mi ricordo leggevo il distretto circolare il distretto verde ma che fanno in cui c'è una cosa bella vado a vedere ma il distretto verde ma questo no ma veramente cioè il tentativo per uno che non è addetto che non approfondisce ma è una propria Empoli fanno un distretto circolare verde informo alle persone e poi invece c'era una roba bestiale consuosa però ecco la società ha saputo reagire questo è l'aspetto importante se oltre alla società si unisce l'altro tassello dei sindaci dei comuni siamo pochi però sempre di più sempre qualche tassello in più e con tanti numeri che ci stanno dando ragione in questa direzione quindi insomma lavoriamo assieme comuni e comunità e andiamo avanti per questa battaglia grazie grazie un applauso grazie a tutti Laura Laura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma carrying out ma se una ibenza ringrazio più un'altra una è una Grazie. 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 Grazie.